Esther e Jerry Hicks. La legge dell'attrazione. Dello of Attraction. Traduzione di Dario Leccacorbi. Premessa di Neale Donald Walsh. Eccovi qua. Siete arrivati. Non dovete andare oltre. Mettete giù tutti gli altri libri. Disdite l'iscrizione a tutti i laboratori e seminari cui siete iscritti e dite alla vostra guida spirituale che non avrete più bisogno di lei perché qui avete tutto ciò che c'è bisogno di sapere sulla vita e su come farla funzionare. Tutte le regole per percorrere questa strada e intraprendere questo viaggio straordinario. Tutti gli strumenti che vi servono per creare le esperienze che avete sempre voluto. Non dovrete andare oltre il punto in cui vi trovate proprio adesso. Guardate invece ciò che avete appena fatto. Guardatelo. Intendo dire guardate ciò che state tenendo in mano in questo istante. L'avete fatto. Avete messo questo libro proprio qui davanti ai vostri occhi. Lo avete creato. È lampante. Questo fatto da solo basta a provare che questo libro funziona. Capite? No, non saltate questa parte. È importante che capiate davvero ciò che vi sto dicendo. Vi sto dicendo che state tenendo in mano la migliore prova che potrete mai avere del fatto che la legge dell'attrazione è vera, funziona e produce risultati fisici nel mondo reale. Lasciate che mi spieghi. Da qualche parte, nei profondi recessi della vostra conoscenza, in un qualche posto importante della vostra mente. Voi avete desiderato ricevere questo messaggio, altrimenti questo libro non sarebbe mai riuscito ad arrivare a voi. Non stiamo parlando di una cosa di poco conto. Anzi, è molto importante. Credetemi, è davvero molto importante. Perché state per creare esattamente quello che avevate intenzione di creare. Un grande cambiamento nella vostra vita. È questo che volevate fare, non è vero? Certo che sì. Ciò che sta accadendo mentre leggete queste parole non sarebbe mai successo se un profondo desiderio di elevare la vostra esperienza quotidiana a un nuovo livello non avesse attratto la vostra attenzione. È da molto tempo che volevate farlo. Il vostro solo problema era, come? Quali sono le regole? Quali gli strumenti? Beh, sono qui. Li avete chiesti, vi sono stati dati. E questa è peraltro la vera prima regola. Quanto chiedete, vi sarà dato. Ma c'è anche dell'altro, molto altro. È l'argomento di questo libro. Qui vi saranno date non solo alcune regole straordinarie, ma anche le istruzioni per usarle. Non avete mai desiderato che la vita avesse un libretto di istruzioni? È bel desiderio. Ora è divenuto realtà. Per questo dobbiamo ringraziare Esther e Jerry X. E Abraham, naturalmente. Del quale vi verrà spiegato tutto nell'affascinante e entusiasmante testo che segue. Esther e Jerry stanno dedicando la loro vita alla gioia di condividere il meraviglioso messaggio che Abraham ha trasmesso loro. Per questo li ammiro e amo molto, e sono loro immensamente grato, perché sono persone davvero straordinarie, dedicate alla missione di glorificare ciò cui tutti siamo destinati. Vivere e assaporare lo splendore della vita stessa e del chi siamo veramente. So che rimarrete molto impressionati e benedetti da quello che troverete in questo libro. So che la lettura di questo volume costituirà una svolta nella vostra vita. Qui non solo è contenuta la descrizione della più importante legge dell'universo. La sola che davvero avreste sempre dovuto conoscere, ma una spiegazione, facile da comprendere. Dei meccanismi della vita. Si tratta di una conoscenza da mozzare il fiato. Sono informazioni di enorme portata. È un'intuizione splendente e sbalorditiva. Esistono ben pochi libri di cui direi quanto sto per dirvi. Leggetene ogni parola e fate tutto ciò che vi dice. Questo libro risponde a tutte le domande che fervevano nel vostro cuore. Quindi, se mi è permesso essere diretto, fate attenzione. Questo libro riguarda il come si fa attenzione, e se farete attenzione a come si fa attenzione. Ogni vostro desiderio potrà manifestarsi nella realtà, e questo cambierà la vostra vita per sempre. Neale Donald Walsh, autore dei best-seller Conversazioni con Dio e Accanto a Dio. Prefazione di Jerry X. La filosofia spirituale innovativa che Stat per scoprire in questo libro è stata rivelata a Esther e a me per là. Prima volta nel 1986, in risposta a una lunga lista di domande da me poste e rimaste in evase per molti, molti anni. In queste pagine troverete gli elementi basilari degli insegnamenti di Abraham, simbolo di marchio registrato. Come ci sono stati amorevolmente rivelati nei primissimi giorni della nostra interazione con loro. Vi prego di notare che, dal momento che il nome singolare Abraham indica un gruppo di entità benevole, Vi facciamo riferimento al plurale. Le registrazioni da cui in seguito è nato questo libro vennero pubblicate formalmente per la prima volta nel 1988, come parte di una collana di 10 cassette. Ma, da allora, molti aspetti dei precetti basilari concernenti l'universale legge dell'attrazione sono stati pubblicati sotto varia forma. Libri, CD, DVD, carte, calendari, articoli, trasmissioni radio e televisive, laboratori. Così come da molti altri autori di bestseller che hanno inglobato gli insegnamenti di Abraham nei loro. Tuttavia, prima di questo libro, la legge dell'attrazione. Questi insegnamenti originali non erano mai stati pubblicati integralmente in un singolo volume. Se vi interessasse ascoltare una delle registrazioni originali della serie, potrete scaricarne gratuitamente dal nostro sito www.abramx.com, uno stralcio di 70 minuti. Questo libro è stato creato trascrivendo il nostro Abraham Basics Starter Set di 5 CD e poi chiedendo ad Abraham di rielaborare leggermente il testo per migliorarne la leggibilità rispetto alla parola parlata. Per amor di chiarezza e coerenza, Abraham ha anche aggiunto numerosi nuovi passaggi. Milioni di lettori, ascoltatori e spettatori hanno goduto dell'utilità di questi insegnamenti. Perciò, Esther e io siamo entusiasti di offrirvi, in questa versione della legge dell'attrazione, gli originali insegnamenti basilari di Abraham. Ma che relazione c'è tra questo libro e Ask and It Is Given di Abraham? Beh, considerate che la legge dell'attrazione è il testo fondamentale da cui sono discesi tutti gli altri insegnamenti. Mentre Ask and It Is Given è il testo più completo riguardo agli insegnamenti di Abraham che sia stato scritto negli Ultimi vent'anni Rivisitare questo materiale che ha cambiato la nostra vita Per preparare la pubblicazione di un nuovo libro è stato per Esther e me un'esperienza magnifica Perché ci ha ricordato le leggi, fondamentali e semplici, che Abraham ci ha spiegato molti anni fa Da quando abbiamo ricevuto questo materiale Esther e io abbiamo fatto del nostro meglio per applicare alle nostre vite quanto abbiamo appreso sulle leggi E i meravigliosi progressi fatti dalle nostre gioiose esistenze sono sbalorditivi Abbiamo preso Abraham alla lettera Perché ogni cosa che ci aveva detto ci pareva molto sensata Ma l'applicazione di questi insegnamenti è stata poi provata nella nostra esperienza quotidiana Ed è con straordinaria gioia che possiamo dirvi, per esperienza personale, che funziona Nota del curatore Vi preghiamo di notare che Dal momento che non ci sono sempre parole fisiche che esprimano perfettamente i pensieri non fisici ricevuti da Esther Quest'ultima a volte formula nuove combinazioni di parole, oppure usa parole comuni in modo nuovo Per esempio scrivendole in corsivo e con l'iniziale maiuscola In modo da esprimere modi nuovi di guardare alla vita Parte prima il nostro cammino verso Abraham Introduzione di Jerry X Abbiamo scritto questo libro per introdurvi alle leggi universali e ai procedimenti pratici che vi guideranno Con chiarezza e precisione nella realizzazione del vostro naturale stato di benessere La lettura di questo libro vi offrirà l'occasione unica e straordinaria di leggere le risposte precise e potenti Ricevute alle domande che ho accumulato lungo una vita trascorsa ponendomi questioni E utilizzare con successo questa filosofia di spiritualità pratica, basata sulla gioia Vi aiuterà anche a guidare altri a vivere la vita che loro considerano perfetta, qualunque essa sia Molti mi hanno detto che le mie domande rispecchiavano per parecchi versi le loro Per questo, quando avrete conosciuto la chiarezza e l'intelligenza delle risposte di Abraham Non solo comincerete probabilmente a provare la profonda soddisfazione di chi trova risposte alle proprie domande Ma, come noi, Esther e io, scoprirete un rinnovato entusiasmo per la vostra esistenza E quando, grazie alla nuova visione che avrete della vita Comincerete ad applicare i procedimenti pratici offerti qui Scoprirete che voi potete creare intenzionalmente qualsiasi cosa vogliate fare, essere o avere Fin da che ho ricordi, ho l'impressione che la mia vita abbia sempre prodotto un flusso, apparentemente infinito Di domande cui non ero in grado di trovare risposte soddisfacenti Infatti, ho sempre desiderato individuare una filosofia di vita che fosse basata sulla verità assoluta Ma quando Abraham è entrato nella nostra esperienza Rivelando a Esther e me la sua spiegazione delle potenti leggi dell'universo Abbinandola a metodi pratici che ci hanno aiutati a tradurre la dottrina e la teoria in risultati concreti Sono giunto a comprendere che quel flusso ininterrotto di libri, insegnanti ed esperienze di vita Che ho incontrato lungo il mio cammino erano i passi perfetti sulla via che mi ha Infine, portato a scoprire Abraham Mi piace pensare all'opportunità che avete ora, mentre leggete questo libro Di scoprire per voi stessi l'importanza di ciò che offre Abraham Perché so quanto questi insegnamenti hanno migliorato la nostra vita Sono anche consapevole che ora non stareste tenendo in mano questo libro se la vostra vita non vi avesse Preparati a ricevere queste informazioni, esattamente come la mia vita ha preparato me Non vedo l'ora che voi immergiate in questo libro per scoprire le leggi, semplici e potenti E i metodi pratici offerti da Abraham Affinché cominciate ad attrarre intenzionalmente nella vostra vita tutto ciò che desiderate E in modo che possiate liberare la vostra esistenza da tutto ciò che non volete Una serie infinita di gruppi religiosi I miei genitori non erano religiosi Perciò mi è difficile spiegare Perché io abbia sempre sentito una forte spinta a cercare una chiesa e a farmi Coinvolgere dalle dottrine della sua religione Tuttavia, mentre crescevo, questa spinta in me era potente Forse stavo tentando di colmare il profondo vuoto che sentivo dentro di me O forse dipendeva dal fatto che tante persone intorno a me Esibivano una fervente religiosità e la sicurezza di aver scoperto la verità Nei miei primi 14 anni di vita ho vissuto in 18 case, in 6 diversi stati Per cui ho avuto l'opportunità di vagliare un'ampia gamma di filosofie In ogni caso, frequentavo sistematicamente una chiesa dopo l'altra Sperando ogni volta, con tutto il mio cuore che dietro a quelle porte avrei trovato ciò che stavo cercando Ma mentre mi spostavo da un gruppo religioso o filosofico all'altro La mia delusione cresceva nel sentore che tutti declamavano di essere nel giusto Mentre allo stesso tempo dichiaravano che tutti gli altri erano nel torto E mentre il mio cuore sprofondava sempre più Capii che in ambienti del genere non avrei trovato le risposte che stavo cercando È stato soltanto dopo aver scoperto gli insegnamenti di Abraham che sono giunto a comprendere queste apparenti Contraddizioni filosofiche e a non provare più emozioni negative al riguardo Quindi la mia ricerca continuava Parla una tavola Ouija Sebbene non avessi avuto alcuna esperienza diretta con una tavola Ouija Ne avevo comunque una pessima opinione Credevo che al meglio si trattasse di un gioco o che, al peggio, fosse una vera e propria truffa Così quando, nel 1959, alcuni amici di Spocane, Washington, mi proposero di usarla Respinsi subito l'idea come qualcosa di ridicolo I miei amici però insistettero e alla fine mi guidarono nella mia prima esperienza di questo genere Durante la quale dovetti constatare che in effetti qualcosa succedeva Così, visto che stavo ancora cercando risposta alla mia lista di domande lunga una vita Chiesi alla tavola Come posso stare veramente bene? Subito e a velocità impressionante, questa iniziò a indicare lettere dell'alfabeto E ne risultò la parola «leggi G.I. Che cosa devo leggere?» Chiesi La tavoletta rispose Libiri E quando chiesi quali libri, venne fuori, di nuovo a velocità impressionante, tutti quelli di Albert Schweitzer I miei amici non avevano mai sentito parlare di Albert Schweitzer e benché io sapessi ben poco di lui L'episodio aveva solleticato molto la mia curiosità Quindi decisi di fare qualche ricerca su quell'uomo Giunto alla mia attenzione in modo tanto fuori dall'ordinario Nella prima libreria in cui entrai rimbenni una lunga serie di libri scritti da Albert Schweitzer e li lessi Sistematicamente tutti Sebbene non possa dire di aver trovato alcuna risposta specifica alla mia lunga lista di domande In particolare il suo libro Storia della ricerca sulla vita di Gesù aprì la mia mente Rendendomi consapevole che per guardare le cose Ci sono molti più punti di vista di quanti prima fossi solito considerare Avevo sperato che la tavola potesse costituire una finestra verso una potente illuminazione e la risposta a Tutte le mie domande, ma il mio entusiasmo fu alla fine spazzato via Poiché non trovai nella tavoletta Ouija né una potente illuminazione né la risposta ad alcuna domanda Ma certo mi diede la consapevolezza che esisteva un mezzo di comunicazione intelligente che prima d'allora Non avrei mai creduto possibile La tavoletta Ouija non funzionava quando la usavo da solo Ma dopo averla provata con centinaia di persone durante i miei viaggi di lavoro Ne ho trovate tre con cui funzionava Insieme con alcuni amici di Portland, nell'Oregon, con cui la tavola funzionava Ho parlato per centinaia di ore con quelle che noi supponevamo essere entità non fisiche Con quale divertente sfilata di pirati, sacerdoti, politici e rabbini abbiamo chiacchierato Parlare con loro ricordava più che altro le interessanti conversazioni che si possono avere durante una festa Cui partecipino molte persone diverse per abitudini, intelligenza e attività Devo dire che non ho appreso dalla tavola nulla di importante che potesse servirmi nella vita O che meritasse di essere insegnato ad altri Così un giorno l'ho semplicemente buttata via Decretando la fine di ogni mio interesse e attività con la tavoletta Ouija Tuttavia, quell'esperienza e in particolare quella con l'intelligenza che mi incoraggiò a leggere i libri di Schweitz Non solo mi fece comprendere che là fuori c'è molto più di quanto pensassi all'epoca Ma provocò in me un desiderio ancora più potente di trovare risposte Fini col credere che fosse possibile comunicare con un'intelligenza dotata di risposte concrete alle domande sul Funzionamento dell'universo, sul perché della nostra esistenza Su come vivere vite più felici e come realizzare i motivi della nostra presenza qui Pensa e arricchisci te stesso Forse la prima occasione in cui mi capitò di trovare risposte concrete alla mia crescente lista di domande sì Presentò nel 1965, mentre tenevo una serie di concerti nei college e nelle università Su un tavolino nell'atrio di un piccolo motel, da qualche parte nel Montana, trovai un libro affascinante Ricordo bene i sentimenti contrastanti che provai mentre lo tenevo in mano e guardavo le parole scritte sulla copertina Pensa e arricchisci te stesso, di Napoleon Hill Trovavo il titolo poco invitante, perché a me, come a molti altri Mancando in famiglia risorse finanziarie acquisite senza fatica Era stato insegnato a nutrire una certa avversione per i ricchi Tuttavia quel libro aveva qualcosa di irresistibilmente attraente E dopo averne lette soltanto 12 pagine Avevo la pelle d'oca e i brividi su e giù lungo la schiena Soltanto ora comprendo che, quando ci capita di provare sensazioni fisiche simili, così viscerali È segno che ci troviamo sulle tracce di qualcosa di estremamente importante Tuttavia, fin da subito sentii che quel libro stava svegliando in me la consapevolezza che i miei pensieri sono importanti E che la mia esperienza di vita rifletteva in qualche modo il contenuto dei miei pensieri Era un libro trascinante e interessante e vogli tentare di seguire i consigli che dava E così feci L'utilizzo di quegli insegnamenti funzionò per me così bene che in ben poco tempo riuscii a costruire un business Multinazionale ed ebbi l'opportunità di entrare nella vita di migliaia di persone in modo significativo Ma, benché avessi ricevuto incredibili benefici dal libro di Napoleon Hill Che era di fatto riuscito a cambiarmi la vita L'esistenza di molte delle persone cui andavo insegnando non era stata migliorata quanto la mia A prescindere da quanti corsi seguissero, perciò la mia ricerca di risposte più specifiche proseguì Seth parla della creazione della propria realtà Mentre proseguivo la mia ricerca, lunga una vita, di risposte valide alle mie domande E il mio desiderio di aiutare gli altri a raggiungere in modo più efficace i propri obiettivi cresceva Venni temporaneamente distratto dalla nuova vita cominciata insieme a Esther a Phoenix in Arizona Ci eravamo sposati nel 1980, dopo qualche anno di frequentazione E ci trovavamo inspiegabilmente compatibili Un meraviglioso giorno dopo l'altro provavamo gioia nell'esplorare la nostra nuova città Tirando sulla nostra casa e scoprendo la nostra nuova vita insieme E anche se Esther non condivideva del tutto la mia sete di conoscenza o la mia fame di risposte Era una compagnia molto piacevole, sempre allegra e avida di vita Un giorno, in una biblioteca, scoprì un libro intitolato Dialoghi con Seth di Jane Roberts E prima ancora di averlo estratto dallo scaffale ebbi di nuovo la sensazione di brividi E che mi si rizzassero i capelli Sfogliai le pagine di quel libro Chiedendomi se potesse mai contenere qualcosa da giustificare una tale risposta emotiva In tutto il tempo che Esther e io avevamo trascorso insieme Avevo individuato un solo punto di disaccordo tra noi Lei non ne voleva sapere delle mie esperienze con la tavoletta Ouija Ogni volta che tentavo di lanciarmi in un divertentissimo resoconto Almeno così io lo consideravo Lei lasciava la stanza Durante l'infanzia le era stato insegnato ad avere una paura terribile di ogni cosa non fisica E, dal momento che non volevo turbarla, smisi di raccontare quelle storie Se non altro quando lei era nei paraggi Non mi sorprese molto quindi il fatto che Esther non ne volesse neanche sapere dei dialoghi con Seth L'autrice, Jane Roberts, usava andare in una sorta di trance e permettere così a Seth Una persona non fisica Di parlare attraverso di lei per dettare i suoi autorevoli libri che costituivano ormai una serie Trovai quelle opere stimolanti e affascinanti e cominciai a intravedere una strada per rispondere ad alcune delle Mie numerose domande Ma Esther era spaventata da quel libro Il suo disagio emerso e non appena ebbe saputo in che modo il libro era stato scritto e crebbe con forza quando vide La strana foto sul retro del libro in cui si vedeva Jane, in trance, parlare per conto di Seth Puoi leggere quel libro, se vuoi, mi disse Esther Ma, per favore, non portarlo nella nostra camera da letto Ho sempre creduto che l'albero vada giudicato dai suoi frutti Così, ogni volta che prendo qualcosa in considerazione Lo faccio partendo da come io mi sento al riguardo E molto del materiale offerto da Seth mi andava perfettamente a genio Per questo motivo, per me, non avevano alcuna rilevanza il da dove venisse e il come fosse presentato Sostanzialmente, sentivo di aver trovato valide informazioni che io potevo usare e quindi comunicare ad altre persone che, speravo, avrebbero potuto avvalersene Era emozionante Le mie paure risolte Di Esther X Ritenevo molto saggio e molto gentile da parte di Jerry non spingermi verso i libri di Seth Perché provavo davvero una forte avversione per quelle cose La sola idea di una persona in contatto con un'entità non fisica mi metteva terribilmente a disagio Così, dal momento che Jerry non voleva turbarmi, si alzava presto al mattino E, mentre io stavo ancora dormendo, leggeva quei libri per conto suo Quando trovava qualcosa che lo interessava particolarmente Lo faceva scivolare con delicatezza nelle nostre conversazioni e io Trovandomi in uno stato di minore resistenza, spesso allora riuscivo ad avvertire il valore di quelle idee A poco a poco, Jerry introduceva un concetto dopo l'altro Finché anch'io cominciai a provare interesse per quelle opere meravigliose E a un certo punto divenne il nostro Rituale mattutino Ci sedevamo vicini e Jerry mi leggeva estratti dei libri di Seth Le mie paure non erano basate su alcuna esperienza personale Ma su qualcosa che avevo sentito dire Probabilmente da altri che a loro volta lo avevano sentito dire Ripensandoci oggi, sembra davvero illogico che avessi quelle paure In ogni caso, il mio atteggiamento cambiò in modo radicale Quando compresi che, per quanto riguardava la mia esperienza personale Andava tutto bene Col passare del tempo, la mia paura per il sistema con cui Jane riceveva le informazioni da Seth Si acquietò e cominciai ad apprezzare Immensamente quei magnifici libri Infatti, ne eravamo tanto entusiasti da pensare di fare un viaggio a New York Per incontrare Jane e suo marito Robert E anche Seth Il mio punto di vista era sostanzialmente cambiato Tanto che ormai ero ansiosa di incontrare quell'entità non fisica Il problema era che il numero di telefono degli autori non era pubblico Per cui non sapevamo come procedere per combinare l'incontro Un giorno stavamo pranzando in un piccolo caffè Accanto a una libreria di Scosdale, in Arizona E Jerry stava spogliando un libro nuovo che aveva appena comprato Quando uno sconosciuto, seduto accanto a noi Ci chiese Avete letto uno dei libri di Seth? Stentammo a credere alle nostre orecchie Perché non avevamo detto a nessuno che stavamo leggendo quei libri Poi l'uomo aggiunse Sapevate che Jane Robert è morta? Ricordo che a quelle parole gli occhi mi si riempirono di lacrime Era come se qualcuno mi avesse detto che mia sorella era morta Senza che io nemmeno lo sapessi Fu traumatico Provammo un immenso dispiacere Comprendendo che a quel punto Non ci sarebbe stato per noi alcun modo di incontrare Jane e Rob O Seth C'è la veicolatio Dopo un giorno o poco più dalla notizia della morte di Jane Incontrammo a cena i nostri amici e soci in affari Nancy e suo marito Wes Abbiamo una cosa che vorremmo ascoltaste Disse Nancy mettendomi in mano una cassetta Il loro comportamento mi parve strano Avvertivo qualcosa di insolito Infatti provavo la stessa sensazione descritta da Jerry Quando mi raccontava della sua scoperta dei libri di Seth Sembrava che i due avessero un segreto che volevano condividere Ma che fossero preoccupati di come avremmo reagito una volta che lo avessero fatto Che cos'è? Chiesi È veicolato Sussurrò Nancy Non credo che né Jerry né io avessimo mai sentito la parola veicolato in un simile contesto Che cosa intendi per veicolato? Quando Nancy e Wes ebbero dato la loro breve e un po' sconnessa spiegazione Jerry e io comprendemmo che stavano parlando dello stesso processo con cui erano stati scritti i libri di Seth Si chiama Sheila Continuarono Parla per un'entità di nome Tio Sta venendo a Phoenix e potete prendere un appuntamento per parlare con lei se volete Decidemmo di prendere quell'appuntamento e ricordo ancora perfettamente quanto eravamo eccitati Ci incontrammo in una magnifica casa di Phoenix progettata da Frank Lloyd Wright Era pieno giorno e con mio grande sollievo non accadde nulla di neppure lontanamente spettrale Fu un'esperienza del tutto serena e piacevole Quando ci sedemmo e facemmo visita a Tio? Beh, dovrei dire, quando Jerry fece visita a Tio Perché penso di non aver detto una parola durante quell'incontro? Restai sbalordita Jerry aveva un tacquino pieno di domande Alcune delle quali scritte quando aveva sei anni Era eccitatissimo, poneva una domanda dopo l'altra A volte interrompendo Tio nel bel mezzo di una risposta per farne un'altra prima che il nostro tempo scadesse La mezz'ora trascorse molto in fretta e alla fine ci sentivamo magnificamente Possiamo tornare domani? Chiesi Perché a quel punto stavo sviluppando una lista di domande che io volevo porre a Tio Dovrei meditare? Quando tornamo il giorno successivo, chiesi a Tio, tramite Sheila Che cosa potevamo fare per raggiungere più in fretta i nostri obiettivi? Tio disse, formulateli E poi mi disse qualcosa di stupefacente Io, Esther X, vedo e attiro a me attraverso il divino amore Gli esseri che cercano l'illuminazione attraverso questo metodo La condivisione, ora, eleverà entrambi Jerry e io conoscevamo il metodo delle formulazioni e lo stavamo già usando Che altro? Domandai Tio rispose Meditate Ora, personalmente, non conoscevo nessuno che meditasse Ma l'idea nel suo complesso mi sembrava strampalata Non mi ci vedevo Jerry disse che associava la pratica della meditazione a quelle persone che vedono quanto possa diventare cattiva la vita e quanto dolore o miseria sia possibile sopportare senza per questo cessare di esistere Nella mia mente La meditazione apparteneva alla stessa categoria misteriosa e bizzarra di cui facevano parte il Camminare sui Carboni ardenti Il giacere su un letto di chiodi o lo stare su un piede tutto il giorno con la mano protesa a ricevere l'elemosina Chiesi quindi a Tio Beh, che cosa intendi per meditare? Per 15 minuti al giorno sedete in una stanza tranquilla indossando abiti comodi E concentratevi sul vostro respiro Quando la vostra mente devierà dalla giusta direzione e lo farà Dovrete solo abbandonare quel pensiero e tornare a concentrarvi sul vostro respiro Rispose Allora pensai Beh, non sembra così stramparato Chiesi poi a Tio se potevo portare la mia figlia di 14 anni Tresi A incontrarlo E la risposta fu Se lo chiede lei Ma non è necessario Perché anche voi siete veicoli Ricordo bene quanto mi sembrò poco plausibile che una cosa così strana o così importante Cioè essere un veicolo del genere potesse esserci rimasta ignota Fino a quel momento A quel punto però il nastro finì Indicando che ancora una volta il nostro tempo era terminato Non riuscivo a credere quanto quella mezz'ora fosse passata velocemente E così, mentre guardavo la mia lista di domande non risposte Stivie, l'amica di Sheila Che usava il registratore e prendeva appunti durante le conversazioni con Tio Forse notò la mia leggera frustrazione perché mi chiese Vuoi fare ancora una domanda? Vuoi sapere il nome del tuo spirito guida? Quella non era esattamente la domanda che avrei voluto porre Se non altro perché non avevo mai sentito l'espressione spirito guida Ma mi piacque il modo in cui suonava Per cui chiesi Sì, chi è il mio spirito guida? Tio disse Ci è stato detto che ti verrà indicato direttamente Avrai un'esperienza medianica e saprai Quel giorno lasciamo la magnifica casa Sentendoci meglio di quanto ci fossimo mai sentiti prima Tio ci aveva incoraggiati a meditare insieme Poiché siete compatibili sarà più potente E così, seguendo i suggerimenti di Tio, andammo dritti a casa Ci mettemmo i nostri accappatoi Gli abiti più comodi di cui disponessimo Chiudemmo le tende del soggiorno E ci sedemmo con l'intenzione di meditare Qualunque cosa volesse dire Ricordo che pensavo Sto per meditare 15 minuti al giorno E sto per scoprire il nome del mio spirito guida Poiché ci pareva strano fare questa cosa bizzarra insieme Ci accomodammo in due grandi poltrone Con un mobile tra noi In modo da non poterci vedere Qualcosa comincia a respirarmi Le istruzioni di Tio su come meditare Erano state molto brevi Per 15 minuti al giorno Sedete in una stanza tranquilla Indossando abiti comodi E concentratevi sul vostro respiro Quando la vostra mente Devierà dalla giusta direzione E lo farà Dovrete solo abbandonare quel pensiero E tornare a concentrarvi sul vostro respiro Così impostammo un timer su 15 minuti Quindi sprofondai nella mia larga e comoda sedia Concentrandomi sul mio respiro Cominciai a contare le ispirazioni e le espirazioni E quasi immediatamente Avvertii una specie di torpore calare su di me Era una sensazione molto gradevole Mi piacque Il timer suonò Facendomi sobbalzare Quando ritornai cosciente Della presenza di Jerry e della stanza Esclamai Facciamolo di nuovo Rimpostammo il timer Per altri 15 minuti E sentii di nuovo Quella magnifica sensazione di distacco O torpore Quella volta Non riuscii a sentire la sedia sotto di me Era come essere sospesa nella stanza Senza null'altro intorno Allora impostammo il timer Per altri 15 minuti E di nuovo mi ritrovai in quella squisita sensazione di Distacco e a quel punto Provai l'incredibile sensazione di essere respirata Era come se qualcosa di potente e amorevole Inspirasse l'aria nei miei polmoni E poi l'espirasse Comprendo ora che quello fu il mio primo Potente incontro con Abram Ma all'epoca tutto ciò che sapevo Era che una cosa più amorevole di qualunque altra Avessi provato prima stava Scorrendo attraverso tutto il mio corpo Jerry disse che aveva udito la differenza Nel suono del mio respiro Aveva fatto il giro del mobile per guardarmi E gli ero apparsa come in uno stato di estasi Quando il timer suonò E cominciai a riprendere coscienza Di ciò che mi circondava Ebbi l'impressione che dell'energia Si muovesse attraverso di me Era una sensazione diversa da ogni altra Che avessi mai provato prima Era la più straordinaria esperienza Della mia vita e i denti mi si mossero involontariamente Non batterono Per diversi minuti Che meravigliosa serie di eventi Aveva condotto a quell'incontro Ancora oggi incredibile Con Abram Le paure irrazionali che avevo portato in me Per tutta la vita E che non avevano alcuna base concreta Nella mia esperienza Erano state risolte E rimpiazzate da un più amorevole e personale Incontro con energia della fonte Non avevo mai letto nulla Che mi avesse dato una reale comprensione di cosa O chi fosse Dio Ma sapevo che ciò che avevo provato Non poteva essere nient'altro Il mio naso parla Per via della potenza e dell'intensità dell'esperienza Che avevamo provato al nostro primo tentativo Decidemmo di prenderci 15 o 20 minuti al giorno per meditare E così, per circa nove mesi Jerry e io sedemmo sulle rispettive poltrone Respirando silenziosamente e sentendo benessere Fu subito dopo la festa del Ringraziamento del 1985 Che, durante la meditazione, provai qualcosa di nuovo La mia testa cominciò a muoversi da sola Molto lentamente Nello stato di distaccamento in cui mi trovavo Quel leggero movimento mi diede una sensazione molto piacevole Mi sembrava quasi di volare Non pensai niente Ma sapevo che non ero io a muovermi E che era un'esperienza estremamente piacevole La mia testa si mosse così per due o tre giorni Finché, credo intorno al terzo giorno Compresi che non si stava muovendo senza senso In realtà col naso scrivevo delle lettere Come su una lavagna Meravigliata! Esclamai Jerry, sto scrivendo col naso Comprendendo appieno che stava succedendo qualcosa di importante E che qualcuno stava cercando di comunicare con me Forti ondate di tremiti Cominciarono ad attraversarmi il corpo Né prima né dopo quel momento Provai mai una sensazione altrettanto intensa Quei meravigliosi brividi Che fremevano attraverso il mio corpo Loro scrivevano Io sono Abram Sono il tuo spirito guida Ti amo Sono qui per lavorare con te Jerry prese il suo taccuino E cominciò ad annotare tutto ciò Che in quello strano modo Stavo trasmettendo col naso Lettera per lettera Abram cominciò a rispondere alle domande di Jerry Talvolta anche per diverse ore di seguito Eravamo così eccitati Di essere entrati in contatto con Abram in quel modo Abram comincia a scrivere Era un sistema di comunicazione un po' lento E goffo, in effetti Ma Jerry otteneva finalmente Le risposte alle sue domande e l'esperienza Era a dir poco entusiasmante per entrambi Così, per circa due mesi Jerry poneva domande Abram rispondeva Compitando le parole attraverso i movimenti del mio naso E Jerry a sua volta trascriveva tutto Poi, una notte Mentre eravamo coricati a letto La mia mano cominciò a battere leggermente sul petto di Jerry La cosa mi sorprese E spiegai a mio marito Non sono io Devono essere loro Poi sentii un forte impulso a battere a macchina Andai quindi alla mia macchina da scrivere e tenni Le mani sopra la tastiera E, allo stesso modo in cui la mia testa Si era mossa involontariamente Per descrivere in aria le lettere col naso Così le mie mani cominciarono a muoversi sulla tastiera Si muovevano così velocemente E con tanta forza che Jerry ne fu un po' allarmato Era pronto ad afferrarmi le mani, se necessario Per evitare che mi ferissi le dita Disse che si stavano muovendo così in fretta Che faticava a vederle Ma non c'era nulla di cui preoccuparsi Le mie dita toccarono ogni tasto moltissime volte Prima di cominciare a scrivere Poi iniziarono a battere Riempiendo quasi una pagina intera di Voglio scrivere, voglio scrivere Senza maiuscole né spazi tra le parole Quindi digitarono un messaggio lentamente e metodicamente Nel quale mi chiesero di stare alla macchina Da scrivere 15 minuti al giorno Nei due mesi successivi comunicammo in quella maniera La dattilografa diventa interprete Un giorno stavamo viaggiando in autostrada Sulla nostra piccola Cadillac Seville E sia a sinistra che a destra Avevamo due grandi camion a 18 ruote Quel tratto di strada non sembrava tratteggiato in modo appropriato E quando ci ritrovammo a fare una curva tutti e Tre contemporaneamente Ci sembrò che i due tir oltrepassassero le linee divisorie E ci colse la paura di fare un incidente Proprio nel bel mezzo di quell'intensa emozione Abraham cominciò a parlare Sentii le mie mandibole muoversi Non molto diversamente da quando si sbadiglia E la mia bocca si mise involontariamente a formare queste parole Prendete la prossima uscita E così facemmo Ci fermammo al sottopasso E quel giorno Jerry parlò con Abraham parecchie ore Fu un'emozione straordinaria Benché ogni giorno A mano a mano che il processo di trasmissione di Abraham si evolveva Mi sentissi più a mio agio Chiesi a Jerry di mantenere il nostro segreto Perché ero spaventata da come gli altri avrebbero reagito Scoprendo quello che mi era successo Nel tempo però Una manciata di amici intimi Cominciò a raccogliersi intorno a noi Per dialogare con Abraham E circa un anno dopo Decidemmo di rendere pubblici questi insegnamenti Come stiamo continuando a fare L'evoluzione della mia esperienza Nella traduzione della vibrazione di Abraham Continua giorno dopo giorno Ogni seminario lascia Jerry E me sbalorditi dalla loro chiarezza Saggezza e amore Un giorno ripensando alla tavola Ouija Risi tra me Ero così spaventata dall'idea della tavola Ouija E ora sono la stessa cosa La squisita esperienza di Abraham si evolve Non siamo mai riusciti a trovare parole capaci di esprimere Quello che proviamo lavorando con Abraham Jerry sembra aver sempre saputo cosa voleva nella vita E già prima di incontrare Abraham Aveva trovato delle strade per ottenerlo Ma dice che Abraham Gli ha portato una consapevolezza di intenti E un'assoluta chiarezza Su come questi si possono o Non possono conseguire E con ciò La coscienza del nostro assoluto controllo Sulla nostra vita Non ci sono brutte interruzioni Né giorni sfortunati Né alcun bisogno di muoversi a ondate Secondo i capricci di qualcun altro Insomma Siamo liberi Siamo i creatori assoluti della nostra esperienza E l'amiamo Abraham ci ha spiegato che mio marito E io siamo la combinazione perfetta Per presentare questa dottrina Perché Jerry Con la sua brama di trovare risposte Ha evocato a noi Abraham Mentre io sono stata in grado di acquietare la mia mente E abbandonare ogni resistenza Per permettere alle Risposte di arrivare Ora ci metto ben poco tempo Per permettere ad Abraham Di parlare attraverso di me Basta che ne dichiari l'intenzione Abraham Voglio che voi parliate con chiarezza attraverso di me E poi mi concentro sul respiro In pochi secondi riesco a sentire la chiarezza L'amore E il potere di Abraham sorgere dentro di me E poi si comincia Una conversazione con Abraham Di Jerry X Questa avventura con Abraham Attraverso Esther Continua a entusiasmarmi Perché costituisce una sorgente Inesauribile di risposte Per le apparentemente infinite domande Che la mia Esperienza di vita Continua a partorire Per parecchi mesi All'inizio dei nostri incontri Con Abraham Esther e io Ci ritagliavamo sempre Un po' di tempo Per parlare con Abraham Mentre io Cominciavo a sbrogliare La mia lista di domande In evoluzione In seguito Mentre Esther Si abituava sempre più All'idea Di poter acquietare La propria mente E permettere all'infinita Intelligenza di fluire Attraverso di lei Iniziamo gradualmente A estendere il circolo Di amici e associati Che si raccoglieva Per discutere i particolari Della loro esistenza Con Abraham Presentai ad Abraham La mia lista di ardenti Domande molto presto La mia speranza È che le risposte A quelle mie prime domande Possano soddisfare anche voi Naturalmente Da quando ho cominciato Ad assediare Abraham Con le mie domande Abbiamo incontrato Migliaia di persone Che le hanno ulteriormente Approfondite E che hanno aggiunto Alla lista i loro Interrogativi più importanti E cui Abraham Ha offerto il suo amore E la sua intelligenza Ma questo che vi descrivo È il modo in cui Ho cominciato Le mie conversazioni Con Abraham Non riesco Proprio a comprendere Come Esther Si è in grado Di permettere ad Abraham Di parlare Attraverso di lei Io vedo soltanto Che chiude gli occhi Fa qualche respiro profondo La testa le ciondola Delicatamente Per qualche istante Poi riapre gli occhi E Abraham Si rivolge a me Come segue Noi Abraham Ci descriviamo Come maestri Abraham Buongiorno È bello avere L'opportunità Di farvi visita Siamo felici Che Esther Permetta questa comunicazione E che tu L'abbia sollecitata Rispettiamo L'immenso valore Di questa interazione Dal momento Che fornirà Ai nostri amici fisici Una prima spiegazione Di ciò che noi siamo Ma ancor più Che introdurre la conoscenza Di Abraham Nel vostro mondo fisico Questo libro Fornirà un primo chiarimento Sul ruolo Che il mondo non fisico Esercita su quello fisico Dal momento Che vedete Questi due mondi Sono legati reciprocamente In maniera indissolubile Non c'è modo Di separarli Quindi Scrivendo questo libro Stiamo tutti Onorando un accordo Formulato molto prima Che voi Entraste Nei vostri corpi fisici Noi Abraham Concordammo Che saremmo rimasti Concentrati Nella più ampia Chiara E potente Prospettiva non fisica Mentre voi Jerry ed Esther Concordaste Di entrare Nei vostri Magnifici corpi fisici E nel cuore Del processo Di pensiero E creazione Il nostro accordo Prevedeva che Una volta Che le vostre esperienze Ne avessero stimolato In voi Il desiderio Nitido e potente Ci saremmo rincontrati Per generare insieme Una potente co-creazione Jerry Siamo ansiosi Di rispondere Alla tua lunga lista Di questioni Intenzionalmente Preparate E affinate Dalle tue Contrastanti Esperienze Di vita Perché ci sono Molte informazioni Che vogliamo Trasmettere Ai nostri amici Fisici Vogliamo Che voi Comprendiate Lo splendore Del vostro essere E cosa siete Realmente E perché Siete finiti In questa Dimensione fisica È sempre Un'esperienza Interessante Spiegare Ai nostri amici Fisici La natura Di ciò Che è non fisico Perché ogni idea Che vi presentiamo Deve essere tradotta Attraverso le lenti Del vostro mondo fisico In altre parole Esther riceve I nostri pensieri A un livello inconscio Del suo essere Come se fossero Segnali radio E poi li traduce In parole E concetti fisici Ciò che accade Ciò che accade qui È una perfetta Miscela di fisico E non fisico Come siamo in grado Di aiutarvi A comprendere L'esistenza Del dominio Non Fisico Di cui stiamo parlando Vi aiuteremo anche A comprendere Più chiaramente Che cosa siete Dal momento che Infatti Voi siete Un'estensione Di ciò Che siamo noi Qui noi Siamo in molti E ci siamo raccolti Insieme Grazie all'armonia Dei nostri attuali Intenti E desideri Nel vostro Ambiente fisico Siamo chiamati Abraham E siamo noti Come maestri Cioè coloro Che in questo momento Hanno una comprensione Più ampia E che possono guidare Altri verso Questa comprensione Più ampia Sappiamo che non sono Le parole a insegnare Ma solo la vita vissuta Però la combinazione Di vita vissuta E parole Che la definiscano E spieghino Può migliorare L'esperienza Dell'apprendimento Ed è con questo spirito Che vi offriamo Queste parole Esistono leggi universali Che agiscono Su tutto quanto C'è nell'universo Su ogni cosa Non fisica E ogni cosa fisica Queste leggi Sono assolute Sono eterne E sono onnipresenti O ovunque Quando avrete Una consapevole Conoscenza Di queste leggi E agirete Comprendendole La vostra vita Migliorerà incredibilmente Infatti Soltanto Con una conoscenza Operativa E consapevole Di queste leggi Sarete in grado Di diventare I creatori Intenzionali Delle vostre vite Avete un essere interiore Se è certamente vero Che siete gli esseri fisici Che vedete qui Nel vostro contesto fisico È altrettanto vero Che siete molto più Di quanto vediate Coi vostri occhi Voi siete in realtà Un'estensione Della non fisica Energia Della fonte In altre parole Un più grande Vecchio e saggio Voi non fisico È ora concentrato Nell'essere fisico Che conoscete Come voi Chiamiamo la parte Non fisica Di voi Il vostro essere interiore Gli esseri fisici Intendono spesso Se stessi Come morti O vivi E in questa prospettiva A volte Riconoscono Di esistere Nel dominio Del non fisico Prima di emergere Nei loro Corpi E che Dopo la loro morte Fisica Ritorneranno In quel dominio Poche persone Però capiscono davvero Che la parte Non fisica Di loro Rimane sempre Potentemente In modo Predominante Concentrata Nel dominio Non fisico Mentre soltanto Una parte Fluisce In questa prospettiva Fisica E nei loro Attuali corpi Una comprensione Di entrambe Queste prospettive Fisica E non fisica E delle loro Reciproche Relazioni È essenziale Per comprendere Appieno Chi siete E in che modo Siete finiti In Questo corpo Alcuni Chiamano la parte Non fisica Io divino O anima Non importa Come la chiamiate Ma è di grande importanza Invece per voi Sapere che il vostro Essere interiore Esiste Perché soltanto Dopo aver compreso Consapevolmente La relazione tra voi E il vostro Essere interiore Guiderete Voi stessi In modo giusto Non vogliamo Alterare le vostre Credenze Noi non giungiamo Per alterare le vostre Credenze Ma per ricordarvi Le eterne leggi Dell'universo In modo che possiate Essere intenzionalmente I creatori Chi siete Nati per essere Dal momento che Non vuoi nessun altro Che attiri nella vostra vita Ciò che state vivendo Siete voi a farlo Non giungiamo Per indurvi a credere nulla Dal momento Che non vuoi Alcuna cosa In cui credete In cui non vogliamo Che crediate E mentre osserviamo Questa mirabile Terra fisica Vediamo grande diversità In ciò che credete E in tutta questa diversità C'è un perfetto equilibrio Vi presenteremo Queste leggi universali In modo semplice E vi offriremo anche Metodi pratici Attraverso cui Potrete deliberatamente Avere accesso Alle leggi Per ottenere qualunque Cosa sia importante Per voi E anche se sappiamo Che proverete gioia Nel controllo creativo Che scoprirete di possedere Sulla vostra esperienza Di vita Sappiamo anche Che la cosa più preziosa Di tutte Sarà la libertà Che scoprirete Imparando ad applicare L'arte del permettere Dal momento Che la maggior parte Di voi Sa già tutto questo Consideriamo Che il nostro lavoro Consista nel rammentarvi Ciò che A un livello più profondo Già sapete Ciò che ci aspettiamo È che Se lo desiderate Leggendo queste parole Verrete guidati Passo dopo passo Al risveglio Al riconoscimento Del vostro Io totale Voi siete preziosi Per il tutto E nostro desiderio Che ritorniate a comprendere L'immenso valore Che rappresentate Per il tutto Dal momento Che voi Siete davvero La punta del pensiero E incrementate L'universo Con ogni vostro pensiero Parola O azione Qui non siete esseri Di scarso valore Che cercano In qualche modo Di tirare avanti Ma al contrario Indispensabili creatori Che hanno tutte le risorse Dell'universo A disposizione Noi vogliamo Che siate consapevoli Del vostro valore Perché Senza questa consapevolezza Non attirerete A voi l'eredità Che vi appartiene Nel vostro difetto Di autostima Vi negherete da soli Il vostro naturale E legittimo retaggio Di gioia continua E mentre l'universo Va avanti a beneficiare Di ogni cosa Che esperite È nostro desiderio Che anche voi Cominciate a raccogliere qui E ora i frutti Della vostra fatica Siamo assolutamente certi Che troverete Le chiavi necessarie A dischiudervi L'esperienza di vita Che vi prefiggevate Ancor prima Di emergere In questo corpo Noi vi aiuteremo A realizzare Gli scopi Della vostra vita E sappiamo Che questo è importante Per voi Perché vi abbiamo sentito Chiedere Perché sono qui Che cosa posso fare Per migliorare la mia vita Come faccio a sapere Che cosa è giusto Noi siamo qui Per rispondere A ogni vostra domanda In maniera esauriente Siamo pronti Un'introduzione All'essere benessere Jerry Quello che vorrei Abram È un libro introduttivo Scritto appositamente Per tutti coloro Che vogliono avere Un controllo consapevole Sulla loro esperienza di vita Mi piacerebbe Che questo libro Contenesse informazioni E principi sufficienti Perché ogni lettore Possa cominciare a Mettere subito In pratica Queste idee E quindi Vivere da subito Un incremento Di felicità O benessere Senza nulla Togliere al fatto Che forse Più avanti Molti vorranno Ulteriori spiegazioni Su alcuni punti particolari Abram Ognuno di voi Potrà cominciare Esattamente dalla situazione In cui si trova E ci aspettiamo Che quelli che stanno Cercando risposte Le troveranno qui In questo libro Nessuno di noi Può offrire Tutto ciò che sappiamo O che vogliamo Convogliare In un solo istante Quindi Offriremo qui Le informazioni basilari Che permettono Di comprendere Con chiarezza Le leggi dell'universo Sapendo che ad alcuni Interesserà andare Oltre quanto scritto qui E ad altri no Il nostro lavoro Evolve Continuamente Attraverso le questioni Che ci vengono poste Ed è il risultato Degli Stimoli che ci offrite E delle nostre Discussioni con voi Non c'è fine All'evoluzione Ed essa coinvolge Tutti noi Le leggi universali Definizione Esistono tre eterne Leggi universali Che vi vogliamo aiutare A comprendere Con maggiore chiarezza Affinché possiate Applicarle Alla vostra manifestazione Di vita fisica In modo intenzionale Efficace E soddisfacente La legge Dell'attrazione È la prima delle leggi Che vi presenteremo Dal momento che Se non la si comprende E non si è in grado Di applicarla concretamente Allora la seconda legge Cioè la scienza Della creazione intenzionale E la terza Cioè l'arte del permettere Non possono essere utilizzate Dovrete prima comprendere E utilizzare la prima legge Per comprendere E utilizzare la seconda E dovrete essere in grado Di comprendere E utilizzare la seconda Prima di essere in grado Di comprendere E utilizzare la terza La prima legge La legge Dell'attrazione Dice Si attira Ciò che è simile a sé Anche se può sembrare Un principio Abbastanza semplice In effetti Definisce La più potente Legge dell'universo Una legge Che agisce Su ogni cosa In ogni momento Non vuè nulla Che non si è soggetto A questa potente legge La seconda legge La scienza Della creazione Intenzionale Dice Esiste tutto ciò Che penso E che credo O aspetto In breve Si ottiene ciò Che si sta pensando Che lo si voglia O meno Un'intenzionale Applicazione del pensiero È il tema sostanziale Trattato dalla scienza Della creazione Intenzionale Dal momento Che se non si comprendono Queste leggi E non le si applica Intenzionalmente Allora accade Che si crea In modo casuale La terza legge L'arte del permettere Dice Io sono ciò che sono E permetterò A tutti gli altri Di essere ciò che sono Se si vuole permettere Agli altri Di essere ciò che sono Perfino se loro Non permettono A noi altrettanto Allora si diventa Permettenti Ma è improbabile Raggiungere questo stato Se prima non si è compreso Com'è che si ottiene Ciò che si ha Soltanto quando si comprende Che un altro Non può essere parte Della nostra esperienza Fino a che non lo invitiamo Attraverso i nostri pensieri O attraverso La nostra attenzione Verso di lui E che gli eventi Non possono fare parte Della nostra esperienza Finché non li invitiamo Attraverso i nostri pensieri O attraverso La nostra osservazione Si può diventare I permettenti Che miravamo essere Quando siamo immersi In questa forma di vita Comprendendo queste tre potenti Leggi universali E applicandole intenzionalmente Raggiungerete la gioiosa libertà Di poter creare La vostra esperienza di vita Esattamente nella forma Che volete Una volta acquisito Che tutte le persone Le situazioni E gli eventi In cui vi imbattete Sono invitati Nella vostra esperienza Da voi stessi Attraverso i vostri pensieri Comincerete a vivere La vita come intendevate Quando avete deciso Di emergere Nei vostri corpi E così Una comprensione Della potente Legge dell'attrazione Associata alla volontà Di creare intenzionalmente La vostra esperienza di vita Vi guiderà Alla fine All'incomparabile libertà Che può assumere La sua forma più completa Soltanto comprendendo E Applicando l'arte Del permettere Parte seconda La legge dell'attrazione L'universale Legge dell'attrazione Definizione Jerry Bene Abram Suppongo che il primo tema Che discuterete con noi In dettaglio Sia la legge dell'attrazione So che avete detto Che è la legge più potente Abram La legge dell'attrazione Non è solo La più potente Legge dell'universo Ma è necessario Comprenderla prima Che qualunque altra dottrina Che vi offriamo Possa essere di qualche utilità È indispensabile Comprenderla Per capire Il senso Di ogni cosa Che si sta vivendo O che si osserva Nella vita altrui Ogni elemento Della vita vostra E di chi vi circonda È influenzato Dalla legge dell'attrazione Questa sta alla base Di tutto ciò Che vedete manifestarsi Nel mondo fisico Di tutto ciò Che entra Nella vostra esperienza Essere consapevoli Della sua esistenza E comprenderne Il funzionamento È essenziale Per vivere una vita In Modo consapevole È essenziale Per vivere La vita di gioia Per cui siete giunti qui La legge Dell'attrazione Dice Si attira Ciò che è simile A sé Modi di dire Come chi si somiglia Si piglia In effetti Sono emanazioni Della legge Dell'attrazione Ne avete prova In quelle giornate In cui vi svegliate Con un senso Di infelicità Nell'arco della giornata Le cose vanno Di male in peggio E a sera vi dite Oggi non avrei dovuto Uscire dal letto Vedete la legge Dell'attrazione Operare Quando vi accorgete Che chi parla Per lo più di malattie È malato E chi parla Per lo più di ricchezze A ricco La legge Dell'attrazione È evidente Per esempio Anche quando impostate La vostra radio Su una certa frequenza Aspettandovi di ricevere la Programmazione Di quella frequenza Perché capite Che i segnali radio Della torre di trasmissione E quelli del vostro ricevitore Devono corrispondere Quando cominciate A comprendere O meglio A ricordare La potente legge Dell'attrazione La spiegazione Di tutto quanto vi circonda Diventerà per voi ovvia Dal momento Che riconoscerete L'esatta correlazione Che intercorre Tra ciò che avete pensato E ciò che effettivamente Sta entrando Nella vostra esperienza Nulla di ciò Che vi accade Appare dal nulla Siete voi Ad attrarlo Ad attrarre tutto Senza eccezioni Poiché la legge Dell'attrazione Risponde sempre Ai pensieri È appropriato dire Che ciascuno Crea la propria realtà Qualunque cosa vi diate Viene a voi Perché la legge Dell'attrazione Sta rispondendo Ai pensieri Che state facendo Che stiate ricordando Il passato Osservando il presente O immaginando il futuro Il pensiero Su cui siete concentrati Nel vostro potente Ora attiva Dentro di voi Una vibrazione Alla quale l'ha Legge dell'attrazione Risponde immediatamente Chi si ritrova A vivere esperienze Non volute Spesso tende a dirsi Che di certo Non è stato lui A crearle Non potrei mai Aver creato io Una cosa del genere Non la volevo Dice Ma Se da una parte Sappiamo che in effetti Non ha portato Intenzionalmente Queste esperienze Indesiderate Nella sua vita D'altra parte Però noi Dobbiamo spiegargli Che soltanto lui Può averle causate Poiché nessuno Ha il potere Di attirare le cose Che gli capitano Se non lui stesso Siete voi Che concentrandovi Sulle cose indesiderate Le create Anche se in modo casuale Non comprendendo Le leggi dell'universo O per così dire Le regole del gioco Infatti Invitate nella vostra esperienza Cose indesiderate Attraverso l'attenzione Che dedicate a queste Per meglio comprendere La legge dell'attrazione Immaginate di essere Dei magneti E che attirate L'essenza Di ciò che state Pensando e sentendo Così Se vi sentite grassi Non potrete attrarre Il magro Se vi sentite poveri Non potrete attrarre Ricchezza E così via Questo infatti Sfiderebbe la legge Pensare E invitare Più si comprende Il potere Della legge Dell'attrazione Più si ha interesse A dirigere I propri pensieri In modo intenzionale Dal momento che si riceve Ciò che si sta pensando Che lo si voglia o no Senza eccezioni Nel momento in cui Si pensa a una certa cosa Di fatto la si invita Nella propria esperienza Quando si pensa A qualcosa che si desidera Attraverso la legge Dell'attrazione Questo pensiero Diventa sempre più intenso E più potente Perciò Quando sviluppate Un pensiero concernente Qualcosa che volete La legge dell'attrazione Ne attira altri simili E lo fa diventare Sempre più grande E più grande Diventa il pensiero Più potente Sarà la sua attrazione E più probabile Sarà che riceviate L'esperienza relativa Quando vedete qualcosa Che vi piacerebbe provare E dite Mi piacerebbe averlo Lo invitate Nella vostra esperienza Attraverso l'attenzione Che gli prestate Tuttavia Anche se vedete qualcosa Che non volete provare E gridate no No Non lo voglio Attraverso la vostra attenzione Lo invitate Nella vostra esperienza In questo universo Basato sull'attrazione Non esistono cose Come l'esclusione L'oggetto della nostra attenzione Viene incluso nelle nostre vibrazioni E se manteniamo l'attenzione O coscienza Abbastanza a lungo La legge dell'attrazione Porterà quell'oggetto Nella nostra esperienza I no Non esistono Per spiegarci meglio Quando guardate qualcosa E gridate no Io non voglio provarla Che se ne vada In realtà La state chiamando Nella vostra esperienza Perché in un universo Basato sull'attrazione Il no Non esiste È la vostra stessa attenzione A dire in effetti Sì Vieni a me Cosa che non voglio Per fortuna Nella vostra realtà fisica Spazio-temporale Gli eventi Non si manifestano Nella vostra esperienza Istantaneamente Infatti Intercorre un magnifico Lasso temporale Tra il momento In cui incominciate A pensare a qualcosa E quello in cui Questo qualcosa Si materializza Questo lasso temporale Vi dà l'opportunità Di cambiare via via Indirizzo Alla vostra attenzione Dirigendola Verso ciò che davvero Volete si manifesti Nella vostra esperienza E ben prima Che ciò si manifesti Precisamente Quando si comincia Per la prima volta A pensarlo Potete rendervi conto Se è qualcosa Di cui desiderate La manifestazione Oppure no Se però Continuate a concentrarvi L'attenzione Che sia qualcosa Che desiderate Oppure no Comunque Giungerà Nella vostra esperienza Queste leggi Agiscono in ogni caso Sulla vostra vita Anche se non le comprendete O le ignorate E se anche potete credere Di non aver mai sentito Parlare della legge Dell'attrazione La sua potente influenza È evidente In ogni aspetto Della vostra esistenza Tenendo conto Di quanto abbiamo detto E cominciando A osservare il rapporto Tra ciò che state pensando E dicendo E ciò Che state ricevendo Comincerete a comprendere Il potere della legge Dell'attrazione Quindi Dirigendo intenzionalmente I vostri pensieri Concentrandovi Su ciò che volete Attrarre Nella vostra esperienza Comincerete a ricevere Le esperienze Che desiderate In ogni campo Il vostro mondo fisico È un ambiente Immenso e variegato Ricco di una strabiliante Varietà di fatti ed eventi Alcuni approvati da voi E che vi piacerebbe provare E altri disapprovati da voi E che non vi piacerebbe provare Quando siete emersi In questa esperienza fisica Non era vostra intenzione Chiedere al mondo Di cambiare soltanto Per soddisfare Le vostre opinioni Sul modo in Cui le cose Dovrebbero andare Eliminando tutto ciò Che non approvate E aumentando ciò Che approvate Voi siete invece qui Per creare intorno a voi Il mondo che voi Vi siete scelti Permettendo di esistere Al mondo di cui altri Hanno deciso l'esistenza E Mentre le loro scelte Non impediscono In alcun modo Le vostre La vostra attenzione A esse influenza La vostra vibrazione E quindi Il vostro polo Di attrazione I pensieri Hanno forza magnetica La legge dell'attrazione E la sua forza magnetica Raggiungono ogni angolo Dell'universo E attirano altri pensieri Che Vibrano allo stesso modo E li portano a voi La vostra attenzione Dedicata a determinati oggetti La vostra attivazione Di determinati pensieri E la risposta Della legge dell'attrazione A quei pensieri sono Responsabili di ogni persona Evento O fatto che giunge Nella vostra esperienza Tutto questo Viene portato Nelle vostre vite Attraverso una sorta Di potente imbuto magnetico Ogni volta che l'è Vibrazioni di quella persona Evento O fatto Corrispondono Ai vostri pensieri Si ottiene l'essenza Di ciò che si sta pensando Che sia qualcosa Che si vuole O che sia qualcosa Che non si vuole Questo dapprima Può risultare disorientante Ma nel tempo Ci aspettiamo Che apprezzerete La bellezza La coerenza E l'assolutezza Della potente Legge dell'attrazione Una volta compresa Questa legge E cominciato a badare A che cosa Si sta prestando attenzione Riguadagnerete il controllo Sulla vostra esistenza E possedendo Quel controllo Vi ricorderete Che non esiste Nulla di ciò Che desiderate Che non possiate ottenere E che non c'è nulla Di ciò Che non desiderate Che non possiate Tenere lontano Dalla vostra esperienza Comprendere Comprendere la legge Dell'attrazione E riconoscere L'assoluta coerenza Tra ciò che state Pensando E sentendo E ciò che Si sta manifestando Nella vostra esperienza Di vita Vi porterà A essere più consapevoli Degli stimoli Esercitati Sui vostri pensieri Comincerete a notare Che i vostri pensieri Possono essere stimolati Da qualcosa Che avete letto Visto in televisione O sentito E osservato Nell'esperienza Di altri E una volta Riconosciuto L'effetto Che la legge Dell'attrazione Esercita Sui pensieri All'inizio Piccoli E poi Sempre più Grandi E potenti A causa Dell'attenzione Prestata Sentirete in voi Nascere il desiderio Di dirigere i pensieri Su ciò che volete provare Perché qualunque Cosa stiate Considerando E a prescindere Da quale sia La fonte Che ha stimolato Quel pensiero Nel momento In cui La prendete In considerazione La legge Dell'attrazione Entra in funzione E comincia A offrirvi Altri pensieri Conversazioni Ed esperienze Di natura Analoga Che stiate Ricordando Il passato Osservando Il presente O immaginando Il futuro Lo state Facendo Proprio adesso E qualunque cosa Su cui vi state Concentrando Attiva Una vibrazione Cui la legge Dell'attrazione Risponde Dapprima Potete ponderare Un certo oggetto Per conto vostro Ma se vi pensate Suffigentemente A lungo Inizierete A notare Che altre persone Cominciano A parlarne Con voi Poiché La legge Dell'attrazione Sta trovando Altre persone Che offrano Una vibrazione Simile E le sta portando Proprio da voi Più a lungo Ci si concentra Su qualcosa Più questa Diventa potente Più forte Diventa il polo Di attrazione In quella direzione Più l'oggetto Del pensiero Si manifesta Nell'esperienza Di vita Che vi stiate Concentrando Su qualcosa Che vogliate Oppure no La materializzazione Dei vostri pensieri Scorre costantemente Verso di voi L'essere interiore Comunica Attraverso Le emozioni Voi siete Molto di più Di quanto Vediate qui Nei vostri Corpi fisici Perché Mentre siete Meravigliosi Creatori In questo Mondo fisico Esistete Simultaneamente In un'altra Dimensione C'è una parte Di voi Quella non fisica Che noi Chiamiamo essere Interiore Che esiste Anche adesso Mentre siete Concentrati Nei vostri Corpi Le emozioni Sono la manifestazione Fisica Del rapporto Col proprio Essere interiore In altre parole Quando siete concentrati su un oggetto e avete un particolare punto di vista e opinione su di esso Anche il vostro essere interiore è concentrato su di esso e ha un suo punto di vista e una sua opinione al riguardo Le emozioni che provate indicano se queste opinioni corrispondono o meno Per esempio Poniamo vi sia capitato qualcosa e che la vostra attuale opinione sia che avreste dovuto fare di meglio o che non Siete in gamba o che non valete niente Se l'opinione attuale del vostro essere interiore è che vi siete comportati bene e che siete in gamba ed infinito valore Si crea un disaccordo netto tra le vostre opinioni e voi percepirete questo disaccordo sotto forma di emozione negativa D'altro canto se invece vi sentite fieri di voi o amate voi stessi o qualcun altro La vostra opinione è più vicina a quella che il vostro essere interiore sta provando nello stesso momento e in quel caso sentirete emozioni positive di orgoglio amore e apprezzamento Il vostro essere interiore o energia della fonte offre sempre un punto di vista che è per voi di grande vantaggio E quando il vostro punto di vista concorda col suo si verifica un'attrazione positiva In altre parole, meglio vi sentite Meglio sta il vostro polo di attrazione e migliore sarà la piega che le cose prenderanno per voi La comparazione tra le vibrazioni del vostro punto di vista e quelle del vostro essere interiore genera la Magnifica guida sempre a vostra disposizione Spieghiamoci meglio Dal momento che la legge dell'attrazione risponde sempre alle vibrazioni che state presentando e agisce sempre su queste È di estremo aiuto comprendere che le vostre emozioni vi comunicano se nel vostro processo di creazione state creando qualcosa che volete o qualcosa che non volete Spesso, quando i nostri amici imparano la potente legge dell'attrazione e iniziano a comprendere chi sono loro ad attrarre Le cose a sé attraverso ciò che stanno pensando cercano di controllare ogni loro pensiero sentendosene minacciati Ma il controllo dei propri pensieri è un'impresa ardua perché sono moltissime le cose alle quali si può pensare e la legge dell'attrazione ne porta altre in continuazione Piuttosto che tentare di monitorare i vostri pensieri vi incoraggiamo a prestare semplicemente attenzione al vostro stato d'animo Infatti, quando scegliete un pensiero che non è in armonia col modo di vedere della parte più grande vecchia, saggia e amorevole di voi, l'essere interiore avvertite questo dissidio e potete quindi reindirizzare facilmente il vostro pensiero verso qualcosa che vi faccia sentire meglio e che vi sia anche più utile Quando decideste di emergere nei vostri corpi Sapevate che avreste avuto a disposizione questo eccellente sistema di guida emotivo Dal momento che sapevate che, attraverso le vostre magnifiche e sempre presenti emozioni Sareste stati in grado di determinare se stavate deviando dalla vostra più ampia consapevolezza o se la stavate seguendo Se si sta pensando in direzione di qualcosa che si desidera, si prova emozione positiva Se si sta pensando in direzione di qualcosa che non si desidera, si prova emozione negativa E così, semplicemente prestando attenzione al proprio stato d'animo Si conoscerà sempre la direzione da cui proviene ciò che il proprio potente essere magnetico sta attirando e quindi, se lo si vuole davvero L'onnipresente sistema di guida emotivo Il vostro magnifico sistema di guida emotivo è per voi di grande utilità Perché la legge dell'attrazione lavora sempre, che lo sappiate o no Perciò, ogni volta che pensate a qualcosa che non volete e rimanete concentrati su quel pensiero Per legge, ne attirate altri simili e altri ancora Fino magari ad attrarre nella vostra esperienza eventi o fatti corrispondenti Viceversa, se siete consapevoli del vostro sistema di guida emotivo e badate al vostro stato d'animo Avvertirete già nei primi sottili stadi che siete concentrati su qualcosa che non volete e potrete facilmente Cambiare direzione di pensiero, iniziando ad attrarre qualcosa che volete Se invece non prestate attenzione al vostro stato d'animo Non avvertirete a livello conscio che state pensando nella direzione di ciò che non volete e magari in tutta Tranquillità attrarrete nella vostra esistenza qualcosa di grande, potente e indesiderato Che in seguito avrete problemi a gestire Quando vi viene in mente qualcosa e sentite di bramarlo Questo significa che il vostro essere interiore è in corrispondenza vibrazionale rispetto a quell'idea e la vostra Emozione positiva indica che le vibrazioni del vostro pensiero, in quel momento, concordano con quelle del vostro essere interiore Questo fenomeno viene detto ispirazione In un dato momento si verifica una perfetta corrispondenza vibrazionale col punto di vista più ampio del proprio Essere interiore e grazie a questo allineamento si riceve una chiara comunicazione o guida dal proprio essere interiore Che fare per farlo accadere più in fretta? Per via della legge dell'attrazione si attraggono pensieri corrispondenti e così facendo li si rende più potenti Quando i pensieri diventano più potenti e quindi più vicini alla loro manifestazione L'emozione che si avverte diventa a sua volta proporzionalmente più grande Se siete concentrati su qualcosa che desiderate Attraverso la legge dell'attrazione verranno attratti sempre più pensieri che riguardano ciò che desiderate e voi Proverete una crescente emozione positiva Si può accelerare la creazione di qualcosa semplicemente prestandovi maggiore attenzione La legge dell'attrazione si occuperà del resto e realizzerà l'essenza dell'oggetto del proprio pensiero Definiamo le parole volere o desiderare come segue Concentrare l'attenzione o pensare a un oggetto provando in quel momento un'emozione positiva Se prestando attenzione a un oggetto si provano emozioni soltanto positive Questo entrerà presto nella propria esperienza Talvolta sentiamo che i nostri amici fisici usano le parole volere o desiderare provando allo stesso tempo Dubbio o paura che i desideri non possano essere raggiunti Dal nostro punto di vista Non è possibile desiderare in modo puro qualcosa mentre si prova un'emozione negativa Il puro desiderio è sempre accompagnato da emozione positiva Forse questo è il motivo per cui alcune persone non concordano sul nostro uso delle parole volere e desiderare Spesso sostengono che volere implica un senso di mancanza che contraddice la possibilità di provare emozioni positive E su questo siamo d'accordo Ma il problema non sta nel termine o nella sua definizione Bensì piuttosto nello stato emotivo espresso usando quella parola E nostro desiderio aiutarvi a comprendere che potete arrivare ovunque vogliate Qualunque sia la vostra situazione di partenza Non importa chi siate o quale sia l'attuale condizione della vostra esistenza La cosa più importante da capire è che lo stato mentale del vostro essere O il vostro atteggiamento È sempre alla base di ciò che attirerete Così la potente e coerente legge dell'attrazione risponde a ogni vibrazione di questo universo vibrazionale Mettendo insieme persone, situazioni e pensieri che hanno vibrazioni coincidenti Per questo tutto quanto accade nella vostra vita Dal modo in cui i pensieri fluiscono nella vostra mente alle persone che incrociate nel traffico Accade per via della legge dell'attrazione Come voglio vedere me stesso? Per la maggior parte di voi, molti aspetti della vostra vita vanno già bene E volete che rimangano così come sono Ma magari ce ne sono altri che vorreste fossero diversi Per cambiare le cose, dovete vederle come volete che siano Piuttosto che continuare a osservarle per come sono ora Probabilmente la maggioranza dei vostri pensieri riguardano quanto osservate Il che significa che l'esistente domina la vostra concentrazione, la vostra attenzione La vostra vibrazione e quindi il vostro polo d'attrazione Che si concilia con quanto pensa chi osserva voi Così come risultato della schiacciante quantità di attenzione Che la maggior parte di voi dedica alla situazione attuale L'esistente, i cambiamenti avvengono molto lentamente o non avvengono affatto Un flusso continuo di persone diverse scorre nella vostra vita Ma l'essenza o tema di queste esperienze non cambia granché Per effettuare cambiamenti positivi nelle vostre esistenze Dovete non fare caso a come stanno le cose e al modo in cui gli altri vi vedono E invece prestare maggiore attenzione al modo in cui preferireste che fossero Con la pratica, cambierete il vostro polo di attrazione E osserverete un sostanziale cambiamento nelle vostre vite La malattia può diventare salute Una mancanza di beni può diventare ricchezza Cattivi rapporti possono essere rimpiazzati da buoni rapporti La confusione dalla chiarezza e così via Indirizzando intenzionalmente i propri pensieri Piuttosto che limitandovi a osservare che cosa accade Comincerete a cambiare i modelli vibrazionali Cui risponde e reagisce la legge dell'attrazione E col tempo, ma con meno sforzo di quanto crediate adesso Non creerete più un futuro simile al vostro presente e al vostro passato Rispondendo al modo in cui gli altri vi percepiscono Sarete invece i potenti creatori intenzionali delle vostre esperienze Non capita spesso di vedere uno scultore Gettare un grosso mucchio di argilla giù dal tavolo da lavoro esclamando Oh, questo lavoro non voleva proprio venire Lo scultore sa che è lui a dover mettere le mani nell'argilla Lavorarla e plasmarla fino a che ciò che vede nella mente Non corrisponde all'argilla che ha sul tavolo La varietà della vostra esperienza di vita Vi offre l'argilla da cui voi plasmerete la vostra esperienza di vita E Limitarvi a guardarla così com'è Senza andare al di là e plasmarla intenzionalmente Affinché corrisponda ai vostri desideri Non dà soddisfazione e non è certo ciò che avevate in mente Quando avete deciso di giungere in questa realtà spazio-temporale Vogliamo che comprendiate che la vostra argilla, a prescindere dall'aspetto che ha adesso, è plasmabile Senza eccezioni Benvenuto, piccolo, sul pianeta Terra Potreste pensare che vi sarebbe stato più semplice ascoltare queste parole se vi fossero giunte nel primo giorno Della vostra esperienza su questo pianeta E se noi vi avessimo parlato il vostro primo giorno di vita fisica Vi avremmo detto questo Benvenuto, piccolo, sul pianeta Terra Non c'è nulla che tu non possa essere, fare o avere Tu sei un magnifico creatore e sei qui perché hai voluto essere qui in modo potente e intenzionale Per farlo sei ricorso alla meravigliosa scienza della creazione intenzionale E essendo in grado di farlo, sei qui Va avanti pensando a ciò che desideri Attirando esperienze di vita che ti aiutino a decidere che cosa vuoi e Una volta che avrai deciso, pensa soltanto a quello Spenderai la maggior parte del tuo tempo raccogliendo informazioni Informazioni che ti aiuteranno a trovare le tue aspirazioni Il tuo vero lavoro consisterà nel decidere che cosa vuoi e poi concentrarti su questo Dal momento che è concentrandoti su ciò che desideri che lo attirerai a te Questo è il processo di creazione Pensare a ciò che desideri Pensarci tanto e con una tale chiarezza da far generare emozioni al tuo essere interiore Pensando con tale emozione diventerai il più potente di tutti i magneti Questo è il metodo con cui attirerai nella tua esperienza ciò che desideri Molti dei pensieri che farai non attireranno nulla in modo potente Non all'inizio né finché non starai concentrato su di essi abbastanza a lungo da farli crescere di numero Poiché, diventando maggiori in quantità, diventeranno maggiori in potere E quando saranno cresciuti in quantità e potere L'emozione che sentirai provenire dal tuo essere interiore diventerà più grande Quando pensi pensieri che portano con sé emozioni stai attingendo al potere dell'universo Prosegui Diremmo in questo primo giorno di esistenza sapendo che il tuo compito sarà decidere ciò che vuoi e poi Concentrarti su questo Ma non vi stiamo parlando dal primo giorno della vostra esperienza di vita Siete qui già da un po' La maggior parte di voi si è vista, e non solo attraverso i propri occhi, a dire la verità Soprattutto non attraverso i propri occhi, ma anche attraverso gli occhi degli altri Quindi, molti di voi non sono attualmente nella condizione di esistenza in cui vorrebbero trovarsi La mia realtà è realmente tutto il reale? Noi vogliamo mostrarvi una strada per raggiungere lo stato di essere che è di vostra scelta Cosicché potrete attingere al potere dell'universo e iniziare ad attirare gli oggetti della vostra volontà Piuttosto che gli oggetti che appartengono alla vostra condizione di esistenza attuale Dal nostro punto di vista, infatti, c'è un'enorme differenza tra ciò che ora esiste Che voi chiamate la vostra realtà E ciò che la vostra realtà è realmente Perfino se vi trovate in un corpo non sano, o in uno che non ha le dimensioni La forma o l'energia che volete In uno stile di vita che non vi piace Se state guidando un'automobile che vi imbarazza o interagendo con altri che non vi allietano Noi siamo qui per aiutarvi a comprendere che, se anche tutto questo può sembrarvi la vostra condizione di esistenza Non è detto che lo sia La vostra condizione di esistenza è il modo in cui percepite voi stessi in un qualunque momento Come aumentare la forza magnetica I pensieri che non provocano forti emozioni non hanno grande forza magnetica In altri termini, benché ogni pensiero abbia un potenziale creativo o una potenziale forza d'attrazione Quelli che si accompagnano a una forte emozione sono i più potenti Certamente, la maggior parte dei vostri pensieri non ha una grande forza d'attrazione Mantengono più o meno ciò che state già attirando Come si può allora non vedere l'importanza di dedicare 10 o 15 minuti al giorno a formulare Intenzionalmente pensieri potenti che evochino emozioni grandi, intense, appassionate e positive Al fine di attirare nella propria esistenza fatti ed eventi desiderati? Noi lo consideriamo molto importante Vi presenteremo un metodo con cui potete spendere intenzionalmente un poco di tempo, ogni giorno Per attirare nella vostra esperienza salute, energia, prosperità, interazioni positive con gli altri Tutti gli aspetti che formano l'immagine di vita che sarebbe perfetta per voi E sarà una svolta, amici, poiché, volendo e ricevendo Otterrete non solo il beneficio di ciò che avete creato Ma anche una nuova prospettiva che renderà diversi i vostri desideri Stiamo parlando di evoluzione e crescita Il metodo del laboratorio creativo Ecco il metodo Entrerete in una sorta di laboratorio creativo ogni giorno, non per molto tempo 15 minuti vanno già bene, 20 sono già abbondanti Questo laboratorio non deve aver luogo necessariamente sempre nello stesso posto Ma comunque dove non sarete distratti o interrotti Non entrerete in questo luogo in uno stato alterato di coscienza Non si tratta di una sorta di meditazione In questo luogo, anzi, penserete a ciò che volete con tanta chiarezza Che il vostro essere interiore vi risponderà con Emozioni positive Prima di intraprendere il procedimento, è importante essere felici Dal momento che, se vi andrete sentendovi infelici o apatici Il vostro lavoro non sarà di grande portata Dal momento che la vostra forza di attrazione non entrerà in gioco Quando diciamo felici non intendiamo in alcun modo dire che dovete saltare dall'eccitazione Bensì che dovete sentirvi pervasi di un sentimento elevato e sereno Quel tipo di sensazione che si prova quando tutto va bene Dunque vi consigliamo di fare qualunque cosa vi renda felici in questo senso Per ciascuno di voi si tratterà di una cosa diversa Per Esther, per esempio Ascoltare musica è un modo molto veloce di raggiungere questa sensazione elevata e gioiosa Ma non tutti i tipi di musica sono adatti e neppure la stessa musica ogni volta Per altri sarà giocare col proprio animale domestico o stare accanto a un torrente In ogni caso, quando avrete raggiunto questo sentimento positivo Sedetevi e cominciate il vostro laboratorio Quello che dovrete fare in questo laboratorio è assimilare le informazioni che avete raccolto dalla vostra Esperienza di vita quotidiana, interagendo con gli altri e muovendovi nel vostro ambiente fisico Il vostro compito qui è assemblare le informazioni ottenute in una specie di immagine di voi Che vi soddisfi e che sia di vostro gradimento La vostra esistenza fuori dal laboratorio sarà di grande importanza Perché, mentre vi muovete nel corso della giornata, non importa che cosa stiate facendo se stiate andando al lavoro Sbrigando faccende di casa, interagendo col partner, gli amici, i figli o i genitori Se impiegherete il vostro tempo mirando, tra l'altro, a raccogliere dati e cercare ciò che vi piace da portare nel vostro laboratorio Allora troverete che ogni giorno sarà divertente Non siete mai andati in un centro commerciale con qualche soldo in tasca e l'intenzione di trovare qualcosa da comprare E mentre vi guardavate intorno, benché ci fossero molte cose che non vi interessavano Voi volevate trovare qualcosa da scambiare col vostro denaro? Ebbene, questo è il modo in cui vorremmo che guardaste ogni giorno della vostra vita Come se aveste un mucchio di soldi con cui comprare le informazioni che state cercando Per esempio, potreste vedere qualcuno dotato di un carattere allegro Raccogliete quell'informazione e più tardi Portatela nel vostro laboratorio Potreste vedere qualcuno alla guida di un'auto che vi piacerebbe conoscere Raccogliete l'informazione Potreste vedere un impiego che vi piace Qualunque cosa vediate che vi piaccia, ricordatela, potete anche prendere un appunto Quando trovate qualcosa che pensate vi piacerebbe vedere nella vostra esistenza Immaginate di raccogliere quel dato in una specie di archivio mentale Poi, quando andrete nel vostro laboratorio Comincerete ad assimilare le informazioni E facendo così Preparerete un'immagine di voi stessi Che inizierà ad attrarre nella vostra esperienza l'essenza delle cose che vi sono piaciute Se siete in grado di afferrare che il vostro lavoro reale Non importa quali altre attività esercitiate È guardarvi intorno alla ricerca di cose che volete Con l'obiettivo di portarle poi nel vostro laboratorio E creare una visione di voi stessi che vi attraga Allora giungerete a comprendere che non c'è nulla Che non possiate essere, fare o avere Ora sono nel mio laboratorio creativo Immaginiamo dunque che ora vi sentiate felici E siete seduti da qualche parte nel vostro laboratorio Qui c'è un esempio del lavoro che potete fare nel vostro laboratorio creativo Mi piace essere qui, riconosco l'importanza e il potere di questo momento Mi sento molto bene quando sono qui Mi vedo avvolto in una sorta di involucro Un involucro di mia scelta che so di aver creato io In questa immagine di me mi sento pieno di energia Non provo stanchezza e mi muovo attraverso l'esistenza Senza incontrare alcuna resistenza Mi vedo scorrere lungo la giornata Entrando e uscendo dall'auto Da edifici, stanze, conversazioni ed esperienze di vita Mi vedo fluire in modo disinvolto, agile e felice Mi vedo attrarre soltanto da ciò che è in armonia con i miei attuali desideri Ogni istante sono sempre più lucido riguardo a quello che voglio Quando salgo in macchina mi vedo arrivare a destinazione sano, ristorato e puntuale Pronto a qualunque cosa debba fare Mi vedo vestito alla perfezione, esattamente nella maniera che ho scelto È bello sapere che non ha importanza il modo che hanno scelto gli altri E neanche quello che gli altri pensano riguardo Al modo che ho scelto io Ciò che conta è che io piaccia a me stesso E guardandomi è certamente così Riconosco che ogni aspetto della mia vita non ha confini Ho un conto in banca con credito illimitato E vedendomi muovere attraverso l'esistenza È divertente sapere che nulla di ciò che scelgo È limitato dalla mia disponibilità economica Prendo tutte le decisioni sulla base di ciò che voglio provare E ciò che non voglio provare Non sulla base di ciò che credo di potermi permettere Perché sono un magnete che attira, in ogni istante, ricchezza Salute, relazione o qualunque altra cosa scelga Io scelgo l'abbondanza assoluta e continua Perché comprendo che non c'è limite alla ricchezza dell'universo E che, attirando questa ricchezza verso di me, non ne sto privando altri Ce n'è abbastanza per tutti La cosa fondamentale, per ognuno di noi, è capire e volere E allora ognuno di noi attirerà ciò che desidera Quindi scelgo senza pormi limiti E senza dover mettere da parte grossi risparmi Perché capisco di avere il potere di attrarre Quando voglio qualunque cosa voglio E se mi viene in mente altro che voglio Il denaro mi arriva facilmente Ho una scorta illimitata di ricchezza e prosperità C'è ricchezza in ogni aspetto della mia esistenza Mi vedo circondato da altre persone che, come me Vogliono crescere e che sono state attratte a me Perché permetto loro di essere, fare e avere qualunque cosa vogliano Senza che io debba per forza attirare nella mia esperienza Quelle cose che, tra quelle che loro hanno scelto Possono non piacermi Mi vedo interagire con gli altri E parlare, ridere e gustare ciò che vuoi di perfetto in loro Mentre loro gustano ciò che vuoi di perfetto in me Ognuno di noi apprezza l'altro E nessuno di noi critica o fa notare le cose che non ci piacciono Mi vedo in perfetta salute Mi vedo in assoluta prosperità Mi vedo corroborato dalla vita Mentre apprezzo questa esperienza di vita fisica Che ho desiderato tanto da decidere di concentrarmi in un essere fisico E splendido trovarsi qui come essere fisico Decidendo con la mia mente Ma attingendo al potere dell'universo Attraverso il potere della legge dell'attrazione Partendo da una meravigliosa condizione di esistenza Continuo ad attrarre altra meravigliosa esistenza Tutto ciò è buono È divertente E mi piace molto Lascerò questo laboratorio e baderò durante il resto della giornata A cercare altre cose che mi piacciono È bello sapere che se vedo una persona ricca ma malata Non avrò bisogno di portare l'intera informazione nel mio laboratorio Ma solo la parte che mi piace Così, per esempio, ci porterò la ricchezza E lascerò fuori la malattia Il mio lavoro per ora è svolto Le leggi non sono tutte leggi universali? Jerry Abram Ci avete parlato di tre grandi leggi universali Ci sono altre leggi che non sono universali? Abram Ci sono molte cose che potresti chiamare leggi Noi però riserviamo la definizione di legge a quelle che sono universali In altri termini, entrando in questa dimensione fisica, si hanno quelle che noi chiamiamo convenzioni del tempo Della gravità e della percezione dello spazio Ma queste convenzioni non sono universali Dal momento che ci sono altre dimensioni che non condividono esperienze di questo tipo In molti casi, laddove voi usereste la parola legge, noi usiamo la parola convenzione Non ci sono altre leggi universali che intendiamo rivelarvi più avanti Qual è il modo migliore di usare la legge dell'attrazione? Jerry Ci sono molti modi diversi di usare consapevolmente o intenzionalmente questa legge dell'attrazione Abram Inizieremo col dire che la state sempre utilizzando, che ne siate consapevoli o no Non potete smettere di usarla, dal momento che è insita in tutto ciò che fate Ma apprezziamo la tua domanda Perché vuoi capire come la si può usare intenzionalmente per raggiungere ciò che si desidera consapevolmente? Essere consapevoli dell'esistenza della legge dell'attrazione è il passo più importante da fare per poterla Utilizzare in modo intenzionale Poiché la legge dell'attrazione risponde sempre ai vostri pensieri Una concentrazione intenzionale dei vostri pensieri è importante Scegliete oggetti che vi interessano e pensateci in un modo che sia di giovamento In altre parole, guardate gli aspetti positivi degli oggetti che ritenete importanti Quando scegliete un pensiero, la legge dell'attrazione agirà su questo Attirandone altri simili e rendendo più potente il pensiero di partenza Rimanendo concentrati su un oggetto di vostra scelta Il vostro polo d'attrazione diverrà molto più potente rispetto a quando la vostra mente si muove da un oggetto all'altro C'è un potere immenso e insito nella concentrazione Quando si scelgono intenzionalmente i pensieri, le azioni e perfino le persone con cui si trascorre il tempo Si avvertono subito i benefici della legge dell'attrazione Stare con persone che vi apprezzano stimola l'apprezzamento che avete di voi stessi Al contrario, stando con persone che guardano i vostri difetti Spesso accade che la loro percezione dei vostri difetti influenza negativamente il vostro polo di attrazione Quando si giunge a comprendere che qualunque cosa a cui si presta attenzione diventa più grande Perché la legge dell'attrazione dice che così deve essere Si possono cogliere molti più particolari riguardo a ciò a cui si è prestato inizialmente attenzione È molto più facile cambiare la direzione dei propri pensieri nei primi stadi Cioè, prima che abbiano raccolto troppo slancio Tuttavia è possibile cambiare la direzione dei pensieri in qualunque momento Si può invertire all'istante lo slancio creativo? Jerry Diciamo che nella vita di un individuo, a causa dei suoi pensieri precedenti Si sta già manifestando qualcosa E che adesso questi decide di cambiare improvvisamente la direzione della sua creazione Non c'è un elemento di slancio? Non si deve prima rallentare in qualche modo ciò che si è iniziato a creare? O si può istantaneamente creare in un'altra direzione? Abraham Esiste un fattore di slancio e deriva anch'esso dalla legge dell'attrazione La legge dell'attrazione dice Si attira ciò che è simile a sé Così, qualunque pensiero si sia attivato, lo si incrementa con la propria attenzione Ma vogliamo che capiate che l'accumulo di slancio è una faccenda graduale Quindi, piuttosto che cercare di distogliervi dal pensiero di cui non volete materializzare l'essenza Pensate a concentrarvi su un altro pensiero Diciamo che avete pensato qualcosa che non volete e che l'avete fatto per un po' Per cui avete creato uno slancio negativo alquanto forte Non potreste iniziare improvvisamente a pensare il pensiero opposto Infatti, dalla condizione in cui vi trovate, non riuscireste nemmeno a raggiungere pensieri di segno opposto Ma potreste scegliere un pensiero leggermente migliore rispetto a quelli che avete fatto fino a quel momento E poi altri e altri ancora, fino a cambiare gradualmente la direzione dei vostri pensieri Un altro metodo efficace per cambiare la direzione del proprio pensiero è cambiare completamente l'oggetto Guardando intenzionalmente il lato positivo di altro Se si è in grado di farlo e si prova a stare concentrati sul pensiero migliore per un po', allora Poiché la legge dell'attrazione risponde ora a quel pensiero, l'equilibrio dei propri pensieri sta migliorando Ora, poiché si è in un differente stato di vibrazione, tornando a visitare il precedente pensiero negativo Esso sarà leggermente influenzato dal miglioramento della propria vibrazione Poco per volta si migliorerà il contenuto vibrazionale dell'oggetto che si è scelto di pensare E quando ciò accade, ogni cosa nella vita inizia a scorrere in una direzione migliore Come si può superare la delusione? Jerry ha una persona che sta cercando di dare una forte svolta positiva al proprio benessere e alla propria salute E che ha già un fattore di slancio in senso contrario Quanta fede o fiducia è richiesta per superare la delusione e dire Va bene, so che da adesso le cose miglioreranno, anche se ora come ora non migliorano? Abraham, vedi, dal vostro stato di delusione attirate soltanto altra delusione Comprendere il processo di creazione è davvero la cosa migliore da fare Questo è il senso del laboratorio creativo, dell'essere felici e del visualizzare, come fosse già realizzato Ciò che state aspettando? Bisogna immaginarlo e pensarlo fino a crederci con tanta nitidezza da provare emozioni positive Da questa condizione di esistenza si attira la realizzazione di ciò che si desidera La delusione è una comunicazione del vostro essere interiore Che vi fa sapere che ciò su cui siete concentrati in questo momento non è quello che volete Se siete attenti al vostro stato d'animo Allora sarà la vostra stessa delusione a farvi sapere che ciò a cui state pensando non è quello che volete provare Bisogna cercare la causa delle proprie emozioni negative? Jerry Supponiamo che io stia usando il metodo del laboratorio creativo per concentrarmi su ciò che desidero, ma che? Più tardi mi trovi fuori dal laboratorio e provi un'emozione negativa Voi mi consigliereste di cercare di scoprire quale pensiero ha causato quell'emozione? O mi consigliereste solo di pensare a una delle cose che voglio e che ho pensato nel laboratorio? Abraham Il potere del metodo del laboratorio creativo sta nel fatto che Più attenzione si attribuisce a un oggetto, più potente esso diventa Più è facile pensarvi Più comincia a manifestarsi o materializzarsi nella propria esperienza Ogni volta che avvertite consapevolmente un'emozione negativa, è importante sapere che Anche se potete non esserne consapevoli, avete condotto un laboratorio negativo Ogni volta in cui vi sorprendete a provare emozioni negative Vi suggeriamo di cercare di guidare delicatamente i vostri pensieri verso qualcosa che volete provare E poco a poco perderete l'abitudine a pensare alle cose negative Se riuscite a individuare qualcosa che non volete, potete sempre individuare qualcosa che volete Se non altro per contrasto, facendo questo con perseveranza, il vostro modo di pensare Riguardo a qualunque cosa sia importante per voi, slitterà sempre più nella direzione che volete In altri termini, creerete progressivamente dei ponti che vi permetteranno di superare i vostri attuali convincimenti o aspettative Riguardo a cose che non volete e raggiungerne altri riguardo a cose che volete Un esempio di superamento di un'aspettativa indesiderata Jerry Potete fare un esempio di come si superano un convincimento o un'aspettativa Abraham Il sistema di guida emotivo lavora meglio quando si manifestano in modo continuo propositi chiari riguardo a ciò che si desidera Supponiamo, per esempio, che nel vostro laboratorio vi siate posti come scopo la perfetta salute Vi siete visualizzati come esseri sani e vitali Ora state trascorrendo la vostra giornata e a mezzogiorno pranzate con un'amica che vi parla della sua malattia Mentre lei parla del suo problema, voi sentite che la conversazione vi mette a disagio e vi inquieta Ora, il vostro sistema di guida vi sta indicando che quello che state sentendo e pensando Ciò di cui parla la vostra amica non è in armonia con i vostri propositi A quel punto decidete fermamente di impedire che la conversazione prosegua ancora in quella direzione E così tentate di cambiare argomento Ma la vostra amica è molto accalorata e avvinta da quel tema Perciò riporta la conversazione sulla sua malattia I campanelli d'allarme del vostro sistema di guida riprendono a suonare Il motivo per cui sentite emozioni negative non sta solo nel fatto che la vostra amica sta parlando di qualcosa Che non volete L'emozione negativa indica che avete convincimenti o aspettative che sono contrari al vostro desiderio La conversazione con la vostra amica non fa altro che attivare in voi aspettative che contraddicono il vostro Desiderio di stare bene Per cui non basterà allontanarsi dalla vostra amica e da quella conversazione per cambiare i vostri convincimenti È invece necessario partire da dove siete dal mezzo di quel convincimento e muoversi gradualmente Costruendo un ponte, per così dire Che vi porti a un altro pensiero più in armonia col vostro desiderio di benessere Ogni volta che provate un'emozione negativa È utile fermarsi e riconoscere che cosa si stava pensando quando è affiorata quell'emozione Ogni volta che provate un'emozione negativa Il vostro essere interiore vi sta dicendo che quello cui state pensando è importante E che state pensando il contrario di quello che desiderate in realtà Domande come Che cosa stavo pensando quando è immersa quest'emozione negativa E che cosa voglio a questo riguardo Vi aiuteranno a comprendere che, in quel momento Siete concentrati nella direzione opposta rispetto a ciò che in realtà volete attrarre nella vostra esperienza Per esempio Che cosa stavo pensando quando è immersa quest'emozione negativa Stavo pensando che questa è la stagione dell'influenza E stavo ricordando quanto mi ha fatto stare male in passato Non solo sono mancato al lavoro e non ho potuto fare molte cose che volevo fare Ma mi sono sentito malissimo per parecchi giorni Che cos'è che voglio? Quest'anno voglio rimanere in salute Ma in genere limitarsi a dire Voglio rimanere in salute è, a queste condizioni, insufficiente Perché il vostro ricordo dell'influenza Unito alla vostra aspettativa riguardo alle probabilità di prendersela anche quest'anno Sono molto più forti del vostro desiderio di rimanere in salute Noi tenteremmo di superare il vostro convincimento in questa maniera Questo è il periodo dell'anno in cui in genere prendo l'influenza Quest'anno non voglio prendere l'influenza Spero di non prendere l'influenza quest'anno Sembra che tutti la prendano Questa deve essere un'esagerazione Non tutti la prendono Infatti ci sono stati molti anni in cui io stesso non l'ho presa Non ho sempre preso l'influenza È possibile che quest'anno l'influenza venga E se ne vada senza neanche sfiorarmi Mi piace l'idea di essere sano Le esperienze che ho avuto con l'influenza Mi sono capitate prima di capire che io posso controllare la mia esperienza Ora che capisco il potere dei miei pensieri Le cose sono cambiate Ora che capisco il potere della legge dell'attrazione Le cose sono cambiate Non è necessario che io prenda l'influenza quest'anno Non è necessario che prenda nulla che non voglio Sono in grado di dirigere i miei pensieri verso ciò che voglio provare Mi piace l'idea di guidare la mia vita verso ciò che voglio A questo punto avete superato il convincimento negativo Se questo pensiero dovesse ritornare e potrebbe succedere per qualche tempo Basta che guidiate i vostri pensieri in modo più consapevole E alla fine non apparirà più I pensieri creano anche nel sonno? Jerry, vorrei capire il mondo dei sogni Mentre sogniamo, creiamo? Attiriamo qualcosa attraverso i pensieri che facciamo nei sogni? Abraham, no Mentre si dorme, la coscienza si ritrae dalla realtà spazio-temporale E nel sonno non si attira nulla Detto questo, ciò che state pensando e anche sentendo È sempre molto vicino a ciò che attirate a voi Perciò, quello che state pensando e sentendo mentre sognate E quello che si manifesta nella vostra esperienza di vita Sono Sempre quasi coincidenti I sogni vi permettono un'occhiata su ciò che avete creato O su ciò che state creando Ma mentre sognate, non siete di per sé coinvolti nel processo di creazione Avendo sviluppato il vostro modo di pensare lentamente su un lungo periodo Spesso siete inconsapevoli del modo in cui pensate Fino a che le conseguenze non si manifestano in modo reale Nella vostra esperienza Inoltre, sebbene sia possibile concentrarsi e tramutare qualcosa di indesiderato In qualcosa di desiderato anche una Volta che si è manifestato, è comunque più difficile Una comprensione di ciò che sono in effetti i sogni Può aiutare a riconoscere la direzione dei propri pensieri Prima che si materializzino nella propria esperienza È molto più facile correggere la direzione dei propri pensieri Quando a indicarla sono i sogni Rispetto a quando a farlo è una manifestazione interna alla vita reale Si deve prendere il buono e il cattivo? Jerry A che livello condividiamo una cosa attirata Consapevolmente o meno Da qualcuno cui siamo legati In altri termini In che misura le altre persone che sono legate a noi portano nella nostra vita ciò che hanno attratto Desiderato o indesiderato che fosse Abraham Nulla può entrare nella vostra vita senza che vi abbiate rivolto attenzione La maggior parte delle persone, comunque Non è molto selettiva nello scegliere su quali aspetti degli altri porre la propria attenzione In altre parole, se vi interessate a tutto ciò che riguarda una certa persona Allora state invitando nella vostra esperienza tutto ciò che la riguarda Se invece prestate attenzione soltanto a quanto di lei vi piace di più Inviterete nella vostra esperienza soltanto questo Se qualcuno è nella vostra vita, è perché ce l'avete attratto E sebbene per alcuni sia difficile da ammettere Attirate ogni vostra esperienza che lo riguardi Poiché nulla entra nella vostra esistenza senza che l'abbiate attirato di persona Devo oppormi al malvagio? Jerry Così non abbiamo alcun bisogno di respingere le cose negative Dobbiamo limitarci ad attirare quelle positive? Abraham Non è possibile spingere lontano da sé le cose che non si vogliono Perché mettendosi contro di esse in realtà Non si fa altro che attivarne la vibrazione e quindi attirarle Ogni cosa in questo universo è regolata dall'attrazione In altre parole, non esiste l'esclusione Quando si urla no a una cosa indesiderata In realtà la si sta invitando nella propria vita Quando si urla sì a una cosa desiderata La si sta invitando nella propria vita Jerry Il detto non opporti al malvagio probabilmente deriva da questo Abraham Se si resiste a qualcosa ci si concentra su questa Opponendosi se ne attiva la vibrazione Quindi la si attira Non è una buona idea opporsi a ciò che non si vuole Le parole non opponetevi al malvagio Quindi devono essere state dette da qualcuno abbastanza saggio da comprendere che Ciò che gli umani chiamano male non esiste Jerry Abraham Quale sarebbe la vostra definizione della parola male? Abraham Non c'è ragione per cui la parola male debba esistere nel nostro vocabolario Perché non vuoi nulla che conosciamo cui daremmo una simile etichetta Quando gli umani usano questa parola In genere intendono ciò che è opposto al bene Abbiamo notato che quando gli umani usano la parola male Intendono qualcosa di opposto alla loro idea di ciò che è buono O di ciò che è Dio Male è tutto ciò che si ritiene non in armonia con quello che si desidera Jerry E bene? Abraham Bene è ciò che si crede di volere Vedi bene e male sono solo modi per dire voluto e non voluto E voluto e non voluto si applicano soltanto a ciò che si desidera a livello individuale La questione di per sé semplice diventa insidiosa quando gli umani si immischiano nei desideri altrui E ancora più insidiosa quando tentano di controllarli Come scoprire che cosa si vuole veramente? Jerry Una delle preoccupazioni che più spesso ho sentito esprimere nel corso degli anni è beh Io non so nemmeno che cosa voglio Come facciamo a scoprire che cosa vogliamo? Abraham Siete giunti in questa esperienza di vita fisica con lo scopo di provare la varietà e il contrasto Per scoprire le vostre preferenze e i vostri desideri personali Jerry Potete darci un'idea di come possiamo procedere per scoprire ciò che vogliamo? Abraham La vostra esperienza di vita vi aiuta continuamente a identificare ciò che volete Se siete ben consapevoli anche soltanto di cosa non volete In quel momento state già venendo in chiaro di ciò che volete Ed è utile formulare il proposito voglio sapere che cosa voglio perché Quando vi ponete questo obiettivo in modo consapevole Il processo di attrazione viene intensificato Jerry Quindi la persona che dice voglio sapere che cosa voglio In quello stesso momento sta cominciando a scoprirlo? Abraham Attraverso le vostre esperienze non potete fare altro che maturare dal vostro punto di vista Opinioni e preferenze personali Preferisco questo a quello Vi piace più quello di questo? Voglio provare questo Non voglio provare quello Setacciando i dettagli delle vostre esperienze È inevitabile che giungiate alle vostre conclusioni Non crediamo che nel decidere che cosa vogliono Le persone siano tanto in difficoltà quanto lo sono quando non credono di poterlo ottenere In questo caso dal momento che non hanno compreso il potere della legge dell'attrazione E poiché non sono consapevoli delle vibrazioni che stanno emettendo Non hanno mai provato alcun controllo consapevole sulle cose che entrano nella loro esistenza Al contrario, molti hanno provato il disagio di volere davvero qualcosa e di lavorare molto duro per cercare di ottenerlo Solo per continuare a restarne privi Questo perché pensano più all'assenza di quel qualcosa piuttosto che al fatto che presto lo otterranno Così, col tempo, associano il cercare di ottenere qualcosa di desiderato col lavoro Le fatiche e le delusioni Così, quando dicono non so che cosa voglio In realtà intendono dire non so come ottenere quello che voglio o non voglio fare ciò che penso sia necessario Per cercare di ottenere quello che voglio E non ho più nessuna voglia di lavorare duro solo per poi non ottenere quello che Voglio e rimanere un'altra volta deluso Dire voglio sapere che cosa voglio È un primo e potente passo nel processo di creazione intenzionale Ma poi, occorre dirigere intenzionalmente la propria attenzione Verso le cose che si vogliono attirare nella propria vita La maggior parte delle persone non ha mai diretto intenzionalmente i propri pensieri verso ciò che davvero vuole E si limita invece a osservare ciò che accade intorno a sé Così queste persone, quando vedono qualcosa che piace a loro, provano un'emozione positiva Ma quando vedono qualcosa che non piace a loro, provano un'equivalente emozione negativa Pochi comprendono di poter controllare il loro stato d'animo e poter determinare le esperienze che entrano nella Loro vita, semplicemente dirigendo i propri pensieri in modo intenzionale Poiché non sono abituati a farlo, occorre pratica Questo è il motivo per cui incoraggiamo il metodo del laboratorio creativo Dirigendo intenzionalmente i propri pensieri e creando nella mente scenari piacevoli che evocano dentro di voi Emozioni positive, iniziate a cambiare il vostro polo di attrazione L'universo risponde ai pensieri che state facendo e non distingue tra quelli che fate osservando qualcosa di reale di Cui siete stati testimoni e quelli elaborati dalla vostra immaginazione In entrambi i casi, quei pensieri corrispondono al vostro polo di attrazione E se vi concentrate sufficientemente a lungo su di essi, diventeranno la vostra realtà Volevo il blu e il giallo e ora ho il verde Quando avete le idee chiare su qualunque cosa vogliate, la otterrete in tutto e per tutto Tuttavia, spesso non avete le idee chiarissime Per esempio, uno potrebbe dire voglio il colore giallo e voglio il colore blu Ma poi finisce col ritrovarsi il verde Al che pensa come ho fatto a ottenere il verde? Non era affatto quello che intendevo Ma quel verde non è altro che la combinazione dei due desideri che aveva formulato Mescolando il giallo e il blu, infatti, si ottiene il verde In modo analogo, a livello inconscio, dentro di voi c'è un continuo mescolio di desideri Tanto complesso che i vostri meccanismi di pensiero cosciente non sono sempre in grado di metterli in ordine Ma il vostro essere interiore può farlo e può offrirvi emozioni guida Dovete soltanto prestare attenzione al vostro stato d'animo E lasciarvi attrarre da quanto vi sembra buono e giusto Allontanandovi da quanto non lo è Una volta presa confidenza col processo di chiarificazione dei propri desideri Fin da subito, nel corso delle interazioni con gli altri, comprenderete se quello che vi stanno offrendo merita Saprete sempre se volete invitarli nella vostra esperienza o farne a meno La vittima attira il rapinatore? Jerry Posso immaginare che un rapinatore sia attratto da altre persone che rapinano Ma è più difficile pensare che le vittime innocenti, come vengono chiamate, attirino i rapinatori O che le persone discriminate attirino il pregiudizio Abram Invece lo fanno Aggressore e aggredito sono co-creatori dell'aggressione Jerry Ovvero sia questo sta pensando a una cosa che non vuole e la ottiene Quello a una cosa che vuole e la ottiene Ne ottiene l'essenza in termini vibrazionali Detto altrimenti, si tratta di quella che voi chiamate una corrispondenza vibrazionale? Abram Il fatto che si voglia o no l'esperienza in questione non fa alcuna differenza A essere attratta è l'essenza vibrazionale dell'oggetto cui è rivolta l'attenzione Cioè la materializzazione corrispondente Si ottiene quello che si desidera intensamente e quello che non si vuole altrettanto intensamente L'unico modo per evitare lo sviluppo di un potente pensiero emozionale riguardo a una certa esperienza e non Dare peso al primo pensiero che se ne fa, di per sé non molto potente Poniamo caso che tu legga sul giornale che qualcuno è stato rapinato Finché non ne leggi un resoconto dettagliato che susciti in te una grande emozione Leggere o sentire qualcosa non necessariamente ti regolerà in modalità attrattiva Ma se ne leggi, vedi in televisione o parli con altri fino a sviluppare una risposta emotiva verso questo fatto Allora, stai cominciando ad attirare a te un'esperienza analoga Quando si valutano le statistiche relative al numero di rapine verificatesi ogni anno Bisogna comprendere che è così alto e cresce sempre più Perché molte persone sono state stimolate da questo pensiero Ammonimenti di questo tipo non proteggono dalle rapine Le rendono invece più probabili Riescono così bene a rendervi consapevoli della diffusione delle aggressioni Portandole continuamente alla vostra attenzione Che non solo vi pensate con emozione Ma arrivate anche ad aspettarvi Non c'è da stupirsi se in questo modo si ottengono cose che non si vogliono Dipende dal fatto che si presta tanta attenzione a ciò che non si vuole Quando sentite parlare di un'aggressione vi consigliamo di pensare Questa è la loro esperienza Io non ho scelto nulla del genere Poi smettete di pensare a quello che non volete Perché si ottiene ciò che si sta pensando Che lo si voglia o meno Siete immersi in questo ambiente Pieno di altre persone Perché volevate provare la magnifica esperienza della co-creazione Tra tutte le persone esistenti Voi potete attrarre nella vostra vita Quelle con cui vi piacerebbe creare positivamente E potete attrarre da loro soltanto le esperienze che vi piacerebbe creare Non è necessario né possibile nascondersi o evitare intenzionalmente persone o esperienze indesiderate Ma è possibile attrarre intenzionalmente soltanto le persone e le esperienze che vi piacciono Ho deciso di correggere la mia vita Jerry Ricordo che, quando ero ragazzino, ero fisicamente molto debole e cagionevole di salute Una volta adolescente decisi di diventare fisicamente più forte e imparare a difendermi da me E così praticai arti marziali e divenni molto bravo nell'autodifesa Dall'adolescenza fino ai 33 anni trascorrevo raramente una settimana senza aver fatto una scazzottata Senza aver dato un pugno a nessuno Poi, compiuti 33 anni, dopo aver letto, su dei talmudi cantologi Quanto fosse controproducente farsi giustizia da sé Presi alcune importanti decisioni Una delle quali fu quella di non farmi più giustizia in quel modo Da allora non ho mai più dovuto alzare una mano In altri termini Tutti i facinorosi che vedevo prendere di mira qualcuno E con cui mi capitava di battermi smisero di incrociare La mia strada dal giorno in cui smisi, fisicamente e mentalmente, di praticare la lotta Abraham, quindi, compiuti i 33 anni, hai reindirizzato la tua attenzione Vedi, mentre vivevi la tua vita e partecipavi a queste risse, una settimana dopo l'altra Stavi maturando molte conclusioni su ciò che volevi e ciò che non volevi E se anche potevi non esserne perfettamente consapevole a ogni rissa a cui partecipavi Stavi comprendendo che non la volevi Non ti piaceva rimanere ferito Non ti piaceva ferire gli altri E benché tu ti sentissi sempre del tutto giustificato in ciò che facevi Dentro di te stavano maturando precise preferenze Il libro che hai menzionato ha esercitato un'attrazione su di te per via di quei propositi Leggendolo Hai trovato risposta alle domande che stavi formulando dentro di te a diversi livelli del tuo essere Così, giunte quelle risposte, hai chiarito i tuoi nuovi scopi e un nuovo polo di attrazione è nato dentro di te Che cosa c'è dietro i pregiudizi religiosi e razziali? Jerry Perché esistono i pregiudizi? Abraham Si ha spesso la percezione che alcuni esseri non amino certe caratteristiche di altri esseri e Nella loro avversione per tali caratteristiche siano responsabili del pregiudizio Vogliamo però sottolineare che non è in gioco soltanto il comportamento di chi è accusato di avere pregiudizi Più spesso il più potente creatore di quell'esperienza è proprio la persona che si sente discriminata L'essere che sente di non piacere agli altri, per qualunque ragione, che si tratti di religione, razza, genere Condizione sociale Non importa quale sia il motivo per cui si senta discriminato Attira a sé i guai con la sua attenzione verso il pregiudizio I simili si attraggono o gli opposti si attraggono? Jerry Abraham C'è un detto che non sembra compatibile con ciò che ci state insegnando Ed è Gli opposti si attraggono Che appare in diretto contrasto con quanto ci insegnate se è vero che per voi i simili si attraggono Per esempio, sembra che gli opposti si attraggano quando un uomo espansivo sposa una donna timida o una donna espansiva è Attratta da un uomo timido Abraham Tutte le cose e tutte le persone che conoscete emettono segnali vibrazionali E questi segnali devono corrispondersi prima che abbia luogo l'attrazione tra due cose o persone Così, perfino in una situazione in cui le persone in causa sembrano diverse Ci deve essere alla base una dominante somiglianza vibrazionale Altrimenti non potrebbero stare insieme Questa è legge In tutte le persone nascono vibrazioni che rispondono a ciò che vogliono e vibrazioni corrispondenti alla mancanza di Ciò che vogliono E ogni evento della loro vita corrisponde alle vibrazioni di volta in volta dominanti nel loro polo di attrazione Senza eccezioni Introduciamo la parola armonia Quando due persone sono perfettamente identiche, i loro desideri non si possono realizzare In altri termini, chi vuole vendere non attirerà un altro venditore È attirando un compratore che nascerà l'armonia L'uomo schivo attira una donna espansiva perché ciò che desidera è essere più espansivo Quindi in realtà sta attirando l'oggetto del suo desiderio Una padella di ferro che sia stata magnetizzata attirerà se altri oggetti di ferro, bulloni, catene o un altro Un'altra padella di ferro ma non attrarrà un'altra padella fatta di rame o alluminio Se impostate la radio sulla frequenza 98.7 FM, non coglierete il segnale emesso da un ripetitore sul 630 M Le due frequenze devono corrispondere Osservando le vibrazioni si evince che in tutto l'universo non c'è alcuna prova a sostegno che gli opposti Di per sé si attraggano Infatti non lo fanno Quando una cosa non è come ce l'aspettavamo Jerry Come può accadere che a volte quando qualcosa che si è desiderato a lungo arriva Si scopre che in realtà è un'esperienza negativa? Questo è un grande motivo di sofferenza Abraham, spesso le persone decidono di volere cose molto lontane dalla loro situazione attuale Ma invece di concentrarsi su quel desiderio ed esercitare la vibrazione corrispondente fino ad aver allineato Le proprie vibrazioni con quelle del loro intimo desiderio E permettere alla legge dell'attrazione di estendersi per l'universo e portare loro risultati perfettamente corrispondenti Diventano impazienti e cercano di realizzare il loro desiderio passando all'azione Tuttavia, passando all'azione prima di aver corretto il contenuto delle loro vibrazioni Ciò che otterranno sarà sempre qualcosa di corrispondente alla loro attuale vibrazione e non al loro desiderio Finché non si fa pratica col controllo delle proprie vibrazioni Spesso si crea un ampio scarto tra la vibrazione di ciò che si vuole e quella che si sta presentando In ogni caso, e senza eccezioni, ciò che ci arriva corrisponde alla vibrazione che stiamo presentando Per esempio, immaginiamo che una donna sia uscita di recente da una brutta relazione in cui il partner la maltrattava Fisicamente e verbalmente Lei non lo voleva, non le piaceva, addirittura odiava vivere con quella persona Così, sapendo perfettamente che cosa non vuole, formula un chiaro proposito su ciò che vuole Vuole un compagno che la ami e la tratti con gentilezza e rispetto Ma senza un partner si sente molto insicura e vuole subito un nuovo compagno Perciò va in un posto abituale e incontra una persona che le piace Tuttavia la donna forse non comprende che la legge dell'attrazione sta ancora agendo attirando eventi e persone Corrispondenti alla vibrazione in lei dominante E in questo momento la vibrazione ancora dominante in lei è quella relativa a ciò che non vuole Perché gli strascichi non voluti della sua ultima relazione sono molto più attivi nei suoi pensieri rispetto ai nuovi Obiettivi che si è appena proposta Nell'ansia di colmare il suo senso di insicurezza Prende l'iniziativa e si lancia nella nuova relazione E ottiene di nuovo l'elemento dominante nella sua vibrazione Cioè un compagno che la maltratta Noi la incoraggeremmo a prendere le cose con più calma E a trascorrere più tempo a pensare a ciò che vuole Finché questi pensieri non diventino la base della vibrazione che domina in lei Soltanto allora la legge dell'attrazione le porterà il suo nuovo, magnifico compagno Jerry, va bene, capisco che cosa intendete È un po' come comprare una casa e trovarci già dentro un inquilino Abram, per questo il metodo del laboratorio creativo è tanto importante Quando entrate nel vostro laboratorio visualizzate tutte le magnifiche possibilità Lasciate che le vostre emozioni emergano Mentre sfiorate col pensiero ciò che volete veramente e poi elaboratele Concentrandovi laddove vi sentite meglio Vedrete che poi non avrete esperienze di quel tipo Scoprirete come trasformare ciò che volete nella vostra vibrazione dominante e poi Quando la legge dell'attrazione corrisponderà ai pensieri formulati non avrete sorprese Infatti comincerete a scorgere le manifestazioni delle cose meravigliose che avete inseguito nella vostra mente Ogni cosa è fatta di pensieri Jerry, ogni cosa è fatta di pensieri o dai pensieri O nessuna delle due Abram, entrambe Il pensiero può essere attratto da altri pensieri attraverso il potere della legge dell'attrazione È la vibrazione cui risponde la legge dell'attrazione Il pensiero è la materia o la manifestazione e anche il veicolo attraverso cui ogni cosa viene attratta o creata Dovete immaginare il vostro mondo come una specie di cucina ben fornita in cui esistono in misura abbondante Anzi infinita tutti i possibili ingredienti che siano stati pensati o immaginati E dovete immaginare voi stessi come i cuochi che prendono dagli scaffali della cucina qualunque ingrediente desideriate In qualunque quantità e li uniscono per creare la torta che in quel momento vi va di fare Voglio più gioia, felicità e armonia Jerry, che cosa rispondereste se qualcuno vi chiedesse Abram Voglio essere più gioioso Come posso usare i vostri precetti per attrarre nella mia vita più gioia, felicità e armonia? Abram, innanzitutto ci congratuleremmo con quella persona Perché ha scoperto il desiderio più importante di tutti La ricerca della gioia Perché nella ricerca e nella scoperta della gioia Non solo si trova il perfetto allineamento con il proprio essere Interiore e con ciò che si è realmente Ma si trova anche l'allineamento vibrazionale con tutto ciò che si desidera Quando per voi ciò che conta è la gioia Non dovete permettervi di concentrarvi su cose che non vi facciano sentire bene Pensando solo a cose che vi facciano sentire bene Creerete una vita magnifica, piena di tutto ciò che desiderate Se continuate a desiderare di essere gioiosi e siete sensibili verso il vostro stato d'animo E quindi guiderete i vostri pensieri verso cose che vi facciano sentire sempre meglio Migliorerete la vostra vibrazione e il vostro polo di attrazione attirerà Attraverso la legge dell'attrazione Soltanto ciò che desiderate Guidare intenzionalmente i propri pensieri è la chiave per una vita gioiosa Ma desiderare di provare gioia è il proposito migliore di tutti Perché nel cercare la gioia troverete i pensieri che attirano la vita meravigliosa che desiderate Non è egoista desiderare più gioia? Jerry Alcuni direbbero che voler essere gioioso sia un modo molto egoistico di vivere la propria vita Come se desiderare la gioia fosse un male Abram Siamo spesso accusati di insegnare l'egoismo E certo ammettiamo che è così Dal momento che la vita non può essere percepita se non dalla prospettiva individuale Egoismo è la percezione incentrata sull'ego È l'immagine che si ha di se stessi Che ci si stia concentrando su di sé o su di un altro Lo si fa inevitabilmente dal proprio punto di vista vibrazionale E qualunque cosa si stia sentendo è il proprio polo di attrazione Quindi, se partendo dalla vostra visione di voi siete concentrati in un modo che vi fa sentire bene Allora il vostro polo di attrazione è tale che, attraverso la legge dell'attrazione, ciò che state attirando Una volta ottenuto, vi piacerà Se però non siete abbastanza egoisti da continuare a concentrarvi in un modo che vi faccia sentire bene E siete concentrati su qualcosa che vi fa sentire male Allora il vostro polo di attrazione sarà tale da attrarre cose negative E quello che otterrete non vi piacerà A meno che non siete abbastanza egoisti da badare al vostro stato d'animo E dirigere i vostri pensieri in modo Da permettere un'autentica connessione col vostro essere interiore Non avrete comunque nulla da dare a nessuno Tutti sono egoisti Non è possibile essere diversamente Che cosa è più morale? Dare o ricevere? Jerry, stando così le cose, parrebbe che sia il dare sia il ricevere siano cose giuste e gioiose Insomma, non considerate l'uno superiore all'altro? Abraham, per via della potente legge dell'attrazione, attraverso la vibrazione che si presenta Si riceve quello che si sta dando La legge dell'attrazione ordina sempre ogni cosa con cura E porta a ognuno il prodotto corrispondente ai suoi pensieri Così, quando pensate al benessere, ricevete sempre qualcosa di corrispondente Se avete un pensiero astioso La legge dell'attrazione non può portarvi nulla di amorevole Questo infatti sfiderebbe la legge Spesso, quando parlano di dare e ricevere, le persone si riferiscono a gesti generosi o a doni materiali Ma la legge dell'attrazione non risponde alle vostre parole o alle vostre azioni Bensì alla vibrazione che alla base di quelle parole e di quelle azioni Immaginiamo che vediate qualcuno bisognoso di una certa cosa Potrebbe non avere denaro, da mangiare o non sapere con che mezzo raggiungere un dato posto Mentre lo vedete, vi sentite tristi, perché siete concentrati sul suo stato di bisogno Che causa in voi una vibrazione analoga E dalla vostra condizione di tristezza gli offrite denaro o cibo La vibrazione che state trasmettendo, in realtà, dice Lo faccio per te, perché vedo che tu, da solo, non sei in grado di farlo La vostra vibrazione è concentrata sulla sua mancanza di benessere E, anche se gli avete offerto denaro o cibo Il vostro gesto scaturisce da una vibrazione che perpetua il suo stato di bisogno Noi vi consigliamo invece di prendervi un po' di tempo per immaginare quelle persone in una situazione migliore Nella vostra mente, pensateli felici e soddisfatti E una volta che questa sarà la vostra vibrazione dominante Allora fate qualunque gesto ispirato al vostro nuovo stato d'animo Così facendo, per via della nuova vibrazione dominante del vostro essere Quando queste persone bisognose saranno oggetto della vostra attenzione Voi attirerete da loro una corrispondente vibrazione di benessere In altri termini, li eleverete Li aiuterete a trovare la vibrazione corrispondente al loro desiderio di benessere Invece che aiutarli a perpetrare la vibrazione corrispondente alla loro situazione attuale Dal nostro punto di vista, questo è l'unico modo di dare che abbia valore Quindi la domanda non è che cosa è meglio dare o ricevere La domanda è che cosa è meglio Concentrarsi su ciò che si vuole o su ciò che non si vuole Che cosa è meglio Elevare qualcuno dalla sua condizione di disagio Confidando nel suo successo o peggiorare il suo scoramento Prendendo atto della disgrazia in cui versa Che cosa è meglio Essere allineato al mio essere interiore e poi agire o essere non allineato e agire Che cosa è meglio Incoraggiare il successo di qualcuno o assecondarne il fallimento Il più grande dono che si possa fare al prossimo è credere nel suo successo Ci sono tanti mondi quanti sono i soggetti senzienti, gli esseri, gli individui Non siete qui per creare un mondo in cui tutti siano uguali, in cui tutti vogliano e ottengano le stesse cose Voi siete qui per essere ciò che volete essere Permettendo agli altri di essere ciò che loro vogliono essere E se tutti ottenessero ciò che vogliono? Jerry Permettete che qui faccia l'avvocato del diavolo Se tutti gli esseri egoisti che vivono su questo pianeta ottenessero tutto ciò che vogliono Che brutto pasticcio sarebbe questo mondo? Abraham Non sarebbe affatto E non è un pasticcio Questo perché, attraverso la legge dell'attrazione Ciascuno sarebbe attratto dalle persone che vivono in armonia con i loro desideri Vedi, il luogo in cui vivete è molto ben bilanciato C'è un po' di tutto, qui, in proporzione Abbondanza e varietà sufficiente a fornirvi tutti gli ingredienti di cui avete bisogno per lavorare nella grande E Meravigliosa cucina cui avete desiderato unirvi Come aiutare le persone che soffrono? Jerry Io ho una vita bella e piena di gioia Ma sono spesso consapevole che nel mondo circostante esistono molto dolore e molta angoscia Che cosa posso fare perché la vita di tutti sia priva di dolore? Abraham Non si possono creare eventi nella vita degli altri perché non si può pensare al posto loro Sono i pensieri che stanno pensando Le parole che stanno dicendo e le cose che stanno facendo a produrre la risposta emozionale, la sofferenza, del loro essere interiore Stanno creando con le loro mani il proprio dolore, pensando a cose che non vogliono Ora, ciò che si può fare per loro è proporre un esempio di gioia Diventare un essere che pensa solo a ciò che desidera, che parla solo di ciò che desidera Che fa solo ciò che desidera, generando così dentro di sé soltanto emozioni gioiose Jerry Questo lo posso fare Posso concentrarmi su ciò che voglio, sulla mia gioia E posso imparare a permettere loro di vivere qualunque esperienza creino Quindi sarebbe corretto dire che, concentrandomi sulle loro sofferenze, sto solo creando sofferenza nella mia vita? E in questo caso, proporrei un esempio corrispondente Un esempio di vita dolorosa Abraham Poniamo che giunga alla tua esperienza una persona che soffre e che Vedendola nella sua difficile situazione Nasca in te il desiderio che quella persona trovi un modo per uscire dalle sue ambasce In questo modo Il dolore ti sfiorerà appena e scomparirà subito nel momento in cui in te si prospetterà il desiderio di una Soluzione felice per lei Se rivolgete tutta la vostra attenzione alla felice soluzione di una situazione scabrosa Non sentirete davvero dolore e potrete ispirare una vera soluzione Questo è un esempio di vero elevamento Se invece ci si limita a concentrarsi sul dolore altrui o sulla situazione che l'ha causato Si attiva dentro di sé la vibrazione corrispondente e si inizia a nostra volta a provare dolore Cominciando ad attrarre una cosa che non si vuole La soluzione è proporre un esempio di gioia? Jerry Quindi la chiave è continuare a cercare la gioia per se stessi? Proporre un esempio e permettere agli altri, permettere loro realmente Di avere per sé qualunque esperienza scelgano, in qualunque modo la scelgano? Abraham Non avete davvero altra scelta che permettere agli altri di vivere qualunque esperienza stiano attirando? Perché non si può pensare al posto loro o vibrare al posto loro? Insomma, non si può attirare per loro Il vero permettere significa mantenere il proprio equilibrio, la propria gioia A prescindere da quello che fanno gli altri L'aiuto che si offre così è che, rimanendo in equilibrio e connessi al proprio essere interiore Allineati con le magnifiche sorgenti vitali dell'universo e mantenendole come oggetto della propria attenzione Anche gli altri ne traggono vantaggio Meglio vi sentite mentre pensate agli altri Più forte sarà la vostra influenza positiva Saprete di aver raggiunto il punto di permettere agli altri di essere, fare o avere ciò che vogliono o non vogliono Quando, pur essendo consapevoli di ciò che stanno facendo, non proverete emozioni negative A quel punto sarete un Permettente, capace di provare gioia osservando la vita di tutti Con le tue domande abbiamo fatto il giro completo e ci hai aiutati a spiegare queste tre leggi tanto importanti La legge dell'attrazione risponde alla vibrazione dei vostri pensieri Quando formulate intenzionalmente dei pensieri, scegliendo quelli che vi fanno sentire bene State permettendo la vostra connessione all'essere interiore, a ciò che siete realmente E quando siete connessi a ciò che siete realmente, ne trae beneficio chiunque sia oggetto della vostra attenzione E ovviamente, in tutto ciò, provate gioia Col tempo si diventa così consapevoli del proprio stato emotivo e si diventa tanto coerenti nel pensare Intenzionalmente da esercitare in modo predominante un'attrazione positiva E a quel punto, davvero, solo allora Vi sentirete a vostro agio nel permettere agli altri di creare ciò che scelgono di creare Quando comprendete che le cose non desiderate, non possono in alcun modo arrogarsi il diritto di entrare nella vostra vita Ma che ogni evento viene invitato da voi e attraverso i vostri pensieri Non ci si sentirà mai più minacciati dalle vite che possono aver scelto gli altri Neppure se ci sono molto vicini Perché, se non lo vogliamo, non possono essere parte della nostra esperienza Si possono pensare cose negative sentendosi bene? Jerry, allora come si può rivolgere la propria attenzione o pensare a qualcosa di brutto e non reagire con una? Sensazione negativa? Abram, non si può e non vi suggeriamo di provarci In altre parole, dire che non si devono avere mai emozioni negative Equivarrebbe a dire non dovete avere un sistema di guida Non prestate attenzione al vostro sistema di guida emotivo Il che è esattamente il contrario di quello che vi stiamo dicendo Noi vogliamo che siate consapevoli delle vostre emozioni E che guidiate i vostri pensieri fino a farvi sentire bene Quando si è concentrati su un piccolo pensiero negativo Si avverte una leggera emozione negativa Se si è sensibili al proprio stato d'animo E ci si vuole sentire meglio Si deve cambiare pensiero Ciò è facile da fare quando si tratta di piccoli pensieri e piccole emozioni È molto più difficile farlo Quando si tratta di grandi pensieri e di emozioni altrettanto grandi L'intensità della vostra emozione sarà proporzionata alla quantità di pensiero Che avete accumulato attraverso la Legge dell'attrazione Più si sta concentrati su ciò che non si vuole Più grande e più potente sarà il pensiero che ne scaturirà Ma badando alle proprie emozioni E distogliendo la propria attenzione Molto in fretta dagli oggetti indesiderati Si comincerà a sentirsi meglio E si smetterà di attrarre ciò che non si desidera Qualche parola frase per migliorare il proprio essere benessere Jerry Potete suggerirci qualche parola da usare per aiutarci ad attrarre le cose che desideriamo Per esempio, una salute perfetta? Abraham, voglio una salute perfetta Mi piace sentirmi bene Mi piace il mio corpo quando sta bene Ricordo con piacere tutte le volte che il mio corpo è stato bene Vedo intorno a me molte persone in ottima salute Ed è evidente che a loro piace avere un corpo che sta bene Quando faccio simili pensieri sto bene Questi pensieri sono in armonia con un corpo sano Jerry, qualche parola sul benessere economico? Abraham, voglio essere ricco Ci sono molte cose meravigliose a portata di mano in questo mondo magnifico E il benessere economico rende Accessibili molte di queste Poiché la legge dell'attrazione reagisce ai miei pensieri Ho deciso di concentrarmi soprattutto sulla prosperità economica Perché comprendo che è soltanto questione di tempo E poi i miei pensieri sulla prosperità troveranno risposta in Un flusso incessante di ricchezza La legge dell'attrazione mi porterà gli oggetti della mia attenzione E io ho scelto il benessere materiale Jerry, ottime relazioni? Abraham, voglio ottime relazioni Mi piacciono tanto le persone simpatiche, intelligenti, divertenti, vitali e stimolanti E mi rallegra sapere che questo pianeta ne è pieno Ho incontrato molte persone interessanti E amo scoprirne le qualità che mi affascinano Sembra che più mi piacciono le persone Più persone che mi piacciono entrano nella mia vita Adoro la magia di questa spettacolare co-creazione Jerry, esperienze non fisiche positive? Abraham, voglio attrarre chi è in armonia con me Che sia fisico o non fisico Sono affascinato dalla legge dell'attrazione E mi conforta sapere che, quando mi sento bene Posso attirare soltanto cose che mi fanno sentire bene Sono contento di comprendere che la base di ciò che non è fisico È pura energia positiva Mi piace utilizzare il mio sistema di guida emotivo In modo da entrare in contatto con la sorgente Jerry, una crescita continua e piena di gioia? Abraham, sono un essere che cerca la crescita Ed è entusiasmante sapere che questo sviluppo non solo è naturale Ma necessario Mi piace sapere che la gioia dipende soltanto da una scelta Quindi, dal momento che il mio sviluppo è inevitabile Ho deciso di viverlo tutto con gioia Jerry, e queste parole funzioneranno? Abraham, le parole non portano l'immediata manifestazione di ciò che si è chiesto Ma più spesso le si pronuncia E meglio ci si sente Mentre lo si fa Più pura e più coerente sarà la propria vibrazione E presto il vostro mondo sarà pieno delle cose di cui avete parlato Le parole da sole non attirano Ma, quando parlando, si provano forti emozioni Questo significa che la vibrazione è altrettanto forte E che la legge dell'attrazione deve rispondere Qual è la misura del successo? Jerry Che cosa considerate un successo? Quale indichereste come il marchio del successo? Abraham Si deve considerare un successo l'ottenimento di qualunque cosa desideriate Che si tratti di premi Denaro, relazioni o altre cose Ma se userete come parametro per misurare il vostro successo la gioia che avete ottenuto Ogni cosa troverà facilmente il suo posto Perché, trovando la gioia Trovate anche l'allineamento vibrazionale con le risorse dell'universo Non si può provare gioia Mentre si è concentrati su qualcosa che non si vuole Quindi, mentre si prova gioia Non si può essere in uno stato di vibrazione non coerente Soltanto la contraddizione tra i vostri pensieri e la vostra vibrazione Può tenervi lontani da ciò che desiderate Troviamo buffo che la maggioranza delle persone Trascorra gran parte dell'esistenza Cercando un insieme di regole con Cui misurare la qualità della propria vita Cercando al di fuori di sé qualcosa che indichi che cosa è giusto e che cosa è sbagliato Quando ha sempre a disposizione, dentro di sé, un sistema di guida così raffinato, complesso, preciso e a portata di mano Quando prestate attenzione a questo sistema di guida emotivo E vi concentrate sui pensieri che vi fanno sentire meglio A prescindere dalla situazione in cui versate Permettete alla vostra prospettiva più ampia di aiutarvi a muovervi verso ciò che volete veramente Passando al setaccio la magnifica varietà della vostra dimensione fisica spazio-temporale Consapevoli del vostro stato d'animo e guidando intenzionalmente i propri pensieri Verso ciò che vi fa sentire Sempre meglio, col tempo comincerete a vedere la vita attraverso gli occhi del più grande essere interiore Così facendo, proverete la soddisfazione di essere sulla strada che sceglieste dalla vostra prospettiva non fisica Quando decideste di emergere nel vostro magnifico corpo Infatti, dalla prospettiva non fisica avvantaggiata comprendeste che la natura del vostro essere è in eterna evoluzione E che questo ambiente contrastato ha mantenuto la sua promessa Comprendeste la natura del vostro magnifico sistema di guida e il modo in cui, con la pratica Potevate vedere il mondo come lo vede il vostro essere interiore Comprendeste il potere della legge dell'attrazione e l'equità E la precisione con cui risponde alla libera volontà Di tutti i creatori Cercando il pensiero che suscita le emozioni migliori tra quelli a disposizione Vi ricongiungete a quella prospettiva più ampia e ricongiungendovi con quel vostro antico proposito Con il vostro gusto per la vita e con voi stessi, proverete una gioia indescrivibile Parte terza La scienza della creazione intenzionale La scienza della creazione intenzionale Definizione Jerry Abraham Ci avete parlato della creazione intenzionale Volete spiegarci che cosa intendete per creazione intenzionale e l'importanza che ha per noi? A Abraham, l'abbiamo chiamata scienza della creazione intenzionale Perché partiamo dal presupposto che voi vogliate creare di proposito Ma in realtà sarebbe più appropriato chiamarla legge della creazione Perché di per sé funziona sia che stiate pensando a ciò che desiderate Sia che stiate pensando a ciò che non desiderate Che stiate pensando a qualcosa che volete o alla mancanza di ciò che vorrete La direzione dei vostri pensieri dipende da voi La legge della creazione esercita comunque il suo influsso Dal vostro punto di vista fisico Questo processo è una specie di equazione composta da due parti fondamentali Il lancio del pensiero e l'aspettativa del pensiero Cioè il desiderare la creazione e il permetterla Dal nostro punto di vista non fisico Noi percepiamo le due parti di questo processo simultaneamente Perché non c'è scarto tra ciò che desideriamo E ciò che ci aspettiamo si realizzi La maggior parte degli esseri umani non è consapevole del potere dei propri pensieri Della natura vibrazionale del loro essere o del potere della legge dell'attrazione Per cui confida nelle azioni per far accadere qualunque cosa Se da una parte noi concordiamo sul fatto che l'azione sia una componente importante del mondo fisico in cui vi ritrovate Non è però attraverso l'azione che si possono creare le esperienze fisiche Quando si comprende il potere dei pensieri e si esercita in modo intenzionale la loro formulazione Si scopre la potente azione creativa che scaturisce dai soli atti di desiderare e permettere Se ci si apre la strada anticipando l'azione propriamente detta attraverso pensieri positivi La quantità di azione necessaria sarà molto minore e sarà molto più gratificante Se non ci si prende il tempo necessario per allineare i pensieri Sarà necessaria molta più azione e non se ne trarrà soddisfazione I vostri ospedali sono colmi di persone che ora stanno agendo per cercare di porre rimedio a precedenti pensieri inappropriati Queste persone non hanno creato la malattia di proposito, eppure l'hanno fatto E poi sono andate in ospedale per rimediare con un'azione fisica al danno fatto pensando Vediamo molte persone che trascorrono le loro giornate scambiando le azioni per denaro Cioè lavorano Perché il denaro in questa società è fondamentale per vivere liberi Eppure, nella maggior parte dei casi, queste azioni non sono fatte con gioia Perché sono un tentativo di rimediare a pensieri non allineati all'essere interiore Prima di venire in questo mondo avete desiderato la possibilità di agire L'azione è una delle cose sublimi del mondo fisico in cui vivete Ma non avete desiderato creare attraverso l'azione fisica Bensì usare il vostro corpo per godere di ciò che avete creato col vostro pensiero Quando formulate i pensieri in anticipo e avvertite emozioni positive State lanciando la vostra creazione E, quando attraverso lo spazio e il tempo camminate Sarete incontro alla manifestazione futura di ciò che state creando Aspettandovi che avverrà allora, partendo dalla gioiosa creazione che avete lanciato nel futuro Sarete ispirati ad agire in modo gioioso Se ora prendete un'iniziativa e agite senza gioia Vi garantiamo con assoluta certezza che la vostra azione non vi condurrà a un esito lieto Non può farlo, sarebbe in contrasto con la legge Piuttosto che cercare di ottenere ciò che volete passando subito all'azione Noi vi invitiamo a pensare alla sua realizzazione Lo dovete vedere, visualizzare, attendere E il vostro desiderio si realizzerà Soltanto allora sarete guidati, ispirati o condotti al perfetto agire Che originerà il processo che porta materialmente a ciò che cercate C'è una grande differenza tra ciò che abbiamo detto E il modo in cui la gran parte del mondo procede Si invita pensando Spesso, quando cominciamo a condividere coi nostri amici fisici Le nostre conoscenze riguardo al metodo di creazione intenzionale Incontriamo una certa resistenza Perché ci sono persone che nella vita hanno esperienze che non vogliono e Quando ci sentono dire Siete voi a invitare ogni cosa Protestano Abraham Io non posso avere invitato una cosa del genere nella mia vita Perché non la voglio Così siamo ansiosi di offrirvi le informazioni in nostro possesso E aiutarvi a comprendere in che modo ottenete Quello che avete Affinché possiate essere più consapevoli di ciò che attirate E possiate quindi attrarre intenzionalmente ciò che volete Evitando al contempo quanto non volete Sappiamo che non state invitando, attirando o creando cose indesiderate di proposito Tuttavia siete voi a invitare, attirare o creare ciò che non desiderate E lo fate pensandolo Per caso, offrite certi pensieri e le leggi che ancora non capite Reagiscono ai vostri pensieri generando risultati che capite altrettanto poco Questo è il motivo per cui siamo venuti qui Per spiegarvi le leggi universali Affinché riusciate a comprendere il modo in cui state ottenendo ciò che state ricevendo In che modo ottenere il completo controllo sulla vostra esistenza La maggior parte degli esseri fisici è così integrata nel mondo fisico da essere ben poco consapevole del rapporto Col mondo non fisico Facciamo un esempio Se si vuole luce in camera da letto, si allunga la mano verso la lampada sul comodino Si preme un piccolo interruttore e la luce fluisce nella stanza Per spiegare ciò che è successo si può dire Ho illuminato la stanza premendo l'interruttore Ma è facile capire, senza bisogno di ulteriori spiegazioni Che si potrebbe aggiungere molto altro per chiarire in modo più appropriato da dove sia venuta la luce Lo stesso si può dire di tutto ciò che esperite nel vostro mondo fisico Riuscite a spiegare soltanto in minima parte perché le cose accadono come accadono Noi siamo qui appunto per spiegarvi la parte mancante Siete emersi in questa dimensione fisica Abbandonando la vostra più ampia prospettiva non fisica Con grandi desideri e propositi Siete giunti qui perché desideravate molto quest'esperienza fisica Per voi non si tratta della prima esperienza di questo tipo Avete vissuto molte esistenze fisiche e non fisiche E siete emersi in questa perché volevate accrescere l'essere in continua evoluzione Che voi siete veramente Quell'essere che potete non conoscere attraverso il vostro corpo e i vostri sensi Ma che è comunque la parte di voi più vasta, ampia, desiderosa di crescere e amante della gioia L'essere interiore comunica con noi Vogliamo aiutarvi a ricordare che voi siete i creatori della vostra esperienza E che c'è una gioia immensa Nell'esserlo intenzionalmente Vogliamo aiutarvi a ricordare il vostro rapporto con la parte non fisica di voi Il vostro essere interiore Che è consapevole di voi e partecipe di ogni cosa facciate Voi non ricordate i dettagli di ciò che avete vissuto prima di emergere in questi corpi fisici Ma il vostro essere interiore è perfettamente consapevole di tutto quanto avete vissuto E vi offre senza sosta Indicazioni per aiutarvi a vivere nel modo più gioioso possibile In ogni istante della vostra vita Quando siete emersi in questa esistenza Non avete portato con voi il ricordo di ciò che avete vissuto in precedenza Perché sarebbe servito soltanto a distrarvi dall'intensità del vostro ora Tuttavia, attraverso il vostro rapporto con l'essere interiore Avete ancora accesso alle conoscenze di quella prospettiva più ampia O io totale La parte non fisica di voi, che è più vasta Comunica con voi E lo fa dal giorno in cui siete emersi nel vostro corpo fisico Le modalità di questa comunicazione possono variare da individuo a individuo Ma tutti voi ricevete le comunicazioni fondamentali sotto forma di emozioni Tutte le emozioni sono buone o cattive Tutte le emozioni che provate, senza eccezioni, sono comunicazioni da parte del vostro essere interiore Il quale vi fa sapere se quello che di volta in volta pensate, dite o fate appropriato In altri termini, quando pensate qualcosa la cui vibrazione non è in armonia con i vostri intenti complessivi Il vostro essere interiore vi trasmette un'emozione negativa Quando fate o dite qualcosa la cui vibrazione non è in armonia con ciò che realmente siete e volete Il vostro essere interiore vi trasmette un'emozione negativa In modo analogo, ma inverso, quando dite Pensate o agite in direzione di ciò che è in armonia con i vostri desideri Il vostro essere interiore vi trasmette emozioni positive Ci sono due soli tipi di emozione Una vi fa sentire bene L'altra vi fa sentire male Voi attribuite loro una quantità di nomi diversi A seconda nella situazione che le ha provocate Ma se comprendete che questo sistema di guida Che giunge dal vostro interno sotto forma di emozione Parla dalla vostra prospettiva più ampia e onnicomprensiva Siete in grado di capire che traete beneficio da tutti i desideri Che vi animano proprio oggi e da tutti i desideri con cui siete emersi in questo corpo fisico E che avete la facoltà di scomporre in tutti i loro elementi Tutti i vostri desideri e le vostre opinioni Questo vi permette di prendere la decisione migliore in qualunque momento Posso fidarmi della mia guida interiore Molte persone hanno messo da parte la propria guida intuitiva Sostituendola con le opinioni di genitori Insegnanti, esperti o luminari Ma più si cerca negli altri una guida Più si viene allontanati dal proprio saggio consiglio interiore Molto spesso, quando iniziamo a ricordare ai nostri amici fisici ciò che realmente sono Aiutandoli a riconnettersi al sistema di guida che hanno dentro di sé Provano esitazione Non di rado sono stati persuasi di valere poco o di essere nel torto Per cui hanno paura di andare avanti Confidando soltanto nel proprio giudizio e nella loro sola coscienza Perché credono che possa esistere qualcuno che sa meglio di loro che cosa è bene per loro Ma noi vogliamo aiutarvi a ricordare quali esseri preziosi e potenti siete E il motivo per cui siete entrati in Questa realtà spazio-temporale Vogliamo ricordarvi il vostro obiettivo Esplorare la varietà di questo ambiente magnifico Sapendo che avrebbe generato in voi un flusso continuo di nuovi desideri E vogliamo ricordarvi chi siete realmente Il vostro essere interiore, io totale o sorgente Che gioisce della crescita in cui siete intenti Vogliamo ricordarvi che in ogni istante, attraverso il potere delle vostre emozioni Potete sentire se state guardando la vostra situazione attuale dal punto di vista più ampio O se vi state isolando Da quella sorgente, scegliendo pensieri, non in armonia con questa In altri termini, se provate amore Questo significa che il modo in cui state vedendo l'oggetto della vostra attenzione Corrisponde al modo in cui lo vede Il vostro io interiore, se provate odio, lo state vedendo senza questa connessione interiore Voi sapevate intuitivamente tutto questo, in particolare quando eravate giovani Ma la maggior parte di voi è stata via via logorata dall'insistenza di persone più vecchie Che si definivano più sagge Che vi stavano intorno e che hanno lavorato molto per convincervi a non credere ai vostri impulsi Così, la maggior parte dei vostri esseri fisici non crede in se stessa Fatto che troviamo sbalorditivo Perché ciò che emerge dal vostro interno è la sola cosa su cui potete confidare Ciò nonostante, trascorrete la maggior parte della vostra vita cercando un insieme di regole o un gruppo di persone Un gruppo religioso o un partito politico, per dire, che vi dica che cosa è giusto e che cosa è sbagliato Dopodiché passate il resto della vostra vita a cercare di far passare il vostro cammello per la cruna del lago Impostavi da qualcun altro e di adattare quelle vecchie regole In genere scritte migliaia di anni prima della vostra nascita a questa nuova esperienza di vita Il risultato è che la maggior parte di voi è frustrata e, nella migliore delle ipotesi, confusa Abbiamo anche notato che ogni anno molti di voi muoiono litigando su quale insieme di regole sia più giusto Noi vi diciamo, un simile insieme di regole assolute ed eterne non esiste Perché voi siete esseri in eterno cambiamento e in cerca di crescita Se la vostra casa fosse in fiamme e i pompieri venissero col camion attrezzato di tutto punto Con le pompe e l'acqua necessaria ed estinguessero le fiamme, voi direste Così si fa Ma se la vostra casa non fosse in fiamme e venissero quegli stessi pompieri e con quelle stesse pompe inondassero là Vostra casa spruzzando acqua in giro, direste Non è così che si fa? Lo stesso vale con le leggi che gli esseri umani si tramandano da una generazione all'altra La maggior parte delle vostre antiche leggi e norme non sono adatte a ciò che state vivendo ora Se non aveste desiderato crescere, non sareste in questa esperienza di vita fisica Infatti voi siete qui in quanto esseri in evoluzione, in continuo mutamento e alla costante ricerca di sviluppo Perché volete aggiungere elementi nuovi alle vostre conoscenze E volete aggiungere elementi nuovi al tutto Se quella esistente molto tempo fa fosse stata la configurazione definitiva del mondo Allora non avreste alcun motivo di esistere oggi Come si ottiene quello che si ottiene? Di primo acchito, quando insistiamo a dire che ciascuno è creatore della propria realtà Veniamo accolti con gioia Perché la maggior parte delle persone brama controllare le proprie esperienze Ma quando si arriva a comprendere che ogni cosa che ci accade è stata attratta da un nostro pensiero Si ottiene ciò cui si sta pensando, che lo si voglia o meno, alcuni si sentono a disagio Temono quello che sembra essere un compito immane, cioè monitorare i propri pensieri Selezionarli con cura e formulare soltanto quelli che producono ciò che si vuole Non vi incoraggiamo a controllare i vostri pensieri in questo modo Perché anche noi crediamo che sarebbe scomodo ed estenuante Consigliamo invece di utilizzare consapevolmente il sistema di guida emotivo Se si presta attenzione al proprio stato d'animo, un monitoraggio dei pensieri non è necessario Se vi sentite bene, sappiate che ciò che state dicendo, pensando o facendo in quel momento È conforme ai vostri obiettivi e sappiate che, ogni volta che vi sentite male Non siete in linea con i vostri scopi In breve, quando dentro di voi avvertite una sensazione negativa, significa che, attraverso pensieri Parole o azioni, in quel momento state creando qualcosa che non volete Così, la combinazione tra una maggiore consapevolezza riguardo a ciò che volete Una maggiore chiarezza riguardo ai vostri intenti E una maggiore sensibilità verso il vostro stato d'animo è In sostanza, tutto ciò che serve al metodo di creazione intenzionale Sono il solo creatore della mia esperienza La grande domanda che in genere emerge a questo punto del nostro discorso è Abraham, come faccio a sapere che quello che emerge da dentro di me può essere creduto? Non c'è qualcuno più grande che detta le regole e che vuole che io sia o mi comporti in un certo modo? Noi vi diciamo che voi siete i creatori della vostra esperienza E che siete emersi in questo corpo fisico perché lo Desideravate intensamente e avevate il potere di farlo Non siete qui per dimostrarvi degni di altro Non siete qui in cerca di una redenzione su un altro piano Voi siete qui perché vi siete espressamente proposti di essere qui Volevate essere dei creatori intenzionali e avete scelto questa dimensione fisica In cui esistono spazio e tempo Per accordare alla perfezione la vostra comprensione E poi trarre i benefici di qualunque cosa abbiate creato Attraverso il pensiero, permettendogli di entrare nella vostra esperienza fisica Voi state contribuendo all'incremento dell'universo E il tutto trae beneficio dalla vostra esistenza Dalla vostra esposizione a questa esperienza e dalla vostra crescita Non correte il rischio di dispiacere nessuno, né di sbagliare Non c'è una lista di cose giuste e una di cose sbagliate Ci sono soltanto cose conformi ai vostri veri desideri E propositi e cose che non lo sono Per sapere quando siete allineati allo stato di benessere che vi è connaturato Dovete soltanto confidare nella guida che viene da dentro di voi Si attirano magneticamente pensieri in armonia vibrazionale L'azione della legge dell'attrazione è evidente in molti aspetti della vostra vita Gli esseri umani hanno coniato molte locuzioni Che esprimono la loro parziale comprensione di questa legge Per esempio, il simile attira il simile Di bene in meglio, di male in peggio La giornata è cominciata male ed è finita anche peggio Tuttavia, la maggior parte delle persone non comprende davvero Quanto sia potente la legge dell'attrazione Eppure gli individui si incontrano proprio grazie a lei Ogni situazione ed evento ne sono una conseguenza Per via della legge dell'attrazione Pensieri simili a livello vibrazionale sono attratti magneticamente uno dall'altro Le persone che si sentono in un certo modo Ne attirano magneticamente altre che si sentono allo stesso modo I pensieri si sommano l'un l'altro e si accrescono Tanto che quello che in origine era un pensiero piccolissimo Insignificante e poco influente Può diventare, se vi si concentra abbastanza, molto potente A causa della legge dell'attrazione Ogni individuo è come un potente magnete Che in ogni momento attira a sé ciò che corrisponde al suo stato d'animo Si crea pensando e parlando Nessun altro crea la vostra esperienza Siete voi i soli a farlo Siete voi i soli responsabili Mentre osservate la vostra esistenza E quella delle persone che vi circondano Vorremmo che comprendeste che non c'è uno straccio di prova Che contraddica le potenti leggi di cui vi stiamo parlando Quando si inizia a scorgere l'assoluta relazione Tra quello che si pensa e si dice e quello che si riceve La comprensione della legge dell'attrazione avanza E cresce il desiderio di utilizzare il Sistema di guida per dirigere intenzionalmente i pensieri Di conseguenza si comprendono sempre più le vite delle persone che ci circondano, infatti Spesso è più facile per voi notare l'azione della legge sugli altri Non avete mai notato che chi parla per lo più di malattia è malato E lo diventa sempre più? Non avete mai notato che chi parla di povertà è sempre più povero Mentre chi parla di ricchezza è sempre più ricco? Se si comprende che i pensieri sono magnetici E che l'attenzione che si presta loro Li porta a crescere in potenza finché A un certo punto L'oggetto del pensiero diventa l'oggetto dell'esperienza La crescente propensione a badare al modo in cui ci si sente Aiuterà a scegliere più intenzionalmente là Direzione dei propri pensieri È facile vedere la legge dell'attrazione in azione Quando si conversa con qualcuno, per esempio Immaginate che una vostra amica stia parlando di qualcosa che le sta capitando E che voi vogliate comportarvi da Buoni amici Per cui vi concentrate su quello che vi sta dicendo E ascoltate il suo racconto Se la vostra concentrazione rimane fissata a lungo su quanto vi dice Vi torneranno in mente casi analoghi della vostra vita E Se partecipate alla conversazione aggiungendo episodi dello stesso tenore tratti dalla vostra esperienza La vibrazione relativa a quel vostro pensiero crescerà Un certo livello di attenzione verso questi ricordi e un certo numero di conversazioni sul tema porteranno nuove Esperienze analoghe nella vostra vita e più pensieri verranno generati riguardo a ciò che non volete più Alla fine vi troverete circondati da pensieri, parole ed esperienze che vanno in una direzione che non volete Voi e la vostra amica adesso avrete molte spiacevoli occasioni per discutere delle vostre sventure Ora, se voi foste stati sensibili al modo in cui vi sentivate nell'istante in cui quella prima Conversazione prendeva Una piega indesiderata vi sareste accorti di provare fastidio alla bocca dello stomaco Avreste riconosciuto il messaggio della vostra guida Che in sostanza Vi stava dicendo Stai pensando E parlando di cose che non vuoi Il motivo di questo segnale Questo campanello d'allarme Indicava la divergenza tra chi siete davvero Da una parte E ciò che desiderate E su cui eravate concentrati in quel momento Dell'altra Le vostre emozioni segnalavano una mancanza di allineamento La vostra guida vi sta avvisando del fatto che Mentre pensate e parlate di cose non volute Siete come dei magneti che attirano a sé situazioni Eventi e altri esseri dello stesso segno e che presto Nella vostra esperienza Vi ritroverete l'essenza di ciò di cui state parlando E che non volete In modo analogo Se si parla di cose che si vogliono Si attirano pensieri corrispondenti Si attireranno persone che vogliono parlare Di ciò che volete anche voi E per tutto il tempo in cui parlerete di ciò che desiderate Il vostro essere interiore Vi offrirà un'emozione positiva Per comunicarvi che siete in armonia Con ciò che realmente desiderate E che lo è anche ciò che state attirando Il delicato equilibrio Tra volere e permettere La scienza della creazione intenzionale È una legge dal delicato equilibrio Consta di due momenti Da una parte abbiamo il pensare A ciò che si vuole Dall'altra c'è l'attesa Fede o aspettativa di ciò che si è creato Col proprio pensiero O se preferite Il permetterne l'ingresso Nella propria esperienza Così se si dice Voglio un'auto rossa nuova Attraverso il pensiero Si sta effettivamente avviando La creazione di un'auto rossa nuova Nella propria vita E più attenzione si presta a quel pensiero Più si è in grado di immaginare La macchina rossa All'interno della propria esperienza Più si diventa entusiasti E più si diventa entusiasti O migliori sono le emozioni Che si provano pensando all'auto rossa Meno tempo ci vorrà Perché l'auto Entri nella propria esperienza Una volta che la si è creata Attraverso il pensiero E una volta iniziato a provare Forti emozioni positive Quando ci si pensa L'auto si avvicina rapidamente Alla propria vita È stata creata Ora esiste E per chi entri nell'esperienza Basta permetterglielo E glielo si permette aspettandola Credendoci e lasciandola essere Quando si nutrono dubbi Sulla propria possibilità Di avere un'auto rossa nuova Si soffoca la creazione Se dite voglio un'auto rossa nuova State iniziando la creazione Ma se poi aggiungete Ma è troppo cara Vi state chiamando fuori Dal processo creativo In altri termini Con la vostra volontà Avete lanciato la prima parte Del processo creativo Ma poi avete impedito La creazione di ciò che volevate Non credendovi Non attendendolo E non permettendolo Per portare la creazione Nella propria esperienza fisica Sono necessari Entrambi i momenti dell'equazione Il fatto che stiate parlando Dell'oggetto della vostra creazione Non significa necessariamente Che lo stiate permettendo Se pensate alla vostra nuova auto rossa E vi sentite eccitati all'idea Le state permettendo di entrare Nella vostra vita Ma se pensate alla vostra nuova auto Considerando Dispiaciuti e frustrati Che non ve la potete permettere O che non è ancora arrivata In quel momento Siete concentrati Sull'assenza della macchina E non le state permettendo Di entrare nella vostra esperienza A volte Nei primi stadi Della creazione Di qualcosa che si desidera Si è sulla strada giusta Per riceverla Perché ci si sente entusiasti E la si aspetta con fiducia Ma poi magari Si racconta il desiderio A qualcun altro Che comincia a dare una serie di ragioni Per cui quel Desiderio non è possibile O è sbagliato E allora l'influsso pessimista Dell'amico Ferma il processo creativo Questo non serve a nulla Perché Quando ci si concentra Sull'essenza di ciò che si desidera Lo si sta attirando Ma nel momento in cui Ci si concentra Sull'assenza di ciò che si desidera Lo si sta allontanando Come mi sento Bene o male Quindi Quando si dice Voglio una nuova auto rossa E so che sta venendo da me Questa sta arrivando Se invece si dice Ma dov'è? La desidero da molto tempo Io credo in ciò che dice Abram Ma i miei desideri Non si stanno avverando Allora non si è concentrati Su quello che si desidera Al contrario Si è concentrati Sull'assenza di ciò che si desidera E per via della legge Dell'attrazione Si sta ricevendo ciò Su cui si è concentrati Cioè l'assenza del desiderio Se ci si concentra Su ciò che si vuole Lo si attrae Se ci si concentra Sulla mancanza Di ciò che si vuole Si attirerà altra mancanza Ogni oggetto In realtà ha due facce Quello che si vuole È la mancanza O assenza Di quello che si vuole Se si sta prestando attenzione Al proprio stato d'animo Si sa sempre Se si è concentrati Su ciò che si vuole O sulla sua mancanza Perché Quando si pensa A ciò che si desidera Ci si sente bene Quando si pensa Alla mancanza Di ciò che si desidera Ci si sente male Quando dite Voglio il denaro Che mi serve A sostenere il mio stile di vita State attirando denaro Ma se vi concentrate Sui beni Che non avete ancora Notandone la mancanza State allontanando La ricchezza Un esercizio Per aiutare La creazione intenzionale Qui di seguito Vi proponiamo Un esercizio Che vi aiuterà Nella creazione intenzionale Prendete tre fogli Di carta separati E in cima A ognuno Scrivete una cosa Che desiderate Ora prendete il primo foglio E sotto l'oggetto Che avete indicato Scrivete Queste sono le ragioni Per cui lo voglio E elencate tutto ciò Che vi viene in mente Buttando giù di getto Tutto ciò che sentite Senza forzarvi Quando non vi viene in mente Altro Per il momento Avete finito Ora girate il foglio E scrivete sul retro Della pagina Questi sono i motivi Per cui credo Che l'avrò La prima pagina Del vostro foglio Accresce la volontà Che qualcosa accada La prima parte Del processo Di creazione intenzionale La seconda pagina Accresce la fiducia Nel fatto che l'otterrete La seconda parte Del processo Ora che siete concentrati E avete attivato La giusta vibrazione Per entrambi I momenti Del processo Siete nella condizione Adatta a ricevere La manifestazione Del vostro desiderio Perché avete svolto Con successo Entrambe le parti Dell'equazione creativa Tutto ciò che dovete fare adesso È volerlo E continuare ad attendere Finché non l'avrete E alla fine Sarà vostro Non c'è limite Al numero di cose Che si possono creare Contemporaneamente Perché non è difficile Mantenere un desiderio E allo stesso tempo L'attesa Della sua realizzazione Tuttavia all'inizio Quando si sta ancora Imparando a focalizzare I propri pensieri Potrebbe essere D'aiuto Concentrarsi Soltanto Su due o tre Desideri per volta Perché più lunga È la lista Dei desideri Su cui state lavorando Più è probabile Che un dubbio Si insinui in voi Mentre guardate A tutto ciò Che non avete ancora Concluso Facendo pratica però E migliorando La vostra capacità Di indirizzare i pensieri Alla fine Non ci sarà Alcun motivo Di limitare L'elenco Dei desideri Prima che possiate Esperire qualcosa Nella vostra vita fisica Dovete pensarlo È il vostro pensiero A invitare le cose Perciò Senza pensiero Nulla verrà Noi Vi incoraggiamo A decidere Intenzionalmente Che cosa volete Quindi a pensare Intenzionalmente A ciò che volete E a non pensare Intenzionalmente A ciò che non volete Vi invitiamo inoltre A mettere da parte Un po' di tempo Ogni giorno Per sedervi E raccogliere Intenzionalmente I vostri pensieri In una sorta Di visione complessiva Di ciò che volete Vivere nella vostra vita E abbiamo chiamato Questo momento Laboratorio di creazione Intenzionale Muovendovi attraverso La vostra esperienza Quotidiana Proponetevi di fare caso A ciò che vi piace Oggi Non importa Che cosa faccia O con chi Il mio scopo principale È cercare cose Che mi piacciono E raccogliendo Intenzionalmente Queste informazioni Avrete a disposizione Risorse con cui creare Quando siete Nel vostro laboratorio I pensieri Che evocano Grandi emozioni Si materializzano presto Abbiamo detto Che i pensieri Sono magnetici Ma a questo punto Vogliamo chiarire una cosa Benché ogni pensiero Sia potenzialmente creativo I pensieri Che non portano Con sé Grandi emozioni Non portano Il loro oggetto Nella vostra esperienza Né in fretta Né lentamente Quando invece Capitano pensieri Che provocano Grandi emozioni Sia positive Che negative L'essenza Di quei pensieri Si manifesterà presto Nell'esperienza fisica L'emozione Che si prova Infatti È una comunicazione Dell'essere interiore Che ci avverte Che si sta attingendo Al potere dell'universo Se andate a vedere Un film dell'orrore E sedete al cinema Con un amico Assorbendo Tutti i particolari Paurosi Trasmessi Dalle immagini E dai suoni State facendo In quel momento Un laboratorio negativo Dal momento Che state Guardando cose Che non volete Le emozioni Che state provando Significano Che il vostro Essere interiore Vi sta dicendo Stai guardando Qualcosa Di tanto vivido Che l'universo Sta attivando Il suo potere Ma per fortuna Ma per fortuna Quando uscite Dal cinema In genere Dite Era solo Un film Per cui Non vi aspettate Che quelle cose Orribili Si realizzino Non credete Che succederanno A voi Per cui Non completate La seconda parte Del processo Di creazione Ci avete pensato Provando forti emozioni Quindi avete iniziato A crearle Ma non permettete Loro di entrare Nella vostra esperienza Perché non vi aspettate Che si avverino Se tuttavia Uscendo dal cinema Il vostro amico Vi dicesse Sarà anche soltanto Un film Ma una volta È successo a me Allora comincereste A considerare La possibilità Di quel pensiero E Così facendo Stareste iniziando A credere O aspettarvi Che cose del genere Possano accadere a voi E alla lunga Sarà così Da una parte Pensare Dall'altra Credere E aspettarsi Sono i due fattori Che quando sono in equilibrio Vi portano Quello che ricevete Se volete una cosa E l'attendete Presto sarà vostra Tuttavia Non è frequente Che i due fattori Il volere E l'aspettarsi Siano in equilibrio A volte Si desidera Molto intensamente Qualcosa Ma non si crede Affatto Di poterla ottenere Per esempio Nella nota Storia della madre Il cui figlio È rimasto intrappolato Sotto una macchina La donna Non crede Di poter sollevare Un mezzo Tanto pesante Ma lo desidera Tanto da riuscirvi D'altra parte Ci sono molti esempi Di casi in cui Se ci si aspetta Fortemente Qualcosa Che non si vuole Lo si attira La creazione Di una malattia Come il cancro È un esempio D'intensa aspettativa Di qualcosa Che non si desidera Affatto A molti di voi Capita più volte Al giorno Di svolgere Quelli che noi Chiameremmo Laboratori negativi Se sedete Alla scrivania Con di fronte Una montagna Di conti Da pagare Sentendovi nervosi O addirittura Spaventati Perché non avete Abbastanza soldi Per pagarli State facendo Un laboratorio Negativo Perché stando seduti A pensare Che non avete Abbastanza denaro Siete nella condizione ottimale Per peggiorare una situazione Che non desiderate Il vostro stato d'animo È un messaggio Del vostro essere interiore Che, in quel momento Vi sta dicendo Che quello cui state pensando Non è in armonia Con ciò che desiderate Una sintesi Del metodo Di creazione intenzionale Ora Riassumiamo Quanto abbiamo spiegato In modo Che abbiate Un'idea chiara E precisa Di come potete Controllare Intenzionalmente La vostra esistenza In primo luogo Dovete riconoscere Che siete più di ciò Che vedete qui Nel vostro corpo fisico E che esiste Una parte di voi Più vasta Saggia E certo anziana Che ricorda Tutto ciò Che avete vissuto E ancora più importante Che sa chi siete Questa parte di voi Dalla sua prospettiva Che tutto include Può offrirvi Informazioni precise E certe riguardo All'adeguatezza E alla bontà Di ciò che state facendo Dicendo o pensando O di ciò che state per fare Dire Pensare Ora se siete in grado Di esporre chiaramente Gli obiettivi Che avete in questo momento Allora il vostro sistema Di guida Può lavorare In modo ancora più efficiente Dal momento Che ha la facoltà Di raccogliere Ogni informazione Derivata da tutte Le vostre esperienze Tutti i vostri desideri Obiettivi Convincimenti E confrontarla Con quanto state facendo O state per fare Al fine di guidarvi In modo sicuro Poi Mentre vivete La vostra giornata Dovete essere attenti Al vostro stato d'animo E Quando vi ritrovate A provare emozioni negative Dovete smettere Di fare ciò che sta causando Quell'emozione Perché significa Che in quel momento State creando Qualcosa di negativo Le emozioni negative Si presentano soltanto Quando state creando Qualcosa che non volete Quindi Quando capite Che state provando Una sensazione negativa Non importa perché Come O in quale situazione Dovete smettere Di fare qualunque Cosa stiate facendo E focalizzare i vostri pensieri Su qualcosa che vi faccia Sentire meglio Esercitate il metodo Di creazione intenzionale 15 o 20 minuti al giorno Sedendovi in un posto tranquillo In cui nulla di ciò che vi circonda Vi disturbi o distragga Sognate a occhi aperti E visualizzatevi Come volete essere Circondati Da ciò che vi piace L'attenzione verso l'esistente Crea solo altro esistente La legge dell'attrazione Risponde a voi Al vostro polo di attrazione Il vostro polo di attrazione È a sua volta Determinato Dai vostri pensieri I quali ancora Danno origine al Vostro stato d'animo Quindi Il modo in cui vi sentite Corrisponde al vostro potente E magnetico polo di attrazione Quando vi sentite poveri Non potete attrarre ricchezza Quando vi sentite grassi Non potete attrarre la magrezza Quando vi sentite soli Non potete attrarre compagnia Tutto ciò infatti Sfiderebbe la legge Molti intorno a voi Vogliono mettervi di fronte Alla realtà E vi dicono Guarda i fatti Guarda l'esistente Noi invece vi diciamo Se riuscite a vedere Soltanto l'esistente Allora Attraverso la legge Dell'attrazione Creerete solamente Altro esistente Dovete riuscire A spingere i vostri pensieri Oltre l'esistente Per attrarre qualcosa Di diverso O di migliore La vostra attenzione emotiva Verso l'esistente Vi farà mettere Radici Come un albero Nel punto in cui siete Ma una visione emotiva Felice Di ciò che vi piacerebbe Attrarre Porterà nella vostra vita Cambiamenti positivi Molte delle cose Che state vivendo Attualmente Non vi dispiacciono E vorreste Che continuassero Così come sono Per cui Mantenete la vostra Attenzione Su di esse E continuerete Ad averle Ad averle Nella vostra esperienza Dovete invece Distogliere la vostra Attenzione Da tutto ciò Che non volete Apprezzando Si attira I pensieri Capaci di suscitare Emozioni Sono quelli Che nella vita Causano più in fretta Cambiamenti I pensieri Che si formulano Senza provare Particolari emozioni Tendono a mantenere La situazione Preesistente Così Le esperienze Che avete già creato E che apprezzate Possono essere mantenute Semplicemente Continuando ad apprezzarle Ma a ciò Che ancora non avete E che desiderate Avere molto in fretta E con molta intensità Dovete attribuire Pensieri chiari Consapevoli Intenzionali E ricchi di emozioni Un uso Estremamente efficace Del laboratorio creativo Consiste nel riflettere Sugli aspetti Che apprezzate di più Delle cose Per voi più importanti Ogni volta che Riconsiderate un oggetto La vostra attenzione Per i suoi dettagli Cresce E Col tempo E con l'aggiunta Di dettagli Cresce anche L'intensità Dell'emozione Che provate In relazione A quell'oggetto Usare in questo modo Il laboratorio creativo È tutto ciò Che è richiesto Per la creazione Intenzionale Poiché Pensando a qualcosa Che si vuole E apprezzandolo emotivamente Si permette Ai propri desideri Di manifestarsi Nella propria esperienza Entrando spesso Nel proprio laboratorio creativo Si comincia a notare L'evidente relazione Tra ciò che si contempla Nel laboratorio E le manifestazioni Che si Realizzano Nell'esperienza Di vita Le leggi universali Funzionano anche Se non ci si crede Jerry Ditemi Abraham Queste leggi Di cui parlate Queste leggi universali Funzionano anche Se non si crede Alla loro azione Abraham Certamente Le persone Emettono vibrazioni Anche quando non sanno Che lo stanno facendo Questo è il motivo Per cui si crea A caso Non si può Spegnere il Meccanismo creativo Funziona sempre E le leggi Reagiscono incessantemente Alle vibrazioni Questo è il motivo Per cui è tanto importante Comprendere le leggi Non comprenderle È un po' come Partecipare a un gioco Senza conoscerne le regole Così Mentre si gioca Non si capisce Perché la partita Sta andando Come sta andando Giocare in questo modo Risulta frustrante E succede Che la maggior parte Delle persone Vuole smettere Come non ricevere Ciò che non si vuole Jerry Abraham Come si può Spiegare come si fa A non ricevere Ciò che non si vuole Abraham Non si deve pensare A ciò che non si vuole Non si devono indirizzare I propri pensieri Verso le cose Che non si vogliono Perché l'attenzione Loro rivolta Finisce per attrarle Più ci pensate Più quel pensiero Diventa potente E genera emozione Comunque Quando si dice Non penserò più A questo o quello Nello stesso momento Lo si sta ancora pensando Per cui La soluzione È pensare a altro Qualcosa di desiderato Con un po' di esercizio Si diventa in grado Di dire In base al proprio stato d'animo Se si sta pensando A qualcosa di voluto O di non voluto Questa società Tanto evoluta Sembra povera di gioia Jerry Noi viviamo in una società Che consideriamo Molto evoluta E da un punto di vista Economico e materiale Stiamo relativamente bene Eppure non vedo Molta gioia Nelle persone Che incontro per strada Sul lavoro E via dicendo Dipende dall'equilibrio Dei due fattori Di cui avete parlato? Aspettano molto Cose che desiderano poco? Abraham La maggior parte Delle persone Emette vibrazioni Soprattutto in reazione A ciò che sta osservando Così Quando queste persone Osservano qualcosa Che le fa sentire bene Provano gioia Ma quando osservano Qualcosa che le fa sentire male Non riescono a provarla La maggior parte di loro Non crede Di avere alcun controllo Sul proprio stato d'animo Perché non riesce Ad assumere il controllo Delle situazioni In cui lo stato d'animo Non fa che rispondere È la loro sfiducia Nel controllo Della loro esperienza A essere responsabile Dell'assenza di gioia A cui ti riferisci Ma dobbiamo ricordarci Che se continui A occuparti Della loro assenza di gioia Anche la tua gioia Svanirà Come volere Con più passione Jerry Avete detto Che se il nostro desiderio È appassionato La nostra fede O aspettativa Non deve essere Necessariamente Molto forte Per cui vi chiedo Nel laboratorio Di cui ci parlate Come possiamo sviluppare Un desiderio appassionato? Abram Da qualche parte Bisogna pur cominciare In altri termini Molti di quelli Che interagiscono Con noi ci dicono Abram Capisco quello che dite Ma io non so ancora Che cosa voglio E allora noi Li invitiamo a cominciare Dicendo a se stessi Io voglio sapere Che cosa voglio Perché Manifestando costintenzione Si diventa magneti Che attirano Ogni sorta di informazione Da cui partire Per prendere Le proprie decisioni L'importante È che cominciate Poi lasciate Che sia la legge Dell'attrazione A proporvi esempi E scelte Quindi Più penserete A queste scelte Più desidererete Compassione Pensare a qualcosa Rende l'oggetto Del pensiero Più forte E l'emozione relativa Crescerà di pari passo Quando si pensa A ciò che si desidera E si aggiungono Particolari all'immagine I pensieri Diventano più forti Se invece Si pensa A qualcosa Che si desidera Ma poi si considera Che non è ancora arrivato O si pensa A quanto sarebbe Bello averlo Ma poi ci si ricorda Quanto costa E che al momento Non ce lo si può permettere Questo altalenare Diluisce la passione E rallenta Il potere del pensiero Si possono lasciare Alle spalle Opinioni controproducenti? Jerry Si può creare Nella direzione desiderata Anche se si è stati indotti Dagli altri A credere Che si è destinati A creare In una direzione diversa? Abraham Se lo si desidera Abbastanza Si può In altri termini Alla madre Che abbiamo citato In precedenza La società E la sua stessa esperienza Avevano insegnato A credere Di non essere in grado Di sollevare un'automobile Eppure Quando la sua volontà È stata abbastanza intensa Cioè Quando suo figlio Si è trovato in pericolo Ci è riuscita? Insomma Se il desiderio È abbastanza grande Può vincere Le nostre convinzioni Le opinioni Sono molto potenti E cambiano lentamente Ma possono essere cambiate Continuando a coltivare I pensieri Che vi facciano sentire meglio Ne troverete sempre di nuovi Li attiverete E la legge Dell'attrazione Risponderà loro E col tempo La vostra nuova vita Rifletterà questi cambiamenti Nel vostro modo di pensare Se vi aggrappate All'idea Che si può credere Soltanto A ciò che è basato Su prove di fatto Allora nulla potrà mai cambiare per voi Ma se capite che Reindirizzando il pensiero E lasciando che la legge Dell'attrazione Risponda al nuovo pensiero Emergeranno nuove prove Allora comprenderete Il potere Della creazione intenzionale Le convinzioni delle vite passate Possono influenzare la vita attuale? Jerry Ci sono pensieri O opinioni Delle nostre vite passate Che ancora creano O sono in grado Di creare nella nostra Attuale esperienza fisica? Abraham Voi siete esseri In continua crescita E il vostro essere interiore È l'apoteosi Di tutto ciò Che avete vissuto Il vostro essere interiore Non solo crede Ma conosce la dignità E il valore Del vostro essere Così Quando scegliete pensieri In accordo Con quelli del vostro essere interiore Condividete con chiarezza Quella sua conoscenza Tuttavia I particolari Di ogni esperienza fisica Passata Non influenzano La vostra attuale Esistenza fisica C'è molta confusione Su questo argomento E questo Dipende largamente Dal fatto Che ci sono persone Che non vogliono accettare L'idea Di essere creatori Della Loro esperienza Dicono In questa vita Sono grasso Perché nell'ultima Sono morto di fame Noi invece vi diciamo Non c'è nulla Delle vostre esperienze Pregresse Che influenzi Le vostre esistenze attuali A meno che In qualche modo Non ne siate divenuti Consapevoli E ora stiate Prestando loro La vostra attenzione Le aspettative negative Possono influenzare Il benessere di altri? Jerry Se Preoccupati Per il benessere Delle persone Cui vogliamo veramente bene Vediamo che I nostri pensieri Stanno scivolando Verso una qualche Aspettativa negativa Riguardo al loro futuro Possiamo danneggiarle Anche soltanto Prendendo in considerazione I problemi Che possono incontrare? Abraham Non potete creare nulla All'interno Dell'esperienza altrui Perché non potete Vibrare al posto loro Né sostituirvi Al loro polo D'attrazione Se però vi concentrate Su qualcosa Fino a farlo diventare Abbastanza forte E ciò vi fa provare Emozioni intense Potete influenzare I pensieri Dei vostri cari Ricordate Che la maggior parte Delle persone Emette vibrazioni In risposta a ciò Che sta osservando Per cui Se i vostri cari Vi stanno osservando E vi leggono in faccia Che siete angosciati O se ascoltano I vostri commenti Preoccupati Possono inclinare In una direzione Di pensiero Non desiderata Se volete essere D'aiuto agli altri Vedeteli come sapete Che loro vogliono essere Questo è l'unico Influsso Che vorreste Intenzionalmente Avere su di loro Posso liberarmi Dell'educazione Ricevuta da altri? Jerry Se una persona È stata educata Da altri A certi convincimenti E ritiene Che questi convincimenti Non siano più Adatti alla sua vita Come se ne può liberare? Abraham Voi siete rallentati Da due principali ostacoli Uno è l'influenza altrui L'altro è l'influenza Delle vostre vecchie abitudini Avete sviluppato Modi di pensare Per cui è facile Ricadere nelle vecchie abitudini Piuttosto che pensare In modo nuovo Che sia in armonia Con i vostri Nuovi desideri Si tratta di esercitare Intenzionalmente Un poco di forza Quella che voi chiamate Forza di volontà E reindirizzare La vostra attenzione In una nuova direzione L'educazione Di cui parli Deriva dall'essere Stati concentrati Su qualcosa E dalla risposta Della legge Dell'attrazione A questa concentrazione Che, come sempre Rende più forte Ogni cosa Su cui vi concentriate Una parte Di ciò che voi Chiamate educazione È soltanto Un sistema salutare Di integrazione Nella vostra Attuale società Ma una parte Di questa In effetti Ostacola la vostra Crescita personale Col tempo E con l'esercizio Sarete in grado Di cogliere La differenza Tra queste due Componenti E di guidare I pensieri Verso le vostre Scelte personali E questo è davvero E questo è davvero Il cuore Della creazione Intenzionale Il potere È in questo Preciso momento Jerry Abraham Nei libri di Seth C'è una frase Che dice Il vostro punto Di potere È nel presente Che cosa Significa Secondo voi Abraham Che stiate Pensando a qualcosa Che accade Proprio ora O a qualcosa Che è accaduto In passato O a qualcosa Che Vorreste accadesse In futuro Lo state facendo Pensandolo In questo preciso momento State mettendo La vostra vibrazione Di pensiero Nel presente Ed è a questa Attuale vibrazione Che risponde La legge Dell'attrazione Quindi Il vostro potere Creativo È adesso È anche importante Notare Che le emozioni Sorgono in reazione Al pensiero attuale Che esso riguardi Il vostro passato Presente O futuro Più forte È l'emozione Che si prova Più potente È il pensiero E più rapidamente Si attrae Nella propria esistenza Ciò che corrisponde All'essenza Del pensiero Chi stiate Richiamando Alla memoria Una discussione Avuta con qualcuno Anni fa O con qualcuno Che sia morto Dieci Anni fa State ricordando Quella discussione Ora Ne attivate La vibrazione Corrispondente Ora E il vostro Attuale polo Di attrazione Ne ha influenzato Ora Com'è successa La prima sventura Jerry Mi sono chiesto Spesso come sia Capitata la prima Malattia O la prima sventura È vero Che quasi ogni cosa È accaduta Perché la si è pensata In altri termini Quando è nata la luce elettrica Prima è venuto il pensiero Poi è seguita la luce elettrica Sicché il nostro progredire nella malattia O in cose buone ed emozionanti Sarebbe solo un passo O un nuovo pensiero Al di là di qualcosa Che è stato già pensato In precedenza Abram Tutte le cose Che le giudichiate Buone o cattive Sono il passo logico Successivo Alla situazione In cui attualmente Vi trovate Hai ragione Quando dici Che il pensiero Viene prima Prima c'è il pensiero Poi l'elaborazione Del pensiero Infine la sua manifestazione La vostra condizione attuale È una piattaforma Che ispira Il pensiero successivo E quello ancora seguente Quando si comprende Che si può scegliere Tra pensare cose positive O pensare cose negative Ma che in ogni caso La legge dell'attrazione Incrementerà il potere del pensiero Fino a farlo infine realizzare Si può desiderare Un controllo più intenzionale Della direzione Che esso prende Nulla si realizza Partendo dalla prima Sottile attenzione Che gli si rivolge Ci vogliono tempo e attenzione Per attirare il potere del pensiero E causarne la manifestazione Questo è il motivo Per cui tutto Voluto O non voluto che sia Cresce In altri termini Le malattie crescono E diventano più diffuse Quando gli umani Vi si concentrano di più Immaginazione e visualizzazione Non sono la stessa cosa? Jerry Abraham Come spieghereste La parola immaginazione? Che cosa significa per voi? Abraham Immaginazione È un miscuglio E un'alterazione Di pensieri Combinati in modo variabile È simile a quanto si vede Osservando una certa situazione Nell'immaginazione però Si creano immagini Piuttosto che vedere qualcosa Che esiste nella realtà attuale Alcuni usano altre parole Come visualizzazione O vista mentale Ma noi vorremmo proporre Una sottile distinzione La visualizzazione Spesso è soltanto Il ricordo di qualcosa Che si è visto in passato Per immaginazione Noi intendiamo La combinazione intenzionale Nella vostra mente Di elementi desiderati Al fine di creare Uno scenario desiderato In altre parole Significa concentrarsi Con lo scopo Di suscitare In se stessi Emozioni positive Quando noi usiamo La parola immaginazione Stiamo parlando Della creazione intenzionale Della vostra realtà Jerry Ma come possiamo immaginare O visualizzare qualcosa Che non abbiamo ancora visto Come il compagno Con cui vorremmo vivere Il bambino Che vorremmo avere O un lavoro Che non abbiamo mai preso In considerazione Abraham Osservando il mondo Che vi circonda Raccogliendo E valutando intenzionalmente Gli aspetti Della vita Che vi piacciono Notate il sorriso Magnifico Che vi viene rivolto Da qualcuno O la casa magnifica In cui vive un altro Prendete nota A mente O per iscritto Delle cose Che vi piacciono Poi mescolate Tra loro Questi elementi Creando scenari E modelli di vita Che vi piacciono Non cercate Modelli perfetti Perché voi siete Unici e creatori Della vostra realtà Che è altrettanto unica Col tempo Scoprirete O ricorderete Che custarte Dell'immaginare Permette a risultati Gradevoli Di farsi strada Nella vostra esperienza Ma anche Che è molto divertente In sé Quando si dice Voglio sapere Che cosa voglio Si comincia ad attirare Per legge Ogni sorta di modello E mentre raccogliete Le informazioni Che vi stanno arrivando Fate in modo Che il vostro scopo principale Ogni giorno Sia cercare cose Che desiderate A quel punto Potrete guardarvi intorno E vedere in altre persone Caratteristiche O elementi Che vi piacerebbe Ritrovare nel vostro compagno In un vostro amico O nel vostro lavoro Ricordate che non esiste Il modello di comportamento Perfetto per voi Dovete essere voi A crearlo Talvolta sentiamo dire Volevo essere benestante Poi ho incontrato Un uomo Che era benestante Ma che aveva Una salute precaria E un pessimo matrimonio Per cui ho associato Il benessere economico Coi pessimi matrimoni E la salute precaria E ho smesso Di desiderare la ricchezza Noi vi diciamo Raccogliete L'informazione Relativa alla ricchezza Se la desiderate E lasciate da parte La salute precaria E il pessimo matrimonio Jerry Quindi Quando visualizziamo Possiamo mettere insieme Tutte le caratteristiche Che desideriamo Nel nostro partner In nostro figlio O nel nostro lavoro Abraham Sì Proprio questo È il cuore del laboratorio È un luogo Dove si va Per cominciare A elaborare immagini mentali Di ciò che si vuole Senza essere disturbati Jerry Quindi Non deve essere qualcosa Che già esiste Basta che sia Quello che vogliamo provare ora Abraham E Mentre state lavorando Nel vostro laboratorio Scoprirete che Nella maggior parte Dei casi La vostra visualizzazione Non giunge all'istante Saprete quando vi sarà chiara Perché vi sentirete eccitati Vi è mai successo Di lavorare a un progetto E di averci pensato Di averci pensato molto E poi improvvisamente Di dire Mi è venuta un'idea Questo sentimento Quello che si prova Quando si ha una buona idea È il trampolino di lancio Della vostra creazione In altri termini Avete rimuginato I vostri pensieri Fino a diventare Abbastanza precisi E azzeccare La perfetta combinazione Di Pensieri che fa dire Al vostro essere interiore Attraverso un'emozione Sì Così Ci siamo Quindi La chiave del Laboratorio È pensare fino a provare La sensazione Che accompagna una buona idea Jerry Qual è la causa Più frequente Del fatto Che un forte desiderio Visualizzato Non si materializza Abram Se avete visualizzato Soltanto il vostro desiderio Deve arrivare E in fretta Il punto focale È la purezza Della visualizzazione E con questo Intendiamo Che dovete formulare Soltanto pensieri Che vadano Nella direzione Di ciò che volete Quando dite io lo voglio Ma Aggiungendo il ma Cancellate il desiderio O lo vanificate Alla nascita Spesso fate molti O più pensieri Sull'assenza di ciò Che desiderate Piuttosto che Sulla sua presenza Se qualcosa Che volete Ci mette molto Ad arrivare Può dipendere Da una sola ragione State trascorrendo Più tempo Concentrati Sulla sua assenza Che non sulla sua presenza Se riuscite A identificare Quello che volete E poi a pensarvi Intenzionalmente Fino a che non lo otterrete L'essenza di tutto ciò Che desiderate Sarà vostra Molto presto Se riuscite a passare Il vostro tempo Visualizzando Soltanto ciò che volete Piuttosto che Prestando attenzione All'attuale esistente Attirerete ciò che volete Non l'esistente Si tratta di cambiare Il proprio magnetico Polo di attrazione Distogliete Il vostro sguardo Le vostre parole E i vostri pensieri Dall'esistente E puntateli Soltanto su ciò che volete Più pensate E parlate Di ciò che volete Più in fretta Sarà vostro Essere pazienti Non è una virtù Jerry Abraham Che cosa pensate Quando sentite gli umani dire Devi solo avere pazienza Abraham Se si comprende La legge dell'attrazione E si comincia A indirizzare Intenzionalmente I propri pensieri Ciò che si desidera Fluisce rapidamente E incessantemente Nella propria esistenza E la pazienza Non è necessaria Non ci entusiasma L'idea Che qualcuno Impari la pazienza Perché Questo atteggiamento Sottintende che per natura Alle cose Occorra molto tempo E questo non è vero Ci mettono molto tempo Ad arrivare soltanto Quando i nostri pensieri Sono incoerenti Se si fa un passo avanti E uno indietro Poi ancora uno avanti E di nuovo uno indietro Si può anche Non arrivare mai Dove si vuole andare Ma se si smette Di fare quel passo indietro E ci si limita A camminare in avanti Ci si arriva in fretta E questo Non richiede pazienza Voglio un balzo in avanti Jerry Beh È facile fare un piccolo passo in avanti Rispetto alla nostra attuale condizione E fare un poco di più di quello Che stiamo facendo Essere un po' di più di quello che siamo E avere un poco di più di quanto abbiamo Ma che cosa ci dite riguardo a ciò che chiamiamo un balzo in avanti Cioè raggiungere un obiettivo Quasi al di là di qualunque Cosa abbiamo visto prima Come si può intraprendere la creazione di qualcosa di simile Abram Bene Hai colto un punto cruciale Per voi è facile fare i piccoli passi in avanti Che hai menzionato Perché vi è facile stiracchiare un pochino i convincimenti Che avete in un dato momento senza disconoscerli In questo modo Non state cambiando radicalmente le vostre aspettative O le vostre opinioni Le state allargando appena un poco Un balzo in avanti invece spesso Implica il dover abbandonare del tutto le proprie convinzioni attuali E adottarne Di nuove I grandi progressi non si ottengono incrementando il fattore di attesa Fede o permesso del processo di creazione Si fa un grande balzo in avanti Incrementando il desiderio Non credete che la madre che abbiamo citato prima Sollevando l'automobile dal figlio Abbia fatto un balzo in avanti? Se avesse frequentato una palestra Avrebbe impiegato molto tempo Per convincersi piano piano Di poter sollevare un oggetto tanto pesante Ma in quel momento Il suo potente desiderio Ha innescato un balzo in avanti Noi non incoraggiamo simili balzi in avanti Perché implicano contrasti traumatici Che aumentano con violenza il desiderio E che possono portare a risultati si sorprendenti Ma quasi sempre temporanei Perché l'equilibrio delle vostre convinzioni alla fine Vi ricondurrà al punto di partenza Superare in modo graduale le proprie convinzioni Credendo nella realizzazione progressiva Dei propri desideri È un modo assai più gratificante di creare Jerry E ditemi ancora una volta Come possiamo stimolare i nostri desideri? Come possiamo indurci a volere di più? Abraham Concentrate i vostri pensieri Su ciò che credete di volere E la legge dell'attrazione Attirerà maggiori informazioni E più dati e situazioni utili alla vostra creazione Osservando ciò che si vuole È naturale provare una potente emozione positiva Si tratta soltanto di mantenere i pensieri concentrati Su ciò che si vuole Se è possibile Andate in posti dove già potete vedere gli oggetti Dei vostri desideri In modo da mettervi deliberatamente In condizione di sentirvi bene Poi, quando vi sentite bene Tutto ciò che, secondo voi Vi è di buono inizierà a entrare nella vostra vita Quando siete concentrati su qualcosa Sarà la legge dell'attrazione A stimolare il vostro desiderio Per cui Se vi sembra che ci voglia molto lavoro Per accrescere i vostri desideri E rafforzare le vostre emozioni positive È perché state pensando a ciò che volete E insieme al suo opposto L'attuale assenza di ciò che volete Ragion per cui non state permettendo Un continuo progresso Le cose più grandi Non sono più difficili da realizzare Jerry Secondo voi, qual è il motivo per cui Quasi tutti sentono di poter creare O realizzare piccole cose? Ma non si sentono in grado di crearne di più grandi? Abraham Capita perché non comprendono la legge E permettono che ciò che già è Circoscriva ciò che è possibile Se si comprendono le leggi Si comprende che non è più difficile Creare un castello piuttosto che un bottone Sono la stessa cosa Creare 10 milioni di dollari Non è più difficile che crearne 100.000 Si tratta di applicare la stessa legge Allo stesso modo A due diversi scopi Si possono dimostrare questi principi A di altri? Jerry Quando una persona vuole mettere alla prova Queste leggi o principi Per cercare di verificarne la validità E dice Mostrami che cosa si può fare con questo In qualche modo influenza L'efficacia della legge dell'attrazione Abraham Cercare di provare qualcosa Presenta un problema Spesso vi induce a fare qualcosa Che non volete E così facendo Attivate nella vostra vibrazione Proprio ciò che non volete Il che rende più difficile ottenere Quello che invece volete Può anche essere molto scoraggiante Perché se i vostri interlocutori Sono davvero scettici Potrebbero instillare dubbi anche in voi Non c'è alcun bisogno Di provare nulla a nessuno Siate voi stessi Vivete quello che state vivendo E lasciate che sia il vostro esempio di vita A convincere gli altri Perché si sente il bisogno Di giustificare il proprio valore? Jerry Abraham Come interpretate che molti di noi In forma fisica Sembrino sentire il bisogno Di giustificare la propria fortuna? Abraham Ciò si spiega in parte Considerando che gli esseri umani Credono a torto Che le risorse siano limitate Per cui si sentono in dovere Di spiegare agli altri Il perché dovrebbero riceverle loro Anziché altri Altro fattore È che credete di essere limitati Qui nel vostro mondo fisico Circola un pensiero molto potente Di per sé tu non sei degno Sei qui per dimostrare se lo sei Voi non siete qui per provare il vostro valore O la vostra dignità Voi valete come E siete qui per provare la gioia della crescita È attraverso il potere del vostro desiderio E del vostro permettere Applicando le vere leggi di cui stiamo discutendo Che siete emersi in questa realtà spazio-temporale Dunque la vostra stessa esistenza fisica Basta a provare il vostro valore E il vostro diritto di essere Fare e avere qualunque cosa desideriate Se comprenderete che il motivo Per cui il pensare alla vostra indegnità Vi fa sentire così male È che tale Pensiero è in totale disaccordo Col modo in cui si sente il vostro essere interiore Potrete allora cercare di migliorare La direzione del vostro pensiero Se però non capite questo punto Vi affannerete per cercare di piacere agli altri Ma, poiché ciò che gli altri pretendono da voi Non è mai coerente Alla fine perderete la vostra retta via Quando vi giustificate Le vostre vibrazioni sono negative Perché non siete concentrati su ciò che desiderate State cercando di convincere gli altri Che è giusto che voi desideriate qualcosa E questo non è affatto necessario È giusto e basta I posto hanno azione e lavoro nella ricetta di Abram? Jerry Tra le persone che ho conosciuto Molte di quelle che hanno ottenuto nella loro vita Risultati straordinari Persone che hanno la gioia di possedere beni materiali Relazioni gratificanti e salute Non sembrano essersi prese la briga di investire molte energie Per ricevere tutto questo Anzi, ho avuto l'impressione che lavorino assai meno Rispetto a tante altre che Pur lavorando molto più duramente Hanno molto meno Quindi quale posto hanno il lavoro materiale E l'azione nella vostra ricetta Per creare ciò che vogliamo? Abram Non siete entrati in questo ambiente fisico Per creare attraverso l'azione La vostra azione è intesa come un modo per apprezzare ciò che avete creato col pensiero Quando vi prendete del tempo per formulare intenzionalmente pensieri Scoprendo il potere di allineare i pensieri relativi ai vostri desideri con le aspettative corrispondenti La legge dell'attrazione produrrà i risultati che state cercando Tuttavia, se non vi prendete il tempo per mettere in linea i vostri pensieri In questo mondo non c'è azione che possa compensare l'allineamento sbagliato L'azione ispirata a pensieri conformi all'essere interiore è gioiosa L'azione condotta partendo da pensieri contraddittori è fatica che non da soddisfazione ne porta buoni risultati Quando vi sentite davvero pronti a passare all'azione È un chiaro segno che la vostra vibrazione è pura e non avete pensieri incoerenti rispetto ai vostri desideri Se vi costringete a fare qualcosa contro voglia O se l'azione intrapresa non produce i risultati che cercate È sempre perché state facendo pensieri contrari rispetto ai vostri desideri La maggior parte degli esseri fisici è orientata verso l'azione Perché non ha ancora compreso il potere dei pensieri Quando si esercita correttamente il pensiero intenzionale non c'è bisogno di propendere tanto all'azione Aprire la strada al futuro Spesso le persone ci dicono Beh, Abram, io devo agire Oggi non posso starmene seduto a pensare Noi concordiamo sul fatto che la vostra vita è in movimento e richiede azione Ma se fossimo nei nostri panni fisici Oggi cominceremmo a pensare intenzionalmente il più possibile alle cose che sono importanti per noi E se ci sorprendessimo a pensare a cose che non vogliamo Pensieri sempre accompagnati da sensazioni negative Ci fermeremmo e cercheremmo un modo di pensare a ciò che invece ci fa sentire meglio Quindi col tempo le cose comincerebbero a migliorare in ogni ambito Immaginiamo che stiate camminando per la strada E vediate un grosso bullo picchiare un uomo mingerlino In momenti del genere è richiesta l'azione Le opzioni davanti a voi sono Continuare a camminare e lasciare che il poveretto venga ferito Oppure intervenire e forse rischiare di rimanere Feriti a vostra volta Nessuna delle due soluzioni è soddisfacente Potete quindi intraprendere l'azione che preferite Ma non dovete lasciare che i vostri pensieri procedano in questa direzione Raccogliete allora delle immagini positive dalle esperienze di vita di coloro che vivono in modo più armonioso Portatele nel vostro laboratorio E fate sì che quelli siano i pensieri che vibrano più attivamente in voi Col tempo la legge dell'attrazione non vi metterà più in situazioni che non presentano opzioni soddisfacenti Chi vede se stesso come un salvatore Uno che difende i deboli dai prepotenti Incrocerà spesso persone che hanno bisogno di essere salvate Se desiderate avere questo tipo di esperienze Allora continuate a pensare in questa direzione E la legge dell'attrazione continuerà a portarvele Se invece desiderate altro Pensateci e la legge dell'attrazione vi porterà altro Gli oggetti dei vostri pensieri aprono la strada alle vostre esperienze future Come l'universo realizza i diversi desideri Jerry Come ho spesso detto Le mie osservazioni mi hanno indotto a concludere che le persone che nella loro vita Lavorano di più ottengono di meno E quelle che lavorano di meno ottengono di più Eppure qualcuno deve raccogliere le patate Mungere le mucche Trivellare i pozzi di petrolio E fare quello che noi chiamiamo un duro lavoro Allora spiegatemi Abraham Come possiamo fare in modo che ciascuno di noi possa avere Fare ed essere ciò che vuole E allo stesso tempo espletare tutti i lavori di cui c'è bisogno Abraham Voi vivete in un universo che ai nostri occhi è in perfetto equilibrio Siete come cuochi in una cucina ben fornita di tutti gli ingredienti immaginabili in abbondanza talida Permettervi di creare qualunque ricetta vogliate Quando non volete davvero fare una cosa Vi riesce difficile immaginare altri che possano volerla fare o ai quali non importi farla Sappiamo con certezza che se l'intera società decidesse di non svolgere più un certo compito O comunque, non in un certo modo, grazie al potere del vostro desiderio Sorgerebbe un modo nuovo di svolgerlo O vi arrangereste senza È normale per una società arrivare al punto in cui non si desidera più qualcosa Al che questo cessa di esistere Rimpiazzato da un desiderio nuovo e migliore In che cosa differiscono la vita fisica e quella non fisica? Jerry Quali sono le differenze principali tra la nostra vita Qui nella nostra esperienza fisica e la vostra Nella vostra dimensione non fisica? Che cosa abbiamo noi qui sulla Terra che voi non avete? Abram Dal momento che voi siete estensioni fisiche di ciò che realmente siete Molto di quello che provate lo proviamo anche noi Tuttavia, noi non ci permettiamo di concentrarci sulle cose che a voi portano disagio Siamo concentrati più intensamente su ciò che vogliamo E quindi non proviamo le sensazioni negative che provate voi Voi siete in grado di sentirvi come ci sentiamo noi e infatti quando apprezzate o amate Quelle emozioni autentiche che state provando indicano che state guardando alla situazione in cui vi trovate nello Stesso modo in cui la guardiamo noi Non c'è discontinuità tra quello che conoscete come mondo fisico e quello che considerate il mondo non fisico Tuttavia, nel mondo non fisico i nostri pensieri sono più puri Non ci impigliamo in cose che non vogliamo, non pensiamo alla mancanza di ciò che vogliamo Noi prestiamo la nostra intera attenzione a desideri in continuo sviluppo Il vostro mondo fisico, la Terra, è un buon ambiente per affinare la conoscenza dei vostri desideri Poiché qui ciò che pensate non si materializza istantaneamente, avete infatti un lasso temporale Quando pensate cose che desiderate, dovete averle ben chiare nella mente Abbastanza da far sorgere delle emozioni prima di cominciare il processo di attrazione E, anche allora, dovete comunque permetterlo e aspettarvi che il processo si manifesti nella vostra esperienza Prima che avvenga davvero Il lasso temporale vi offre l'occasione di appurare in tempo se sentite desiderabile ciò che pensate Se foste in una dimensione in cui i pensieri si concretizzano istantaneamente Passereste più tempo a cercare di venire a capo dei vostri errori, come molti di voi devono comunque fare Che a creare ciò che desiderate Come si impedisce la manifestazione delle cose indesiderate? Jerry In questo ambiente dotato di lasso temporale Che cosa permette di allontanare i pensieri indesiderati prima che si manifestino fisicamente? Abraham Di solito non vengono del tutto allontanati La gran parte delle persone vive alcune esperienze gradite e alcune sgradite La maggior parte di voi nella vita crea quasi tutto per caso Perché non comprende le regole del gioco Non comprende ancora le leggi Ci sono però alcuni che cominciano a comprendere queste eterne leggi universali E il fatto che esistono anche quando le signora e in tutte le dimensioni Per costoro La coscienza del loro stato d'animo è dunque l'elemento decisivo per determinare quali dei loro pensieri si materializzeranno Non si dovrebbero visualizzare anche i mezzi della manifestazione? Jerry Abraham Quando stiamo visualizzando o pensando qualcosa che vogliamo Dobbiamo anche guardare i mezzi con cui lo otterremo o come lo otterremo O sarebbe più intelligente limitarsi a visualizzare soltanto il risultato finale E lasciare che il modo venga da sé Abraham Se avete già stabilito in che modo otterrete ciò che desiderate Allora è giusto che vi prestiate attenzione Il semplice sistema per comprendere se, nei vostri desideri, siete troppo specifici o troppo vaghi È ancora una volta il vostro stato d'animo In altri termini, quando siete nel Laboratorio, i dettagli del vostro pensiero porteranno entusiasmo o emozione positiva Se però scendete troppo nei dettagli, prima di aver raccolto informazioni sufficienti Allora vi sentirete dubbiosi o preoccupati Così, anche riconoscere l'equilibrio dei propri desideri consiste nel prestare attenzione allo stato d'animo Siate abbastanza specifici da provare emozioni positive Ma non tanto da iniziare a provarne di negative Quando si parla di cosa si vuole e del perché lo si vuole In genere ci si sente bene Invece, quando si parla di cosa si vuole e di come lo si otterrà Se in quel momento ancora non si intravede il modo in cui esso si potrà manifestare fisicamente questo pensiero Troppo dettagliato, fa sentire male Se si parla di chi contribuirà alla realizzazione del desiderio o di quando avverrà E non si sa ancora rispondere, allora questi particolari saranno di ostacolo più che d'aiuto La chiave è essere il più dettagliati possibile, continuando a sentirsi bene I miei desideri sono troppo specifici? Jerry Supponiamo che mi piacerebbe essere un insegnante in una situazione molto gioiosa Sarebbe utile dire, beh, ora devo decidere se desidero insegnare storia, matematica o filosofia E se in una scuola superiore o d'altro tipo Abraham, quando pensi al motivo per cui vuoi essere un insegnante E cioè, voglio elevare gli altri alla gioia che ho scoperto nel conoscere una determinata disciplina La tua emozione positiva indica che quel pensiero ti sta aiutando a creare positivamente Ma se poi tu pensassi, ma non sono abbastanza portato verso questa materia O l'attuale sistema scolastico non offre alcuna libertà agli studenti O ricordo quanto mi sentivo soffocare quando Ero studente o non ho mai avuto un insegnante che mi piacesse Pensieri simili non genererebbero emozioni positive E questi dettagli intralcerebbero la tua gioiosa creazione Il punto non è essere specifici o generici Il punto è la direzione del pensiero Dovete cercare pensieri che vi facciano sentire bene Cercandoli, vi renderete conto che in genere Li si trova più facilmente mantenendo un approccio generico Soltanto in seguito, partendo da questa condizione di benessere Dovete aggiungere via via sempre più dettagli Che però non appannino il vostro buon umore Finché potrete con facilità essere molto dettagliati Senza per questo smettere di sentirvi bene Questa è la maniera migliore di creare Jerry Non sarebbe forse meglio limitarsi a visualizzare l'essenza del risultato finale E lasciare i dettagli completamente A se stessi? Abraham Sarebbe un buon modo di procedere Ciò che state cercando è muovervi speditamente verso risultati felici Immaginate di aver già raggiunto tutto ciò che desiderate Da quella condizione di benessere interiore Attirerete pensieri dettagliati che causeranno le persone Le situazioni e gli eventi che desiderate Jerry Allora quanto dovrebbero essere dettagliati i nostri pensieri Riguardo al risultato finale del nostro processo creativo? Abraham Pensando a ciò che desiderate Siate dettagliati quanto potete senza smettere di sentirvi bene Si possono cancellare pensieri dannosi relativi al passato? Jerry In qualche modo è possibile fare tabula rasa di tutte le esperienze I pensieri e le opinioni passati che non aiutano in alcun modo a creare gioiosamente nel presente? Abraham Non si può guardare a un'esperienza indesiderata E annunciare che non vi si vuole più pensare Perché Perfino in quel momento In realtà la si sta pensando Si può invece pensare ad altro Così facendo L'oggetto indesiderato appartenente al passato perderà potere E Col tempo Non ci si penserà più Piuttosto che sforzarsi di cancellare il passato È meglio concentrarsi sul presente Pensate a quello che ora volete Come si può invertire una spirale negativa? Jerry Se ci si trova in una spirale negativa Nella quale tutto ciò che un tempo era per noi importante Sembra fallire o svilirsi Come si può fermare questo circolo vizioso E tornare a muoversi in direzione positiva? Abraham Ecco un'ottima domanda La spirale negativa è opera della legge dell'attrazione In altri termini È iniziata con un piccolo pensiero negativo Al quale poi si sono aggiunti altri pensieri Altre persone Altre conversazioni dello stesso segno Finché quel piccolo pensiero di scarso potere È diventato una spirale negativa molto potente Se si tratta di problemi molto seri È necessario essere molto forti Per allontanare il pensiero da ciò che non si vuole Insomma È difficile pensare a un piede sano Se le dita dei piedi fanno male In situazioni estremamente negative Suggeriamo di distrarsi piuttosto che cercare di invertire la direzione del pensiero Per esempio Andate a dormire o guardate un film Ascoltate della musica Accarezzate il gatto Fate qualcosa che vi faccia pensare ad altro Perfino quando ci si trova in quella che hai chiamato spirale negativa però Alcuni aspetti della vita vanno meglio di altri Concentrandovi sulle cose migliori Anche se costituiscono una piccola parte di quanto vi sta accadendo La legge dell'attrazione ve ne porterà altre Per sostituire una rapida spirale negativa con un'altrettanto rapida spirale positiva È sufficiente indirizzare I propri pensieri sulle cose desiderate Quando due persone si contendono lo stesso premio Jerry In una situazione competitiva In cui una persona vince un premio E quindi un'altra lo perde Come può ognuno ottenere ciò che vuole Abraham Comprendendo che esiste un'infinità di premi Quando ci si mette in una competizione in cui c'è un solo premio Ci si sta infilando automaticamente in una situazione in cui è manifesto che solo uno vincerà E vincerà la persona dagli intenti più chiari Dal desiderio più intenso E con maggiore fede nella vittoria La competizione può giovare perché stimola i vostri desideri Ma può essere nociva se intacca la fiducia che avete nel vostro successo In una competizione trovate il modo di divertirvi Guardate i vantaggi che comporta Anche se non tornerete a casa con un premio Se vi sentite bene, dal nostro punto di vista Avrete comunque vinto il premio più grande di tutti Armonia Chiarezza Vitalità Allineamento col vostro essere interiore In questa disposizione d'animo porterete a casa molti premi In questo universo illimitato Non c'è bisogno di competere per le risorse Poiché sono illimitate Ci si può privare della possibilità di attingerne E di conseguenza si avrà l'impressione di penuria Ma questo dipende da voi Ciò che immagino è realistico Jerry Tra le cose che possiamo desiderare Ce n'è qualcuna che voi considerereste irrealistica? Abram Se si è in grado di immaginarla Non è mai irrealistica Se in questa realtà spazio-temporale Siete riusciti a creare un desiderio Questa stessa realtà spazio-temporale Ha le risorse per esaudirlo Tutto ciò che dovete fare È allinearvi a livello vibrazionale Col desiderio stesso Jerry Se posso visualizzare una cosa Questo significa che l'ho immaginata? Abram Se state visualizzando voi stessi All'interno di ciò che state immaginando State attirando a voi la situazione Nella quale troverete i mezzi Per creare ciò che state immaginando Si possono usare questi principi a scopi malvagi? Jerry È possibile usare questo processo di creazione Che ci state insegnando Per fare qualcosa di male Come alcuni direbbero Per esempio Togliere la vita a qualcuno O prendere cose da altri Contro la loro volontà Abram Una persona può creare ciò che vuole Anche se tu non vuoi che lo faccia? Jerry Sì Abram Appunto Perché ciascuno attrae Tutto quello che vuole? Creare in gruppo è più potente? Jerry Possiamo combinare il nostro potere O la nostra facoltà di creare Riunendoci in gruppo Abram Il vantaggio di riunirsi Per creare qualcosa È che così si può stimolare E aumentare il desiderio Lo svantaggio è che Quando si è in molti Diventa più difficile Rimanere concentrati Soltanto su ciò che si vuole Individualmente Avete sufficiente potere Per creare qualunque cosa Possiate immaginare Per cui non è necessario Unirsi ad altri Però può essere divertente Se gli altri si oppongono Ai miei desideri Jerry È possibile creare Quando si è in compagnia Di persone Che si oppongono Strenuamente A ciò che desideriamo? Abram Concentrandosi sul proprio desiderio È possibile ignorare La loro opposizione Se però ci si oppone Alla loro opposizione Allora non si rimane Concentrati Su quello che si desidera E il processo di creazione Ne viene negativamente Influenzato Quando si vuole Rimanere concentrati Sul proprio desiderio È più facile allontanarsi E non trovarsi costretti A concentrarsi Sull'opposizione Ma se avvertite Il bisogno Di allontanarvi Da qualcuno A causa del suo potenziale Di opposizione Allora dovrete poi Anche uscire Dalla città Perché in città Ci sarà sicuramente Qualcuno Che non è in totale Accordo con le vostre idee E poi dovrete uscire Dal paese E alla fine Scomparire Dalla faccia della terra Non è necessario Sottrarsi alle opposizioni Basta concentrarsi Su ciò che si vuole E col potere della chiarezza Si sarà in grado Di creare con successo In ogni circostanza Jerry State dicendo Che riceveremo L'essenza di qualunque Cosa stiamo pensando Che sia qualcosa Che vogliamo O che non vogliamo Nel momento in cui Il pensiero È connesso a emozioni Abram Se si pensa a qualcosa E si rimane concentrati Abbastanza a lungo La legge dell'attrazione Porterà altri pensieri simili Fino a che Il pensiero iniziale Non diverrà tanto vivido Da provocare emozioni Ogni pensiero che pensate Se mantenete la concentrazione Alla fine Diventerà abbastanza potente Da attirare la sua essenza Nella vostra esperienza Come si può usare Lo slancio creativo Per crescere Jerry Abram Come si può far sì Che lo slancio Che abbiamo creato Incrementi la nostra crescita Cioè il nostro progresso Abram Trovando un piccolo pensiero Che vi renda felici E poi concentrandovi Su questo Finché la legge Dell'attrazione Non Ve ne porterà sempre più Più pensate a ciò che volete Più emozioni positive Nascono E più emozioni positive Nascono Meglio saprete Che state pensando A ciò che desiderate Quindi Sta a voi decidere Intenzionalmente E consapevolmente Quale direzione Di moto scegliere Tutti Senza eccezione Attirano ogni cosa Entri nella loro esperienza Ma quando si sceglie Deliberatamente La direzione Dei propri pensieri Guidando la propria Attenzione Verso pensieri Che facciano sentire meglio Non si creano più a caso Eventi indesiderati La vostra consapevolezza Riguardo al potere Della legge Dell'attrazione Unita all'attenzione Intenzionale Verso le vostre emozioni E al desiderio Di sentirvi bene Vi porterà a provare L'immensa gioia Della creazione Intenzionale Parte Quarta L'arte del permettere L'arte del permettere Definizione Jerry Abram Direi che questo nostro prossimo argomento L'arte del permettere È quello che ha avuto Il maggiore impatto Nella mia nuova comprensione Del mondo Perché non avevo mai pensato A niente del genere Nella prospettiva E con la chiarezza Che avete voi Ne volete parlare? Abram Siamo molto ansiosi Di aiutarvi A ricordare l'importanza Dell'arte del Permettere Perché Comprendendo E applicando Intenzionalmente Questa legge Ogni cosa Andrà al suo posto In altri termini La legge dell'attrazione esiste Che la si comprenda o meno Reagisce sempre a quello che pensate Dando risultati appropriati Che corrispondono sempre all'essenza Di ciò che pensate Ma l'applicazione intenzionale Dell'arte del permettere Richiede che si sia consapevoli Del proprio stato d'animo E Che si scelga in base a questo La direzione dei propri pensieri Comprendere questa legge Determina se si crea Intenzionalmente O a caso Abbiamo collocato per ultima L'arte del permettere In coda alla legge Dell'attrazione E alla scienza Della creazione intenzionale Perché l'arte del permettere Non può essere compresa Finché non siano state Comprese le altre due Per arte del permettere Intendiamo questo Io sono ciò che sono E questo mi piace E mi dà gioia Voi siete quello che siete E se anche siete diversi Da quello che sono io Va comunque bene Perché io sono in grado Di concentrarmi Su quello che desidero Anche se tra noi Ci sono differenze abissali Io non provo emozioni negative Perché sono saggio abbastanza Da non concentrarmi Su ciò che mi turba Applicando l'arte del Permettere Sono giunto a comprendere Che non sono venuto In questo mondo fisico Per fare in modo Che tutti seguano Quella che Io ritengo essere La verità Non sono emerso Per incoraggiare Conformismo e uniformità Perché sono saggio Abbastanza Da comprendere Che nel conformismo Nell'uniformità Non c'è la varietà Che stimola Il processo creativo Concentrandomi Sull'uniformità Agirei a favore Della fine Della creazione Piuttosto che Della sua continuazione L'arte del permettere È parte essenziale Della continuazione O sopravvivenza Di questa specie Di questo pianeta E di questo universo E questa continuazione È potentemente permessa Dall'ampia prospettiva Della sorgente Voi Dalla vostra Prospettiva fisica Potete anche Non permettere La vostra espansione E quando non lo fate Vi sentite malissimo Così come quando Non lo permettete ad altri Se Nel momento In cui vedete Una situazione Che vi dà dispiacere Decidete di non provare A fare nulla Per fermarla O cambiarla State sopportando Questa situazione Ma questo È molto diverso Da quello che intendiamo Per permettere Permettere È l'arte di trovare Un modo di guardare Le cose Che vi permetta Allo stesso tempo Di connettervi al vostro Essere interiore Questo Si raggiunge Setacciando intenzionalmente Le informazioni offerte Dalla vostra realtà Spazio-temporale E Concentrandovi Sulle cose Che vi fanno sentire bene Si tratta di usare Il vostro sistema Di guida emotivo Affinché vi aiuti A decidere La direzione Dei vostri pensieri Non ci si dovrebbe Proteggere dai pensieri Altrui? Jerry Una domanda per me Difficile È sempre stata Come possiamo Proteggerci Da coloro Che pensano In modo tanto diverso Da noi Da poter invadere In qualche maniera Il nostro spazio Se così si può dire Abram Bene Questo è il motivo Per cui abbiamo detto che Prima di poter comprendere E accettare l'arte Del permettere Occorre aver capito La legge dell'attrazione E la scienza Della creazione Intenzionale Infatti È chiaro che Se non si comprende Cosa sta succedendo Si può essere intimoriti Se non comprendete Che gli altri Non possono entrare Nella vostra esperienza Senza che li abbiate Invitati con i Vostri pensieri Allora è naturale Che vi preoccupiate Di che cosa fanno Ma ora comprendete Che nulla entra Nella vostra esperienza A meno che non sia stato Invitato dal vostro pensiero O Meglio Da pensieri Accompagnati da emozione E grande aspettativa A meno che non raggiungiate Questo delicato Equilibrio creativo Non riceverete nulla Quando si comprendono Le potenti Leggi universali Non si sente più Bisogno di mura Barricate Eserciti Guerre O prigioni Perché si diventa Consapevoli Di essere liberi Di creare il mondo Che si desidera Mentre gli altri Creano il mondo Che loro hanno scelto E le loro scelte Non sono una minaccia Per noi Se non riconoscete questo Non potrete gustare La gioia Della libertà assoluta In questo mondo fisico Ci sono cose Con cui siete In perfetta armonia Altre con cui siete In assoluta disarmonia E altre Che sono più o meno Nel mezzo Ma non siete giunti Qui per distruggere O frenare ciò Con cui non siete d'accordo Perché si tratta Di cose In continuo mutamento Siete invece giunti qui Per identificare Istante dopo istante Ciò che voi volete E per usare Il potere del vostro pensiero Per concentrarvi In modo da permettere Alla legge Dell'attrazione E di attirare Ciò che volete Verso di voi Non siamo soggetti Al comportamento altrui Il motivo per cui La maggior parte Delle persone Non vuole permettere Agli altri di agire È che Non comprendendo La legge dell'attrazione Crede a torto Che esperienze indesiderate Possano filtrare O balzare Nella loro vita Poiché vivono esperienze indesiderate O vedono che capitano ad altri Suppongono che Poiché nessuno Sceglierebbe intenzionalmente Simili brutte esperienze La minaccia Debba essere concreta Temono che Permettendo ad altri Di comportarsi in quel modo Anche la loro esperienza Possa esserne contaminata Non comprendendo La legge dell'attrazione Si mettono sulla difensiva E si sentono vulnerabili Questo è il motivo per cui In questa situazione Di vulnerabilità apparente Si costruiscono mura E si raccolgono eserciti Ma inutilmente Perché opporsi Strenuamente Alle cose indesiderate Non fa altro Che produrne di più Con questo Non vogliamo negare Che esistano contrasti Anzi Proprio i contrasti Che vorreste eliminare Sono il motore Dell'espansione Del tutto Però sappiamo Che per voi È possibile vivere Una vita di gioia Nell'immensa varietà Esistente Quindi vi diciamo tutto questo Per aiutarvi a trovare La vostra libertà personale Che raggiungerete soltanto Quando comprenderete E applicherete Le leggi dell'universo Finché non siano state comprese E applicate le prime due leggi L'arte del Permettere Non può essere compresa Né applicata Poiché non è possibile Voler davvero Permettere che gli altri Facciano ciò che desiderano Finché non si è compreso che Quello che fanno E quello che dicono Non ha di per sé Alcuna influenza su di voi In quanto i vostri sentimenti Quelli che vengono dal cuore Del vostro essere Sono così potenti Che non vorrebbero Ne potrebbero permettere Agli altri di minacciarvi Perché voi volete Innanzitutto conservarvi Le leggi che vi abbiamo descritto Sono eterne Il che significa Che durano per sempre Sono universali Cioè valgono ovunque E sono assolute Cioè Che se ne conosca l'esistenza Oppure no Che le si accetti Oppure no Esistono E influenzano la vostra vita Che lo sappiate o meno Le regole del gioco della vita Quando usiamo la parola legge Non intendiamo le convenzioni terrestri Che molti di voi chiamano leggi Voi avete la legge di gravità Le leggi dello spazio e del tempo E molte altre Perfino quelle che riguardano Il controllo del traffico E il comportamento dei cittadini Ma quando noi usiamo la parola legge Stiamo parlando di eterne E onnipresenti leggi universali E sono meno di quante si potrebbe pensare Se arriverete a comprendere E applicare le tre leggi fondamentali Comprenderete come funziona l'universo E come giunge a voi qualunque cosa Entri nella vostra esperienza Riconoscerete che siete voi a invitare Creare e attrarre tutto ciò che viene a voi E avrete il controllo consapevole Delle vostre esperienze di vita Allora e soltanto allora Vi sentirete liberi Perché la libertà Nasce dalla comprensione Di come si riceve quello che si riceve Qui vi spiegheremo le regole Del gioco della vita fisica E siamo tanto felici di farlo Perché sono le regole del gioco di qualunque vita Fisica e non fisica La legge più potente dell'universo La legge dell'attrazione Dice semplicemente che si attira Ciò che è simile a sé Avrete forse notato Che quando nella vostra vita Cominciano ad accadere cose spiacevoli Sembra che a un tratto tutto vada male O che quando la mattina vi svegliate Sentendovi bene La giornata sarà felice Mentre se la cominciate litigando con qualcuno Spesso anche il resto del giorno è negativo Tutto questo è diretta conseguenza Della legge dell'attrazione Ogni esperienza che state vivendo Quale in modo lampante Quale in modo più sottile È determinata da questa potente legge Quando si pensa a qualcosa che non piace Grazie alla legge Iniziano a aggiungere altri pensieri simili Ci si sorprende a cercare pensieri analoghi nel passato E a discuterne con altri Fino a che non ci si ritrova in un certo senso Avviluppati da un pensiero sempre più grande E ingombrante che Crescendo acquista slancio E quindi potere Potere attrattivo Comprendere questa legge Vi metterà in condizione di decidere Di concentrare i vostri pensieri Solo verso le Cose che volete attrarre nella vostra esperienza E di distogliere invece la vostra attenzione Da ciò che non volete attrarre nella vostra esperienza Ora la legge della creazione intenzionale recita così Comincio ad attrarre qualcosa pensandovi Attraggo più rapidamente ciò a cui penso se provo forti emozioni Una volta che ho lanciato il pensiero E lo penso in modo da evocare emozioni Allora Se mi aspetto ciò a cui ho pensato L'avrò La creazione intenzionale ha due elementi Come un'equazione Da una parte il pensiero Dall'altra l'aspettativa o fede O ancora il permettere Quindi Una volta che si è pensato qualcosa E ci si aspetta O si crede che sarà Si è nella condizione ottimale per ricevere l'oggetto o l'essenza di quel pensiero Questo è il motivo per cui si riceve ciò che si pensa Che lo si voglia o meno I pensieri sono potenti i magneti che si attraggono I pensieri si attraggono tra loro E voi li attirate prestandovi attenzione In genere è più facile comprendere il funzionamento di queste leggi Osservando le esperienze altrui Noterete che chi parla spesso di ricchezza è ricco Chi parla spesso di salute è sano Chi parla spesso di malattia è malato Chi parla spesso di povertà è povero È la legge Non potrebbe essere diversamente Il vostro stato d'animo è il vostro polo di attrazione Perciò si capisce meglio la legge dell'attrazione Se immaginate di essere dei magneti E che ricevete un numero sempre Maggiore di più cose corrispondenti al vostro modo di sentirvi Se vi sentite soli attirate altra solitudine Se vi sentite poveri attirate altra povertà Se vi sentite malati attirate altra malattia Se vi sentite infelici attirate altra infelicità Se invece vi sentite sani, vivaci, vitali e prosperi attirate tutto questo A insegnare sono le esperienze di vita, non le parole Noi siamo insegnanti e in tutta la nostra esperienza di insegnamento Abbiamo imparato una regola importante Le parole non insegnano E l'esperienza di vita è insegnare Quindi vi invitiamo a considerare e ricordare ciò che avete vissuto in passato e guardare Da questo momento in avanti L'incindibile correlazione tra le parole che state leggendo in questo libro E la vostra esperienza di vita Così, cominciando a notare che si ottiene ciò cui si pensa Allora e solo allora Vorrete prestare attenzione ai vostri pensieri Fino a controllarli intenzionalmente Controllare i pensieri diventa più facile quando si è decisi a farlo Quando vi capita di pensare a cose che non volete Il più delle volte è perché non avete ancora compreso quanto sia dannoso per la vostra vita Per chi non vuole cose negative e vuole cose positive Una volta che si è riconosciuto che pensare a ciò che non si vuole Non serve ad altro che attrarne ancora di più nella propria vita Controllare i propri pensieri non sarà difficile Perché il vostro desiderio di farlo sarà molto forte Piuttosto che monitorare i vostri pensieri Badate a ComeStat Monitorare i pensieri non è una cosa facile Perché, mentre si stanno controllando i propri pensieri Non si ha in effetti tempo di pensare Vi proponiamo quindi un'alternativa efficace Pochissimi di voi comprendono che, mentre siete esseri fisici concentrati in questo organismo fisico Simultaneamente avete una parte di voi, più ampia, saggia e senz'altro più anziana Che noi chiamiamo essere interiore, che continua a esistere e comunica con voi Questa comunicazione può assumere forme differenti Può trattarsi di un pensiero chiaro e vivido A volte addirittura espresso con parole udibili Ma comunque avviene attraverso le emozioni Prima di emergere in questo mondo concordaste una possibilità di comunicazione Col vostro essere interiore Concordaste che avreste provato delle sensazioni Sensazioni impossibili da non notare Piuttosto che pensieri o parole Che avreste potuto perdere o fraintendere Infatti, quando si pensa Non si è sempre recettivi verso un pensiero di segno diverso Rispetto a quello che si sta facendo in quel momento Succede, per esempio, quando si è sopra pensiero Di non sentire qualcuno che nella stessa stanza sta parlando Per questo, il sistema basato sulle emozioni è molto valido per comunicare Ci sono due tipi di emozioni Quelle che fanno sentire bene e quelle che fanno sentire male L'accordo prevedeva che la sensazione positiva si sarebbe presentata quando aveste pensato Detto o fatto cose in armonia con ciò che volete Mentre l'emozione negativa si sarebbe presentata quando aveste detto Pensato o fatto cose non in armonia con i vostri desideri Quindi non è necessario monitorare i propri pensieri Basta prestare attenzione al proprio stato d'animo E, ogni volta che si sta male Riconoscere che, nell'istante in cui si sta provando quella sensazione Si sta creando negativamente Nell'istante in cui sentite emozioni negative State pensando qualcosa che non volete E così facendone state attirando l'essenza nella vostra vita La creazione è il processo di attrazione Quando pensate, attirate l'oggetto del vostro pensiero Tollerare non significa permettere Vi parliamo perché possiate capire che nessuno può essere né creare una minaccia per voi Infatti, siete voi a controllare la vostra esperienza L'arte del permettere, che dice io sono ciò che sono E io voglio permettere a tutti gli altri di essere ciò che sono È la legge che vi condurrà alla libertà assoluta Libertà da ogni esperienza che non desiderate E da ogni reazione a esperienze che non approvate Quando diciamo che è un bene essere un permettente Molti di voi fraintendono ciò che intendiamo Perché pensano che permettere significhi tollerare Tollerare significa che voi sarete quello che siete Ciò che secondo voi è adeguato E lascerete che anche gli altri siano ciò che vogliono essere Anche se non vi piace Ma questa situazione non vi farebbe sentire bene Sareste dispiaciuti per gli altri E potreste anche avere timore per voi stessi Sebbene, comunque Li lascerete essere ciò che vogliono In modo appunto tollerante Ma è sbagliato Quando si tollera, non si permette Tollerare e permettere sono due cose diverse Chi tollera prova una sensazione negativa Un permettente non prova sensazioni simili È una bella differenza Perché la libertà è assenza di emozioni negative Non si può essere liberi se si avvertono emozioni simili La tolleranza sembra un vantaggio per gli altri Perché il tollerante non li ostacola nel fare ciò che vogliono Ma non è un vantaggio per il tollerante Perché questi continua a non sentirsi bene E quindi sta ancora attirando negativamente Una volta diventati permettenti Non si attirano più cose indesiderate Nella propria esperienza E si provano libertà E gioia assolute Sto cercando soluzioni O sto solamente osservando problemi? Molti diranno Abram, mi state dicendo che dovrei infilare la testa sotto la sabbia? Non dovrei guardare e vedere le persone che stanno male? Non dovrei cercare di aiutarle? Noi vi diciamo che quando si vuole essere d'aiuto Lo sguardo non deve essere puntato sui guai Ma sull'aiuto Ed è molto diverso Quando si cerca una soluzione Si avvertono emozioni positive Ma quando si guarda un problema Si provano emozioni negative Potete essere di grande aiuto agli altri Guardando a ciò che vogliono essere Ed elevandoli a quello che vogliono Avere attraverso le vostre parole E rivolgendo la vostra attenzione In quella direzione Ma quando vedete una persona Che sta attraversando un brutto periodo O gravemente malata O estremamente povera E le parlate con pietà ed empatia Di ciò che non vuole Sentirete un'emozione negativa Perché in realtà State contribuendo al problema Quando si parla agli altri Di ciò che non vogliono Li si aiuta a creare negativamente Perché si amplifica la vibrazione Che sta attirando le loro ambasce Se vedete un amico Che sta attraversando una malattia Cercate di immaginarlo sano Fate attenzione che Concentrandovi sulla sua malattia Vi sentite male Mentre se vi concentrate Sulla sua possibile guarigione Vi sentite bene Concentrandovi sul suo benessere Stat permettendo la connessione Col vostro essere interiore Che li vede sani E così potete contribuire Al miglioramento della situazione Quando si è in connessione Col proprio essere interiore L'influsso del pensiero È molto maggiore Forse il vostro amico Continuerà a concentrarsi Sempre più sulla sua malattia Piuttosto che sulla sua guarigione E così facendo Forse continuerà a stare male Ma se permettete Che lui influenzi Anche i vostri pensieri Facendovi sentire emozioni negative Allora L'influsso del suo pensiero In direzione del non voluto Sarà più forte del vostro In direzione del voluto Diventare un modello di benessere Non eleverete Ne aiuterete gli altri Esprimendo il vostro dispiacere Ne li eleverete Riconoscendo che quello che Hanno Non è quello che vogliono Li eleverete invece Essendo voi stessi Qualcosa di diverso Li eleverete Attraverso il potere E la nitidezza Del vostro esempio Quando siete sani Potete stimolare La loro voglia di salute Quando siete ricchi Potete stimolare Il loro desiderio di ricchezza Lasciate che sia il vostro esempio A elevarli E quindi Ad aiutarli Lasciate che sia il vostro animo A farlo Eleverete gli altri Quando i vostri pensieri Vi faranno stare bene Quando i vostri pensieri Vi fanno sentire male Invece Deprimete il vostro prossimo E potenziate La sua creazione negativa Il vostro stato d'animo Vi permette di capire Se li state aiutando O meno Saprete di aver raggiunto Lo stato di permettente Quando vorrete permettere A un altro Anche se questi Non permette a voi Quando sarete in grado Di essere ciò che siete Anche quando gli altri Non la provano E quando sarete in grado Di continuare a essere Quello che siete Senza provare emozioni negative Per via di Quello che gli altri Pensano di voi Quando potrete osservare Questo mondo E provare gioia Tutto il tempo Sarete dei permettenti Quando sarete in grado Di riconoscere Quale esperienza Porta gioia E quale no E saprete imporvi Di partecipare Soltanto a ciò Che è gioioso Allora avrete raggiunto Il permettere La sottile differenza Tra volere E avere bisogno Proprio come talvolta Quella tra emozione positiva Ed emozione positiva Anche la differenza Tra desiderio E bisogno Può essere molto sottile Quando si è concentrati Su ciò che si desidera L'essere interiore Emette emozioni positive Quando si è concentrati Su ciò di cui si ha bisogno L'essere interiore Emette emozioni negative Perché non si è concentrati Su quello che si vuole Bensì sull'assenza Di ciò che si vuole E l'essere interiore Sa che si attrae Ciò cui si pensa Sa che non volete l'assenza E sa che volete Ciò che desiderate Per cui vi guida In modo da farvi Riconoscere questa differenza Concentrarsi su una soluzione Fa stare bene Concentrarsi su un problema Fa sentire male Ben che possa sembrare Una differenza sottile È molto importante Perché Quando si provano Emozioni positive Si attira Nella propria esperienza Ciò che si vuole Quando si provano Emozioni negative Invece Si attira Nella propria esperienza Ciò che non si vuole Creare in modo consapevole Intenzionale E gioioso Possiamo dunque dire Che un permettente È una persona Che ha imparato La legge della creazione Intenzionale Ed è in Grado di non creare In modo negativo Crea invece In modo consapevole Intenzionale E gioioso L'appagamento Può venire in un modo solo Desiderando Poi Permettendo E infine ricevendo Così Muovendosi attraverso Questa esistenza fisica Mantenendo i pensieri Nella direzione Di ciò che è voluto E lasciando che la potente Legge dell'attrazione Lavori per noi Portando Nella nostra esperienza Sempre più eventi Situazioni E altri esseri Compatibili con noi Allora Si raggiungerà Una vita Che è una spirale Positiva di gioia E libertà Hai qualche domanda Da farci riguardo All'arte del permettere? Vivere l'arte del permettere Jerry Si Ne ho Abram Per me L'arte del permettere È l'argomento Più interessante di tutti Abram Sei emerso In questa esistenza Per insegnare Il permettere Ma Prima di insegnare Devi imparare In genere Voi umani Ponete la questione In questi termini Qualcuno sta facendo cose Che non mi piacciono Come posso fare in modo Che invece faccia cose Che mi piacciono Dovete invece Arrivare a comprendere Che Piuttosto che cercare Di fare in modo Che tutto il mondo Faccia la stessa cosa O le cose Che piacciono a voi È molto meglio Mettersi semplicemente Nella condizione Di accettare Che ognuno Ha il diritto di essere Fare E avere qualunque Cosa voglia E che voi Attraverso il potere Dei vostri pensieri Attirerete soltanto Ciò che è in armonia Con voi Come distinguere Il giusto Dallo sbagliato Jerry Prima di incontrare voi Non conoscevo l'arte Del permettere Per cui Quando consideravo Una determinata azione Decidevo se per me Era giusta O sbagliata In questo modo Cercavo di immaginare Come sarebbe diventato Il mondo Se tutti si fossero Comportati in quella maniera Se il mondo Così concepito Mi sembrava gioioso E vivibile Agivo Se invece Mi sembrava che Se tutti Avessero agito In quei termini Il mondo Non sarebbe stato Un posto In cui avrei voluto Vivere Allora Ci Rinunciavo Vi faccio un esempio All'epoca Mi piaceva pescare Trote All'inizio Come chiunque altro Pescavo tutti i pesci Che riuscivo a prendere A un certo punto Però Cominciai a chiedermi Se quello che stavo facendo Fosse giusto O sbagliato E pensai Che cosa accadrebbe Se tutto il mondo Si comportasse così In questo modo Compresi che Se tutti avessero pescato Alla mia maniera Presto tutti i torrenti Sarebbero stati svuotati E non sarebbe rimasto Nessun pesce Per chi volesse provarelo Straordinario piacere Che provavo io Stando così le cose Decisi che non avrei più Ucciso alcun pesce Li avrei pescati Con esche senza barbigli Per poi liberarli Insomma Tiravo il pesce fuori dall'acqua Soltanto quando qualcuno Me lo chiedeva espressamente Per mangiarselo Abraham Bene Le cose cui attribuiamo Grande importanza Sono l'esempio Di ciò che siamo Possiamo rafforzare Questo esempio Con le parole Con i pensieri E di certo con le azioni Ma per ognuno di noi La chiave Nel nostro desiderio Di migliorare il mondo È prendere decisioni Più chiare Riguardo a ciò Che vogliamo essere E poi esserlo Ciò che facevi Nel caso che hai menzionato È in armonia Con quello che stiamo Insegnando adesso Per il fatto che Decidendo che cosa desideravi Il tuo essere interiore Presentava emozioni Che ti aiutavano a capire Se ciò che stavi per fare Era adeguato Detto altrimenti Una volta deciso Che volevi migliorare Questo mondo Che volevi accrescerlo E non sfruttarlo In modo esagerato Ogni azione Che iniziavi a fare O che immaginavi di fare Se non era in armonia Con quel tuo desiderio Ti faceva sentire a disagio Hai potenziato Il tuo desiderio Di rendere il mondo Un posto migliore Immaginando che tutti Facessero ciò che pensavi Di fare E questo A sua volta Ha potenziato La tua guida morale Questo è un buon modo Di procedere Non stavi cercando Di fare in modo Che tutti si comportassero Come te Stavi soltanto Usando quell'idea Cioè che tutti Facessero una data cosa Per aiutarti a comprendere Cosa fosse bene O male per te Ed era un buon sistema Quando vedo Gli altri sbagliare Jerry Per me ha funzionato Così le mie giornate di pesca Sono diventate piene di gioia Eppure Continuavo a sentirmi a disagio Quando vedevo altri Che sprecavano pesci Uccidendoli per il gusto di farlo O per qualunque altra ragione Abraham Bene Qui stiamo toccando Un punto molto importante Quando le tue azioni Erano in armonia Con i tuoi desideri Provavi gioia Ma non la provavi Quando le azioni di altri Non erano in armonia Con i tuoi desideri Quindi occorre riformulare I propri desideri Riguardo agli altri Una buona impostazione Da seguire Sui desideri Relativi agli altri È questa Essi sono ciò che sono Creatori della loro Esperienza di vita E attirano su di sé Mentre io sono creatore Della mia esperienza E attiro su di me Questa è l'arte del permettere Ripetendovi queste parole Più e più volte Presto arriverete A riconoscere Che gli altri Non stanno guastando Il vostro mondo Come siete portati a credere Stanno semplicemente Creando il loro E per loro Potrebbe non essere Un mondo guasto La situazione Si complica Quando si considera Il mondo Come povero di risorse Quando cioè Si comincia a ragionare Sul numero di pesci Che ci sono O sul quantitativo Di ricchezze E risorse presenti A quel punto Infatti Si incomincia A preoccuparsi Del fatto Che qualcun altro Possa sprecarle E dilapidarle Senza lasciarne abbastanza Per gli altri O per voi Quando si arriva A comprendere Che questo universo Quest'esperienza fisica Di cui siete parte È ricco di risorse E che non c'è fine A questa abbondanza Allora la preoccupazione Cessa E si lascia Che gli altri creino E attraggano per loro Continuando a creare E attrarre per sé Ignorando l'indesiderato Si attira il desiderato? Jerry Beh Il modo in cui Io risolsi Questo dilemma Risale al 1970 Nei successivi nove anni Tagliai tutti i ponti Col cosiddetto mondo esterno Spensi televisione e radio Smisi di leggere i giornali E di frequentare Molte persone Che parlavano di cose Che non volevo sentire Anche in quell'occasione Il sistema per me funzionò Funzionò così bene Che in quei nove anni Raggiunsi quelli che per me Erano magnifici risultati Nel campo delle Relazioni con gli altri Acquistai e mantenni Una perfetta salute fisica E maturai consistenti Risorse finanziarie Ero appagato Come mai prima Nella mia vita Eppure Tagliando fuori In quel modo Tutte le informazioni negative E mantenendo l'attenzione Soltanto sui miei obiettivi Stavo davvero Nascondendo la testa Sotto la sabbia Piuttosto che raggiungere Il permettere di cui parlate Abram È molto importante Prestare attenzione A ciò che conta per noi Nascondendo per così dire La testa nella sabbia E tagliando fuori Molte influenze esterne Riuscisti a concentrarti Su ciò che era importante per te Prestando attenzione A cose positive Attirasti potere Chiarezza e risultati E così facendo Ci si sente appagati Di quell'appagamento Che sanno dare soltanto Il desiderare Il permettere E il ricevere Per quanto nascondere La testa nella sabbia E non prestare attenzione Al mondo esterno Non siano propriamente permettere Forse questi due concetti Sono però più vicini Al permettere di quanto pensi Prestare attenzione A ciò che è importante per voi È il sistema attraverso cui Permetterete agli altri Di essere ciò Che vogliono essere Prestare attenzione A se stessi Permettendo agli altri Di fare altrettanto È fondamentale Per diventare permettenti Jerry In altre parole Poiché mi aspettavo Anche se non avevo mai sentito Le vostre parole Che la legge dell'attrazione E il metodo di creazione Intenzionale Lavorassero per me In un certo senso Sono scivolato Involontariamente Allo stadio di permettere Abraham Esattamente Stavi prestando attenzione A ciò che era importante per te E lo attiravi sempre più Così perdevi interesse Per televisione e giornali Non ti stavi privando Di qualcosa che volevi Al contrario Attraverso la legge Dell'attrazione Stavi attirando Maggiormente Ciò che più volevi Guardando in televisione O leggendo sui giornali Cose che non si vogliono Si provano emozioni negative Che ostacolano Il permettere ciò che si vuole Vogliamo tutti permettere la gioia? Jerry La maggior parte di noi Cerca di comprendere L'arte del permettere? O credete che soltanto Coloro che ora stanno parlando Con voi vogliono comprenderla? Abraham Tutti coloro che esistono oggi Su questa terra Prima di emergere In questi corpi Desideravano comprendere L'arte del permettere E diventare permettenti Ma la maggior parte di voi Dal vostro punto di vista fisico È molto lontana Dal comprenderlo O dal volerlo Spesso anzi Cerca di controllare Gli altri Piuttosto che permettere loro Non è difficile Imparare a controllare La direzione Dei propri pensieri Ma è assolutamente Impossibile Controllare Quella degli altri Se gli altri Stanno vivendo Esperienze negative Jerry Dunque questa condizione Di permettere Che in misure diverse Stiamo cercando È uno stato In cui si può essere Consapevoli Delle cose negative O che ci sembrano negative Che ci circondano Eppure rimanere gioiosi O non le si vede affatto O non le si vede come negative Abram Tatte tre le cose Quando eri concentrato Sulle cose importanti per te Non guardavi la televisione Ne leggevi i giornali Ti godevi ciò che facevi Prestavi attenzione A ciò che era importante per te E mentre lo facevi La legge dell'attrazione Ti portava sempre più potere E chiarezza In questo modo Tutto il resto Non era tratto Nella tua esperienza Perché non corrispondeva Al tuo desiderio Di crescita e successo Quando si hanno Le idee chiare Riguardo a ciò che si vuole Non c'è bisogno Di inseguirlo affannosamente Perché Per via della legge Dell'attrazione Capiterà Quindi non è difficile Essere un permettente È semplice perché Se si è assorbiti Da ciò che si sta facendo Non si può esserlo Dalle cose Con cui non si ha niente A che fare La televisione Seppure offre Molte informazioni di valore Ne offre molte Molte di più Che hanno davvero poco A che fare Con ciò che desiderate Nella vostra esperienza Di vita Molti di voi Se ne stanno seduti A guardare la televisione Soltanto perché c'è E perché non hanno Preso altre decisioni Per cui guardare La televisione Di solito Non è tanto Un'azione intenzionale Quanto un'azione casuale In questo vuoto Di decisioni E intenzioni Ci si apre All'influenza Di tutto ciò Che ci circonda Così Quando venite Letteralmente bombardati Da pensieri Di eventi indesiderati Che accadono In ogni angolo Del mondo E non avete deciso Nulla riguardo A ciò che voi Volete pensare Vi ritroverete Ad accogliere Nella vostra esperienza Attraverso il pensiero Molte cose Che intenzionalmente Non avreste scelto Questo è ciò Che chiamiamo Creare a caso Pensare a qualcosa Senza farlo Intenzionalmente Pensarlo E attrarlo Che lo si voglia O meno Bisogna cercare Solo ciò Che si vuole Jerry Abram Come mi consigliereste Attirerai soltanto Ciò che vuoi attrarre E vedrai soltanto Ciò che vorrai vedere Un setaccio selettivo Quando lo scopo principale Attrarre soltanto Ciò che si desidera Si diventa un setaccio Più selettivo Si attrae in modo Più selettivo Si osserva in modo Più selettivo All'inizio Si attireranno Anche cose Che non piacciono Perché i pensieri E le aspettative Precedenti Avranno ancora Un certo slancio Ma col tempo Una volta che il Benessere Si è diventato L'obiettivo principale All'inizio Della giornata In un mese O due Si comincerà A notare Che nell'esperienza Di vita C'è ben poco Che non sia piacevole Questo perché Lo slancio E il pensiero Avranno portato Al di là Di ciò Che ora sta capitando È difficile Essere permettenti Quando vedete Qualcuno Che vi è molto vicino Fare qualcosa Che credete possa Minacciare voi O qualcun altro E così dite Abram Non capisco Che cosa intendete Quando dite Che posso scacciare I pensieri negativi Che posso creare Attraverso i miei pensieri E che per creare Non c'è bisogno Di agire in alcun modo Noi allora Vi ripetiamo Che è attraverso I pensieri Che invitate le cose Ma che ciò Che state vivendo oggi È il risultato Di pensieri Fatti prima di oggi Proprio come State proiettando Nel futuro I pensieri Che state facendo Oggi I vostri pensieri Di oggi Aprono la strada Al vostro futuro E un giorno Raggiungerete Quel posto futuro E vivrete allora I risultati Dei pensieri Che state facendo ora Esattamente come Oggi state Vivendo i risultati Dei pensieri Che avete fatto In precedenza Che non si è successo In questo momento Non vi ritroverete Non vi ritroverete più Nella situazione Di sentirvi comunque In difficoltà Qualunque cosa facciate Bisogna permettere Le ingiustizie Cui si assiste Finché non comprendete Come ottenete Quello che avete È molto difficile Accettare l'idea Del permettere Perché nel mondo Vedete tante cose Che non vi piacciono E dite Come posso permettere Una simile ingiustizia Noi però Vi rispondiamo Che potete permetterle Riconoscendo Che non fanno parte Della vostra esperienza E che Nella maggior parte Dei casi Non sono davvero Affari vostri Non è opera vostra Si tratta Della creazione Dell'attrazione E dell'esperienza Di altri Piuttosto che Cercare di controllare La vita degli altri Cosa che Per quanto ci possiate Provare Non potete fare Proponetevi Di controllare La vostra partecipazione A quelle esistenze Ed elaborando La nitida immagine Della vita Che vorreste vivere Vi aprirete un piano E gradevole sentiero L'indesiderato Crea altro indesiderato Si attira Attraverso il pensiero Si ottiene Ciò che si sta pensando Che lo si voglia O meno Così Se prestate attenzione Agli automobilisti Maleducati Ne attirerete altri Nella vostra esperienza Se sul lavoro Prestate attenzione A coloro Che non vi stanno Rendendo buoni servizi Attirerete altre esperienze simili Viene attratto Nella vostra esperienza Ciò a cui prestate attenzione Specie se all'attenzione È unita una risposta emotiva L'arte del permettere influenza Allo stato di salute Jerry Abraham Vorrei affrontare Alcune di quelle Che potremmo chiamare Quotidiane esperienze di vita E voi potreste Se volete Dirmi come vedete applicata L'arte del permettere In determinate situazioni Innanzitutto Per quanto riguarda la salute Ricordo di essere stato molto malato Per diversi anni Della mia infanzia Poi Un giorno Decisi di rifiutare Quella situazione E in effetti Da allora Ho goduto Di ottima salute Com'è implicata L'arte del permettere In queste due situazioni estreme La malattia grave E la perfetta salute Abraham Quando si decide Che cosa si vuole Si è risolta Metà dell'equazione Della creazione intenzionale Si è pensato qualcosa Provando un'emozione positiva Che è l'essenza Del volere qualcosa L'altra metà Della creazione intenzionale È il permettere O se preferite L'attendersi qualcosa O il lasciare che sia Sicché Quando si dice Io lo voglio Io lo permetto Per cui sarà Si crea molto rapidamente Qualunque cosa si desideri Non opponendosi Cioè non lasciando Che un pensiero Venga allontanato da altri Si sta permettendo A se stessi Di ottenere qualcosa Come abbiamo detto Quando si è Nella condizione Di permettere Non si provano Emozioni negative Il permettere È libertà Da ogni negatività Quando dunque Si è formulato Il desiderio intenzionale Di avere qualcosa Si è in condizione Di permettere Che sia E infatti Lo avrete Per essere sani E non malati Occorre pensare Alla salute Se il vostro corpo È malato È più facile Notare la malattia Perciò Occorrono desiderio Concentrazione E volontà Per vedere Al di là Di quanto sta succedendo Adesso Immaginando nel futuro Un corpo sano O ricordando Quando si era sani In passato Il pensiero In quel momento Va a corrispondere Al desiderio E allora Permetterete Un miglioramento Della situazione La chiave È cercare pensieri Che vi facciano Sentire meglio Permettere il passaggio Da povertà A ricchezza Jerry Il prossimo argomento Che vorrei discutere È la sfera Della prosperità Economica E della ricchezza Durante la mia infanzia Ho vissuto La povertà Più estrema Vivendo in pollai Tende Grotte E vi lascio Immaginare il resto Poi Nel 1965 Trovai il libro Pensa e arricchisci te stesso Che mi spinse A considerare il problema Da una diversa prospettiva E a partire Da quel giorno La mia vita economica È stata un continuo Crescendo Dal furgoncino Volkswagen In cui vivevo Sono passato A guadagnare Numeri a sette cifre Abraham In che misura Pensi che la lettura Di quel libro Abbia contribuito Al cambiamento Jerry Beh Ricordo più che altro Che per la prima volta Nella mia vita adulta Cominciai a concentrarmi Con più o meno successo Soltanto su ciò che volevo Ma vorrei sentire La vostra opinione Riguardo a ciò Che mi è accaduto Abraham Giungesti a comprendere Che potevi avere Quello che volevi Il desiderio c'era già Ti derivava da ciò Che stavi vivendo Ma leggendo quel libro Arrivasti A credere Che era possibile Realizzarlo Il libro Ha fatto in modo Che cominciassi A permettere La realizzazione Del tuo desiderio Il permettere I rapporti interpersonali E l'arte dell'egoismo Jerry Un'altra grande sfera Di cui mi piacerebbe parlare È quella Delle relazioni Con gli altri Nella mia vita Ci sono stati periodi In cui trovavo difficile Permettere agli amici Di avere i loro pensieri E le loro opinioni E di svolgere attività Che ritenevo inappropriate Abraham Usando qui la parola permettere Che cosa intendi dire? Mi sentivo come se dovessero pensare E agire come volevo io E quando non lo facevano Mi sentivo terribilmente a disagio E spesso arrivavo ad arrabbiarmi Abraham Quindi Osservando quello che facevano E dicevano Sentivi una sensazione negativa Questa sensazione indicava Che non ti trovavi Nella condizione di permettere L'arte dell'egoismo Non è immorale? Jerry A quel tempo pensavo di essere Molto altruista e generoso In altre parole Non avrei mai voluto Essere considerato Una persona egoista E quindi mi aspettavo Che anche gli altri Fossero meno Egoisti e più generosi E il fatto che potessero Non esserlo Mi turbava molto Poi scoprì Il libro di David Siburi L'arte dell'egoismo Che mi fece guardare L'egoismo Da un altro punto di vista Grazie a questa prospettiva Riuscii a comprendere Molta della mia negatività Abram È importante Che vi permettiate Di prestare attenzione A ciò che volete Ci sono persone Che chiamano Quest'attitudine Egoismo E lo fanno Con disapprovazione E in modo critico Noi vi diciamo Che se non si ha Una corretta visione di sé Se non ci si permette Ciò che si desidera E non ci si aspetta Di riceverlo Non si sarà mai Intenzionali Nella propria creazione E non si vivrà mai Una vita soddisfacente Di norma Chi non permette a sé Non permette neppure agli altri In genere Chi disapprova molto Una certa caratteristica di sé La nota anche negli altri E la disapprova allo stesso modo Quindi Accettare Approvare Apprezzare E permettere a se stessi È il primo passo per apprezzare Approvare E permettere agli altri Questo non significa Illudersi di essere perfetti Secondo i propri standard Ne significa che gli altri siano Per i loro standard Perfetti Perché la perfezione assoluta E definitiva Non esiste Voi siete infatti Esseri in eterno mutamento E crescita Significa invece Guardare E desiderare di vedere In se stessi Quello che si vuole vedere E desiderare di vedere Negli altri Veniamo spesso accusati Di insegnare l'egoismo E ammettiamo in effetti Di farlo Tutto ciò che percepite Lo percepite Dalla prospettiva Del vostro ego E Se non si è abbastanza Egoisti Da cercare con determinazione La connessione O l'allineamento Col proprio più ampio E saggio essere interiore Allora non si ha nulla Da offrire neppure agli altri Quando siete abbastanza egoisti Da preoccuparvi Di come vi sentite Allora potete utilizzare Il vostro sistema di guida Per allinearvi Alla vostra potente Energia di fonte E ne trarrà beneficio Chiunque Sarà abbastanza fortunato Da essere oggetto Della vostra attenzione In difetto E chi disapprova Quando gli altri Vedono in voi Qualcosa che non approvano La maggior parte Delle volte Voi Cogliete quella Disapprovazione Riflessa Nei loro occhi E sentite Di aver sbagliato qualcosa Ma noi vi diciamo Che non siete voi A essere in difetto Bensì loro È la loro incapacità Di essere permettenti A far nascere in loro Una sensazione negativa Non dipende Dal fatto Che voi Siete imperfetti In modo analogo Quando vi sentite male Perché vedete negli altri qualcosa Che non volete vedere Non sono loro A essere in difetto Ma voi Così Quando si decide Di voler vedere Solo ciò che piace Si inizia a vedere Soltanto quello E tutta la vita Produce emozioni positive Perché Per la legge Dell'attrazione Si attira A sé soltanto Ciò che è in armonia Con ciò che si vuole Comprendendo il potere Delle emozioni Si può dirigere Il pensiero E per sentirsi bene Non si ha più bisogno Che gli altri Si comportino In modo diverso Che cosa succede Quando qualcuno viola Uno diritti altrui Gerry Un'altra sfera Che in passato Mi ha messo molto a disagio È quella che riguarda I diritti delle persone Diritti di proprietà Diritti territoriali Diritti relativi alla pace In altre parole Rimanevo molto turbato Quando vedevo I diritti di qualcuno Violati dalla violenza Di un altro Ero anche incerto Riguardo ai diritti territoriali Per esempio Al fatto Che a qualcuno Venisse permesso Entrare nel nostro paese E ad altri no Perché a qualcuno Viene concesso E ad altri no Ma poi Dopo che vi ho incontrati Sono arrivato A considerare Tutto questo giochi O in qualche misura Accordi Impliciti O espliciti Tra le persone Non avvertendo più Il dolore altrui Mi sono sentito In qualche misura meglio Ma posso arrivare A non sentire La minima emozione Negativa Vedendo qualcuno Violare i diritti Di un altro Posso limitarmi A guardare ciò Che stanno facendo Lontano da me E pensare Vi state facendo L'un l'altro Ciò che In qualche modo Avete deciso Di farvi Abraham Puoi Comprendendo Che si stanno Attraendo reciprocamente Invece di provare Dolore per loro Al contrario Ti sentirai benissimo Poiché capirai Che stanno raccogliendo Emozioni positive O negative In base ai pensieri Che hanno scelto Ovviamente Molti di loro Non comprendono affatto In che modo Ottengono ciò che hanno Questo è il motivo Per cui molte persone Si sentono vittime Credono di essere vittime Perché non comprendono In che modo Ricevono quello che ricevono Non comprendono Che stanno invitando Quegli eventi Attraverso il loro pensiero O la loro attenzione Questo forse Vi aiuterà a capire Che ogni esperienza Causa un chiarimento Dei propri desideri Non vè scarsità di nulla Hai appena citato I diritti territoriali Noi abbiamo Un modo molto diverso Di intendere La parola territorio Rispetto a voi Che avete forma fisica Perché nel vostro mondo fisico Vedete sempre limiti Avete l'impressione Che ci sia un certo Quantitativo di spazio Che alla fine Verrà accaparrato E quindi Credete che non ce ne sia Abbastanza Tendendo a porre limiti Percependo scarsità Anziché abbondanza Ritenendo che non ci siano Spazio Denaro O salute a sufficienza Credete di dovervi Proteggere Dalla nostra prospettiva Nessuna risorsa È limitata C'è invece Una ricchezza Inesauribile Di ogni bene Ce n'è abbastanza Per tutti voi Se arrivate a comprenderlo Il senso di limitatezza Penuria Bisogno di protezione O difesa Dei diritti territoriali Cesserà di essere un problema Noi siamo stati attirati L'uno verso l'altro Dalla legge dell'attrazione Qui Nella nostra prospettiva Non fisica La famiglia di Abram È unita perché siamo In sostanza Uguali E Nella nostra uguaglianza Siamo attratti Gli uni dagli altri Non abbiamo bisogno Di avere un guardiano Alla porta Non ci sono guardie Che tengano lontano Ciò che non è in armonia Con noi Perché Non prestandovi attenzione Non lo attiriamo La stessa legge Vale nel vostro ambiente Anche se non lo vedete Con la stessa chiarezza Con cui possiamo Vederlo noi Le leggi Funzionano alla perfezione Da voi Come da noi Il punto è che voi Elaborate spiegazioni fisiche Su ogni cosa Spiegazioni che possono Anche essere giuste Almeno in parte Ma che non sono complete Detto altrimenti Quando spiegate Che girando la manopola Del rubinetto L'acqua riempie il bicchiere Noi vi facciamo presente Che ci sarebbe Molto altro da aggiungere Così Quando cercate di spiegarci Che da voi Ci sono persone violente Che vi vorrebbero Strappare i vostri beni Noi vi rispondiamo Che non possono farlo Perché se non Le invitate Col vostro pensiero Furti e aggressioni Non faranno mai parte Della vostra esperienza Questa è la legge Nel vostro ambiente fisico Come nel nostro non fisico Che senso c'è Nel perdere la vita? Jerry Prima avete detto Che le nostre esperienze Ci servono per imparare Ma se una persona Perde la vita In modo violento Può aver imparato qualcosa? Abraham Non è che vi vengono Impartite delle lezioni È un'espressione Che non amiamo Perché sembra suggerire Che in qualche modo Vi sia imposto Quello che dovreste O dovete imparare Mentre non è affatto così È la vostra esperienza di vita A farvi capire E voi Attraverso questa comprensione Diventate più saggi E più vasti Prima di poter apprezzare Il senso della vita fisica E perfino della sua perdita Dovete comprendere Che state incrementando Un'esperienza più grande E ampia Di quella che conoscete Come la vostra Esistenza attuale Qui in questo corpo Tutto ciò che state Vivendo adesso Incrementa quella vostra Conoscenza più ampia Quindi Anche se l'esistenza In questo corpo Ve lo fa scordare Ogni esperienza Che avete vissuto qui Sarà parte Della conoscenza più grande Che possedete Nel vostro essere interiore Per cui Sì C'è senso perfino In un'esperienza Che vi sottraga Dal vostro corpo fisico Non è gratuita Siamo il culmine Di molte vite Jerry State dicendo Che in qualche modo Perdere la vita È un'esperienza Che si aggiunge A tutte quelle Del nostro essere più vasto Abraham Sì È così Avete perso La vostra vita fisica Molte volte Avete vissuto migliaia di vite Questo è il motivo Per cui Il vostro gusto Per la vita È così grande Non possiamo esprimere A parole Il numero di vite Che avete vissuto Figuriamoci I particolari di ciascuna Avete un'esperienza Tanto vasta Che ricordarla Per intero Vi confonderebbe E intralcerebbe La vostra attuale esistenza Così Quando siete nati In questo corpo Siete emersi Senza ricordare Ciò che vi era accaduto In precedenza Perché non desideravate Che tutti quei ricordi Vi distraessero Ma avete qualcosa Di molto meglio Un essere interiore Che è il culmine Di tutte le vite Che avete vissuto Poiché ora Siete il culmine Di tutte le vostre Esperienze passate Non è molto significativo Stare qui A discutere Di ciò che avete fatto Nella vita numero 3 10 o 12 Naturalmente Siete ciò che siete ora Anche a causa Di quelle vite Ma continuare a guardarvi indietro E snocciolare il passato Non aggiungerebbe molto A ciò che siete ora Così Quando accettate L'idea di essere Il magnifico essere Altamente evoluto Che siete E prestate attenzione Al vostro stato d'animo Potete avvalervi Del vostro sistema Di guida emotivo Per giudicare Sulla base Di come vi sentite L'adeguatezza Di tutto ciò Che state facendo Voi siete esseri fisici E conoscete La vostra dimensione Spazio-temporale Ma la maggior parte Di voi Non si conosce Dalla propria Prospettiva più ampia Il vostro io fisico È magnifico E importante Ma è soltanto Un'estensione Del vostro io Più vasto Grande Saggio E sicuramente Più vecchio Ed è stato Questo io interiore A decidere di emergere E concentrarsi In questo corpo Perché desiderava Aggiungere L'esperienza Di questa vita Alla conoscenza Del più grande E ampio Io interiore Perché non ricordo Le vite passate Prima di nascere Concordaste Che non avreste avuto memoria Non avreste avuto Il ricordo frastornante Di ciò che avevate Vissuto in precedenza Perché vi avrebbe Confuso E intralciato Ma concordaste Che avreste avuto Un senso Una guida Proveniente dall'interno Fu quindi stabilito Che questa guida Avrebbe assunto La forma di emozione Che si sarebbe Manifestata a voi Attraverso le vostre Sensazioni Il vostro essere interiore Non può reagire Con un pensiero A ciò che state pensando Così decise Di offrirvi Una sensazione O emozione Che vi comunicasse Se ciò che state provando Parlando O facendo È appropriato Rispetto ai vostri Scopi più grandi E vasti Ogni volta Che vi proponete Intenzionalmente Come obiettivo Qualcosa che volete Il vostro essere interiore Prende in considerazione Tutte le vostre Vite precedenti Così Quando siete Più intenzionali In ciò che presentate Sotto forma di scopo Dicendo io voglio Io desidero Io mi aspetto Il vostro essere interiore Può darvi una guida Più chiara Più specifica E più appropriata Avvalendosi di tutte Le vostre esperienze Molti esseri fisici Non capendo Che sono i creatori Della loro esperienza Non hanno scopi Intenzionali Si rassegnano a prendere Ciò che viene Senza capire Che sono loro Ad attrarre Ciò che viene Ma in questa situazione È più difficile Permettere Perché ci si sente Vittime Ci si sente vulnerabili In balia degli eventi Per cui si crede Di doversi difendere Da ciò che può capitare Non comprendendo Che in effetti Lo si sta invitando Questo è il motivo Per cui diciamo Che comprendere Come ottenete Ciò che avete È la condizione fondamentale Per Essere in grado Di voler permettere A se stessi E agli altri Quando la sessualità Diventa un'esperienza Violenta Jerry Un'altra sfera In cui mi sentivo A disagio Era quella Della moralità Relativa alle pratiche Sessuali Ora sono arrivato A permettere Agli altri Di avere Le loro scelte Sessuali Ma mi sento Ancora a disagio Quando qualcuno Fa violenza A un'altra persona In qualunque ambito Anche questa È una sfera In cui posso arrivare Al punto Di non lasciare Influenzare Il mio pensiero Qualunque Cosa facciano Gli altri Anche qualora Usino la violenza Abraham A prescindere Dall'argomento È importante Comprendere Che non esistono Vittime Ma solo Co-creatori Tutti voi Come magneti Attirate l'oggetto Dei vostri pensieri Così Se qualcuno Pensa molto O parla Molto di stupro È molto probabile Che diventi vittima Come dicono loro Di una simile Esperienza Questo perché Per legge Si attira L'essenza Di ciò Che si sta pensando Quando si pensa Provando emozione Si lancia Una creazione Se poi ce la si aspetta Diventerà parte Della propria esperienza Quindi ci sono molte persone Che lanciano creazioni Che poi in realtà Non ricevono Perché hanno svolto Il processo Solo a metà Cioè lanciano La creazione Pensandoci Anche con emozione Ma non si attendono Che si verifichi Per cui non la ricevono Questo vale Sia per le cose Sia per le cose Sia per le cose Che non desiderate Qual è la mia Aspettativa Riguardo a un problema Prima vi abbiamo fatto L'esempio del film Dell'orrore Che attraverso Suono e immagine Stimola pensieri Netti e vividi Vedendolo Si lancia la creazione Dello scenario Che si sta pensando In genere Con grande emozione Ma Lasciando il cinema Si dice Era soltanto un film Una cosa del genere Non può accadere a me Così Non si espletta L'aspettativa Notate che Nella vostra società Più si diffonde Un certo tema Maggiore è l'aspettativa Che le persone Hanno al riguardo E più grande È l'aspettativa Degli individui Maggiore è la probabilità Che questi attraggano Nella propria esistenza L'essenza Della loro aspettativa Non datevi pensiero Delle cose Che non volete E non le ritroverete Nella vostra esperienza Non parlate Di ciò che non volete E non l'attirerete Nella vostra esperienza Compreso questo Quando osserverete Qualcuno Che sta vivendo Esperienze Che non vuole Non sarete investiti Da troppe emozioni negative Perché capirete Che è sulla via Di comprendere Come gli giungono le cose Ora È ovvio Che nessuno di noi Prova gioia Vedendo una persona Stuprata O rapinata O uccisa Non sono esperienze Piacevoli Ma quando si arriva Al punto di comprendere Il modo in cui Si attirano Questi eventi Nella propria esistenza Non ci si pensa più E presto Non vedrete Neanche più episodi Del genere Si attira Nella propria esperienza Quello che si pensa La televisione È disorientante Perché Accendendola Vi prefiggete Di svagarvi Ma poi A tradimento I telegiornali Trasmettono bollettini Atroci Se però vi proponete Di vedere A prescindere Da ciò che state facendo Soltanto quello Che volete vedere Vi allontanerete Dalla televisione Prima che vada in onda Un simile bollettino Sto preparando Il futuro Proprio in questo momento Quando su un giornale O una rivista Leggete qualcosa Che vi induce Una leggera emozione negativa Potete metterli Immediatamente da parte Piuttosto che Continuare a leggere E incrementare Per effetto Della legge Dell'attrazione Quell'emozione Al di là di questo Proprio ora Desiderando attrarre Soltanto ciò che volete State cominciando Ad aprirvi la strada In modo tale Che la vostra azione Futura Non avrà bisogno Di essere Particolarmente decisa Non sarete attratti Dalla televisione Non sarete attratti Dai giornali Invece Attraverso la legge Dell'attrazione Sarete attratti Dall'oggetto Del vostro desiderio Intenzionale Il motivo Per cui tanti di voi Sono attratti Da oggetti Non intenzionali È che non hanno Desideri intenzionali Non ripetete abbastanza Spesso che cosa volete E così attirate Un po' di tutto Più sarete intenzionali In ciò che volete Meglio aprirete La strada Al vostro futuro O lo preparerete In modo che vi occorrerà Meno azione Per allontanare Dalla vostra vita Ciò che non volete Non cadrete Nelle imboscate Della televisione O dei predatori Poiché l'universo Avrà in serbo Per voi Qualcosa di diverso Ma i bambini Innocenti? Jerry Abraham Molte persone Accettano i vostri Assiomi fondamentali Riguardo alla creazione Attraverso il pensiero Ma il gradino Contro cui Per così dire Inciampano O il punto Della vostra dottrina Su cui incontrano Difficoltà È quello Dei bambini Innocenti Chiedono Ma che cosa dite Dei bimbi piccoli? Come può un bambino Appena nato Pensare cose Che gli portano Malformazioni Malattia O violenza Di qualunque genere Sul corpo Abraham Succede perché I bambini Sono circondati Da persone Che fanno Quei pensieri Per cui ne ricevono L'essenza Jerry Una sorta di telepatia? Abraham Esattamente Molto prima Di imparare a parlare I bambini pensano Ma non è possibile Sapere Quanto nitidi Siano i loro pensieri Perché non hanno Ancora imparato A comunicare Verbalmente Con gli altri Non esplicitano Ancora i loro pensieri Jerry Il bambino Non pensa parole Posso insomma Sentire che Il bambino Pensa molto prima Di esprimersi a parole Abraham Dal giorno In cui entra Nel vostro ambiente Il bambino Pensa E riceve Le vibrazioni Dei pensieri Altrui Questo è il motivo Per cui le opinioni E le credenze Si trasmettono Così facilmente Dai genitori Ai figli Il bambino Riceve le vibrazioni Delle vostre paure E delle vostre aspettative Anche senza Che venga detta Una sola parola Se volete Prendervi cura Nel modo migliore Del vostro bambino Pensate solo A ciò che desiderate E lui riceverà Solo le vibrazioni Di quei pensieri Non si dovrebbero Rispettare i patti Jerry Abraham Riguardo al permettere Un vecchio pensiero Che striscia Ancora nella mia mente Ognuno Ha il diritto Di stiracchiare Le braccia Quanto vuole Che per me Equivale a permettere Nella misura In cui non è Me impedisce Di fare altrettanto O non mi dà Una gomitata Sul naso Detto altrimenti Se vivendo io La mia vita E permettendo Agli altri Di essere Fare E avere Tutto ciò Che vogliono Questi poi Interferiscono Con qualcosa Che per esempio In affari Avevamo precedentemente Accordato Mi riesce un po' Difficile Non richiamarli Al rispetto Del nostro accordo E alle responsabilità Che avevamo concordato Abraham Finché credi Che un altro Possa interferire Nella tua esperienza O che Stiracchiandosi Possa colpirti Sul naso Non stai ancora Capendo realmente Come hai ottenuto Quello che hai Oggi puoi cominciare A pensare Soltanto a ciò Che desideri Allora Da oggi Attirerai Quello E basta I tuoi problemi Nascono perché Ieri O in qualche punto Del tuo passato Non lo comprendevi E invitavi Col pensiero Gli altri A darti Una gomitata In faccia Ecco perché Ora in questo momento Ti chiedi Che cosa devo fare Se nella vostra esperienza Ci sono persone Che vi danno fastidio Distogliete La vostra attenzione Da loro E vedrete Che spariranno E al loro posto Verranno persone Che vi fanno Sentire bene E sono in armonia Con voi Tuttavia Di solito capita Che quando gli altri Fanno cose Che voi Non vorreste facessero Ci prestate attenzione Questo vi fa arrabbiare E vi turba E per la legge Dell'attrazione Questa vostra reazione Attirerà Ancor di più L'essenza Di ciò che è successo Fino a che vivrete Molti casi analoghi Due Tre o più volte Dovete dunque Distogliere La vostra attenzione Da ciò che non vi piace E concentrarvi Su ciò che vi piace E allora cambierà Il vostro slancio creativo Non subito Ma comincerà a cambiare Se tutte le mattine Per i prossimi 30 giorni Comincerete la giornata Dicendo A prescindere Dalle persone Con cui lavoro Con cui parlo Dal posto in cui mi trovo E da quello che faccio Desidero Voglio E mi aspetto Di vedere Ciò che voglio vedere Cambierete lo slancio creativo Della vostra esistenza Tutto ciò che nella vostra esperienza Vi dispiace Se ne andrà E verrà rimpiazzato Da cose che vi piacciono È inevitabile È la legge Nulla È sbagliato Né definitivo Quando diciamo Che dalla vostra prospettiva Non fisica Di quello che eravate Prima di concentrarvi In questi corpi Era vostra intenzione Diventare un permettente E comprendere L'arte del permettere Diciamo il vero Vorremmo Che capiste Che non c'è un finale Non siete come un tavolo Che una volta ideato e creato Poi è finito Voi siete in un continuo stato di divenire Siete in un eterno processo di crescita Ma siete sempre ciò che siete in questo momento Voi volete comprendere le leggi dell'universo Fino a diventare tattuno con esse Volete comprendere in che modo le cose vengono a voi Per non sentirvi vittime O in balia dei capricci di chi si muove vicino a voi Incurante Per voi tutto questo è difficile da capire Perché vi trovate nel bel mezzo di due mondi Apparentemente diversi Il mondo che avete creato Prima di comprendere le cose Che vi abbiamo spiegato qui E il mondo che state creando Adesso che vedete tutto più chiaramente Così alcune delle esperienze Che vivete a causa di ciò che avete seminato Vi pensato nel passato Non si adattano bene a ciò che volete ora Sappiamo che si prova disagio In questo stadio di transizione Ma è una sensazione che andrà diminuendo A mano a mano Che i vostri desideri diventeranno più chiari La confusione che caratterizzava il vostro slancio creativo passato Sta sparendo dalla vostra esistenza Quando si provano emozioni positive E si considera soltanto ciò che si sta facendo Pensando o dicendo Si sta permettendo se stessi Quando si provano emozioni positive Riguardo all'esperienza altrui Si stanno permettendo gli altri È così semplice Non si può allo stesso tempo Provare emozioni negative su se stessi Ed essere in condizione di permettere se stessi Essere un permettente Significa essere una persona che si sente bene Il che implica avere il controllo su ciò A cui si sta prestando attenzione Questo non vuole dire Che dovete plasmare a forza Tutto ciò che è nel vostro mondo In modo che tutto e tutti siano Esattamente come li volete Bensì che siete in grado di vedere nell'universo Nel vostro mondo e nei vostri amici E quindi sollecitare da loro Ciò che è in armonia con voi Senza neppure notare il resto E quindi non attrarlo E quindi non invitarlo Questo è permettere, capite? E noi vi diremo, amici Che permettere è il più splendido livello Di essere che, crescendo, possiate raggiungere Poiché, una volta diventati permettenti Vi ritroverete in una spirale sempre più positiva Perché nessuna emozione Sarà capace di farvi perdere l'equilibrio E riportarvi giù Non conoscerete l'oscillazione del pendolo Vi muoverete per sempre e gloriosamente in avanti E verso l'alto Parte quinta Finalizzare i segmenti Il magico metodo del finalizzare i segmenti Jerry Abraham Io credo che combinare la legge dell'attrazione La scienza della creazione intenzionale E l'arte del permettere Unendovi poi il nostro prossimo argomento Cioè il metodo del finalizzare i segmenti Includa tutto ciò che serve Per controllare la propria esistenza Vorreste parlarci di quest'ultimo metodo? Abraham Una volta che si è capito di essere i creatori della propria esperienza Si desidera identificare con maggior chiarezza ciò che si desidera In modo da permetterne l'ingresso nella propria esperienza Finché non si arriva a capire che cosa si vuole davvero Non c'è alcuna possibilità di creazione intenzionale Non si vuole la stessa cosa in ogni segmento della vita Ogni giorno, infatti, è composto di molteplici segmenti temporali Nei quali si provano desideri differenti L'obiettivo di questa dissertazione sul finalizzare i segmenti È aiutarvi a comprendere l'importanza di fermarsi Ogni tanto nel corso della giornata Per identificare che cosa di volta in volta desiderate maggiormente Per aggiungere forza E quindi potere a ogni singolo desiderio Ben poche delle cose che si vivono nell'arco di una giornata Derivano esclusivamente da quanto si è pensato in Quello stesso giorno Ogni volta che vi fermate, segmento dopo segmento E identificate che cosa volete in quel preciso momento State formulando pensieri che preparano la vostra esperienza futura Relativa a ogni segmento analogo Facciamo un esempio Immaginiamo che stiate salendo in macchina da soli Quindi non dovete concentrarvi sulla comunicazione con qualcuno Quando si viaggia da soli Sono desideri molto pertinenti attraversare senza danni E senza intoppi il traffico e arrivare puntuali E riposati a destinazione Ma identificare i fini che maturate entrando in questo segmento Non solo influenza questo particolare segmento Ma comincia a preparare il vostro futuro in modo tale che Tutte le volte che salirete sulla vostra macchina Avrete preparato o creato situazioni ed eventi che siano di vostro gradimento Benché stiate identificando segmento per segmento ciò che desiderate All'inizio è possibile che subiate ancora un certo slancio accumulato in precedenza Ma col tempo vi aprirete in anticipo un sentiero che vi piacerà molto E allora non avrete bisogno di fare chissà cosa perché le cose vadano nel modo a voi congeniale Desiderare il successo per segmenti Tecnicamente tutto il vostro potere creativo è concentrato in questo momento Tuttavia il vostro potere non agisce solo su questo momento Ma anche sul futuro che vi attende Così più vi soffermate a decidere ciò che volete in questo istante Più grande Limpido e magnifico sarà il vostro cammino futuro E tutti i vostri momenti saranno sempre migliori Il proposito di questo saggio è offrire A chi lo desidera Un metodo pratico attraverso il quale servirsi a proprio beneficio E in modo immediato delle fondamentali leggi dell'universo Per assumere un controllo assoluto e intenzionale sulla propria esistenza Benché ad alcuni di voi possa sembrare un'affermazione esagerata Perché alla maggior parte delle persone Sembra impossibile controllare le esperienze della propria vita Noi vogliamo che siate consapevoli di questa possibilità Noi siamo giunti qui per aiutare voi Che siete ora concentrati in corpi A comprendere in dettaglio come attirate ciò che state attirando E per aiutarvi a comprendere che nulla giunge a voi Senza che l'abbiate invitato attraverso il pensiero Una volta che avrete guardato la vostra esistenza E avrete colto l'assoluta corrispondenza tra ciò che state dicendo E pensando e ciò che state ricevendo Allora comprenderete con chiarezza che siete davvero voi a invitare A trarre e creare la vostra esperienza fisica Custepoca è la migliore di tutte Vivete in un'epoca meravigliosa In una società tecnologicamente molto avanzata In cui si può accedere a stimoli provenienti da tutto il mondo L'accesso a questa grande varietà di informazioni è benefico Perché vi offre l'opportunità di crescere Ma può anche causare immensa confusione Concentrarsi su un campo più ristretto genera maggiore chiarezza Mentre molto spesso Concentrarsi su molte cose contemporaneamente porta confusione Voi siete esseri ricettivi Processate pensieri molto velocemente E quando considerate un solo oggetto Riuscite, grazie alla legge dell'attrazione A sviluppare una chiarezza sempre maggiore Fino a portare a termine qualunque cosa vi prefiggiate Ma poiché nella vostra società Il pensiero è iperstimolato Ben pochi rimangono concentrati su qualcosa abbastanza A lungo da progredire molto velocemente La maggior parte di voi viene distratta così in fretta Da non riuscire a portare alcun pensiero a un certo livello Obiettivi e significato del finalizzare i segmenti Quindi finalizzare i segmenti È il metodo che vi permette di identificare intenzionalmente Ciò che desiderate in Modo specifico in un dato momento E si pratica al fine di astrarre dal caos Di quella che è considerata la vita Nel suo complesso la consapevolezza Di ciò che si desidera maggiormente In un momento preciso Se ci si prende un istante per comprendere Qual è il proprio fine Si attinge al potere immenso dell'universo E lo si incanala interamente Nel momento in cui ci si trova Dovete pensare che i vostri pensieri sono magnetici D'altra parte Tutto in questo universo È magnetico E attira a sé ciò che gli è simile Perciò ogni volta che si considera Un piccolo pensiero negativo Per il potere della legge dell'attrazione Questo pensiero diventerà più grande Se vi sentite particolarmente delusi o tristi Vi ritroverete ad attirare altre persone Che si sentono in modo simile Perché il vostro stato d'animo È anche il vostro polo di attrazione Così, se vi sentite infelici Attirerete altre cose che vi rendono infelici Invece, se vi sentite bene Continuerete ad attirare ciò che considerate buono Dal momento che siete voi Ad attirare o invitare nella vostra esperienza Le persone e le cose con cui interagite Quelle che vi circondano quando siete nel traffico Quelle che incontrate facendo compere Quelle che incrociate passeggiando Gli argomenti di cui gli altri parlano con voi Il modo in cui, al ristorante Venite trattati dal cameriere Il cameriere cui siete assegnati Il denaro che guadagnate Il vostro aspetto fisico e la vostra salute Le persone con cui uscite Questo elenco potrebbe comprendere Tutto ciò che fa parte della vostra esistenza È molto importante comprendere il potere del vostro presente La chiave del metodo del finalizzare i segmenti È indirizzare con chiarezza i pensieri Verso le esperienze che si vogliono vivere Individuando gli elementi che in questo specifico segmento Della vostra esistenza Sono più importanti per voi Quando vi diciamo che siete i creatori Della vostra esperienza E che non c'è nulla nella vostra vita Che non abbiate invitato A volte incontriamo una certa resistenza Dovuta al fatto che molti di voi Vivono nella loro vita esperienze che non vogliono Perciò ci dicono Abraham Io non posso aver creato una cosa che non voglio Noi concediamo che non l'abbiano creata di proposito Ma non concediamo che non l'abbiano creata affatto Perché è attraverso i vostri pensieri E soltanto attraverso e a causa di essi Che ricevete ciò che ricevete Tuttavia Finché non si è pronti ad accettare Di essere i creatori della propria esperienza G.L. insegnamenti che offriamo qui Non possono essere molto utili La legge dell'attrazione agisce su di voi Che ne siate consapevoli o meno E il Finalizzare i segmenti Vi aiuterà a essere più consapevoli Del potere dei vostri pensieri Perché Più intenzionalmente lo applicherete Più la vostra vita Rifletterà i vostri fini intenzionali Anche nei più piccoli particolari La società Offre molti stimoli Voi vivete in una società Che stimola molto il pensiero E quando siete aperti e ricettivi Attirerete davvero molti pensieri E di conseguenza anche situazioni Eventi e persone con le quali avete il tempo E il desiderio di avere a che fare In una sola ora di esposizione ai media Siete oggetto di un'immensa stimolazione E non c'è da stupirsi Se spesso ve ne sentite sopraffatti E molti di voi hanno tagliato i punti con tutto Perché le informazioni che vi giungono Sono spesso troppe e troppo veloci Il metodo del finalizzare i segmenti Vi offrirà la soluzione Perché, dopo che avrete letto queste righe La confusione che provate Verrà rimpiazzata da un'assoluta chiarezza La vostra sensazione di aver perso il controllo Verrà sostituita dalla sensazione Di avere il controllo di ogni cosa E, per molti di voi Il senso di stagnazione cederà il posto A una splendida e rinvingorente percezione Di progresso e avanzamento La confusione nasce quando si considerano Troppe cose contemporaneamente Mentre la chiarezza scaturisce Dalla concentrazione sul singolo pensiero E tutto ciò dipende sempre Dalla legge dell'attrazione Quando formulate un pensiero La legge dell'attrazione Si mette subito in funzione Per sottoporvi maggiori stimoli Concernenti quel tema Quando si salta da un pensiero all'altro La legge dell'attrazione porta stimoli Per ciascuno di quei pensieri E questa è la ragione Per cui spesso vi sentite sopraffatti Perché, attraverso la legge dell'attrazione Avete raccolto informazioni Su una varietà troppo grande di oggetti In molti casi L'informazione emerge dal passato In molti altri Proviene dalle persone che vi sono vicine Ma il risultato finale è lo stesso State ponderando troppe cose E vi state muovendo Senza una direzione precisa Ne conseguirà, ovviamente Che vi sentirete frustrati e confusi Dalla confusione alla creazione intenzionale Quando scegliete di considerare un oggetto primario La legge e l'universo Vi porteranno altri pensieri che lo riguardano A quel punto I pensieri e gli eventi che vi giungeranno Saranno in armonia col pensiero primario Che avrete formulato Anziché disperdersi in molte direzioni Anche conflittuali e opposte Avvertirete inoltre una sensazione di chiarezza E cosa ancora più importante Comprenderete che state progredendo Nel vostro processo di creazione Quando si considerano molti oggetti Allo stesso tempo In genere non si avanza rapidamente Verso nessuno di essi Perché non si è concentrati E il potere risulta disperso Se invece si è concentrati Su ciò che è più importante In un dato momento Ci si muove velocemente In quella direzione Dividere le giornate in segmenti di fini Il momento in cui siete ora E in cui ora state consapevolmente percependo È un segmento Una giornata può essere divisa in molti segmenti E non esistono due persone Che abbiano precisamente gli stessi Inoltre possono variare da un giorno all'altro È normale Non è necessario avere una rigida programmazione L'importante è comprendere Quando si sta passando da un segmento E quindi da un gruppo di obiettivi e desideri A un altro Per esempio Quando vi svegliate al mattino State entrando in un nuovo segmento Il lasso di tempo in cui siete svegli Ma non siete ancora usciti dal letto È un segmento Il momento in cui vi preparate Per le attività della giornata È un altro Quando salite in macchina Aprite un nuovo segmento E così via Quando capite che state entrando In un nuovo segmento Se vi fermate un istante E formulate ad alta voce o mentalmente Quanto desiderate di più in quel momento Attraverso la potente Legge dell'attrazione Comincerete a stimolare pensieri Situazioni Eventi E perfino conversazioni E azioni altrui Che saranno in armonia Con i vostri fini Se vi prendete il tempo Di riconoscere Quando state entrando In un nuovo segmento E proseguite Individuando qual È il vostro desiderio Più importante In relazione a quel momento Eviterete di essere sballottati Dalle influenze esterne O di essere guidati Dalle vostre abitudini mentali Del Tutto non intenzionali Si opera E si crea A livelli diversi In ogni segmento Dell'esperienza Si opera A livelli diversi In un dato segmento Ci sono cose Che si stanno facendo Cose di cui si sta parlando E cose Che si stanno pensando E fare Parlare E pensare Sono potenti Mezzi creativi D'altra parte In ogni segmento Si possono considerare Le cose Che stanno succedendo Nel presente Cose già accadute Nel passato O cose Che si pensa Accadranno in futuro Quando pensate A ciò che volete Ne attirate l'essenza Nel vostro futuro Ma poiché Ci state pensando Adesso E il vostro presente Non è stato ancora preparato Probabilmente Non attirerete Ciò che volete Già per il presente Però Comincerete A muovervi In quella direzione E mentre avanzate Verso quel futuro Ritroverete gli eventi E le situazioni Cui avete pensato I pensieri di oggi Aprono la strada Al futuro Questo è il processo Che abbiamo indicato Con le espressioni Aprire la strada E preparare Nel presente Si può pensare Al futuro In modo tale Che Una volta raggiuntolo Si scoprirà Che gli è stata aperta La strada O che è stato preparato Da voi E per voi Così Molto di ciò Che state vivendo oggi È il risultato Di ciò che ieri L'altro ieri E negli anni precedenti Avete pensato Riguardo a oggi Ogni pensiero Che fate in direzione Di ciò che volete Nel vostro futuro Vi è di grande beneficio Allo stesso modo Qualunque pensiero Facciate in direzione Di ciò che non volete Nel vostro futuro Vi è di grande svantaggio Quando pensate A vitalità e salute E le volete E ve le aspettate Nel futuro State aprendo loro La strada per voi Le state preparando Se invece vi preoccupate Della vecchiaia E della malattia State preparando O aprendo la strada A quel futuro Indesiderato Finalizzare i segmenti Vi aiuterà Sia a pensare ora In funzione Del vostro presente Sia a pensare ora In funzione Del vostro futuro Poiché In ogni caso Dovete essere consapevoli Ora della vostra creazione Questa è la chiave Del metodo Del finalizzare i segmenti Che si desideri Specificamente fare O dire qualcosa adesso O che si stia Preparando il proprio futuro È molto importante Farlo di proposito Quando salite in macchina Se formulate deliberatamente Il vostro desiderio Di viaggiare In tutta sicurezza Attirerete situazioni Che ve lo permetteranno Questo ovviamente Se lo avete già desiderato All'inizio Di molti altri viaggi Se nel passato Guardando al futuro Avete desiderato sicurezza E ve la siete aspettati Allora Quei desideri Formulati in anticipo Hanno già iniziato A preparare il futuro E il vostro attuale Finalizzare i segmenti Non farà altro Che incrementare Quel desiderio E rafforzarne La realizzazione Posso preparare La mia vita O vivere a caso Se non avete preparato Il vostro futuro E non state desiderando Intenzionalmente In questo segmento Allora state Vivendo a caso Quindi la possibilità Di essere sballottati Dal caos O dai desideri Di qualcun altro È maggiore Due esseri Che viaggiano Su macchine separate Che arrivano Nello stesso posto Nello stesso momento E che collidono Sono due esseri Che non hanno desiderato Intenzionalmente sicurezza Vivendo la vita a caso Nella loro confusione Si sono ritrovati Ad attrarsi l'un l'altro Se volete E vi aspettate Di ricevere l'oggetto Dei vostri desideri Esso verrà Ma se non vi prendete Il tempo necessario Per stabilire Ciò che volete Allora Per l'influenza Degli altri O delle vostre Vecchie abitudini Attirate ogni sorta Di esperienze Che le vogliate O meno È vero che attirate Casualmente anche Cose che vi piacciono Proprio come Non intenzionalmente Ma a caso Ne attirate anche Che non vi piacciono Ma in ogni caso Non c'è molta soddisfazione Nell'attrarre a caso L'autentica gioia della vita Sta nella creazione Intenzionale Si attira Ciò che si sente Ora Il punto fondamentale Della creazione Intenzionale È il seguente Dovete vedervi Come magneti Che in ogni istante Attirano ciò che si sentono Quando sentite Di possedere Chiarezza di intenti E controllo Della vostra vita Attirate chiarezza E controllo Quando vi sentite felici Attirate situazioni felici Quando vi sentite sani Attirate salute Quando vi sentite ricchi Attirate ricchezze Quando vi sentite amati Attirate amore Il vostro stato d'animo È esattamente Il vostro polo di attrazione Per cui L'importanza del Finalizzare per segmenti Sta nel fermarsi Diverse volte al giorno E dire Questo è ciò che desidero Da questo segmento Della mia esistenza Io lo voglio E mi aspetto che sia Formulando queste potenti parole Si diventa ciò che noi Chiamiamo un setaccio selettivo E si attira Nella propria esperienza Ciò che si vuole L'universo Il mondo in cui vivete È colmo di ogni sorta di cose Alcune che vi piacciono molto E altre che non vi piacciono per niente Ma tutto ciò che giunge Nella vostra esperienza Arriva soltanto su vostro invito E attraverso il vostro pensiero Così Se diverse volte al giorno Vi prendete il tempo Per individuare ciò che volete E formulare il vostro desiderio E la vostra aspettativa Otterrete il controllo magnetico Della vostra esistenza Non sarete più vittime In realtà non esiste nulla del genere E non attirerete più in modo non intenzionale O a caso Una volta che abbiate cominciato A suddividere la vostra giornata E a stabilire più volte al giorno Che cosa volete Siete un magnete intenzionale Ed è un'esperienza piena di gioia Che cosa voglio ora? Finalizzare i segmenti È tanto efficace Perché si possono considerare molti oggetti Ma Quando si prova a considerarli tutti insieme Ci si sente sopraffatti e confusi Il valore del desiderare segmento per segmento È che Quando ci si concentra con più precisione Su un numero limitato di elementi per volta Si permette alla legge dell'attrazione Di rispondere con maggiore forza E ci sono meno probabilità di confondere la Vibrazione coi pensieri contraddittori I dubbi, le preoccupazioni e la consapevolezza Dell'attuale mancanza Per esempio Quando suona il telefono Potete sollevare la cornetta Salutare e Dopo aver sentito di chi si tratta Dire Buongiorno Aspetti un istante Per favore Dopodiché pensate Qual è l'obiettivo più importante Che intendo raggiungere con questa conversazione? Voglio elevare il mio interlocutore Voglio essere capito Voglio che l'altro mi capisca E voglio influenzarlo positivamente Verso ciò che desidero Voglio che sia stimolato E incoraggiato dalle mie parole Certo Voglio che questa conversazione Sia per me un successo Quando tornerete al telefono Vi sarete aperti La strada e l'altra persona Interagirà con voi In modo più corrispondente Ai vostri desideri Rispetto a come avrebbe fatto Se non vi foste presi un istante Per raccogliere le idee Quando l'altro ha composto il numero Sapeva che cosa voleva Allo stesso modo Voi avete bisogno di un momento Per capire che cosa volete voi Altrimenti Grazie al potere Della sua influenza L'altro potrebbe raggiungere Quello che vuole E voi potreste Non raggiungere Ciò che volete voi Volere molte cose Tutte nello stesso momento Genera confusione Se invece ci si concentra Sulle cose più specifiche Che si vogliono In un particolare momento Si generano chiarezza Potere E rapidità Questa è la chiave Del metodo Di finalizzare i segmenti Fermarvi Quando entrate In un nuovo segmento E identificare Ciò che desiderate di più In modo da potervi prestare Maggiore attenzione E quindi Attrarre a voi potere Molti di voi Sono concentrati Durante alcuni segmenti Della giornata Ma ben pochi Lo sono durante La maggior parte Della giornata Così Individuando i segmenti E identificando L'obiettivo più importante Di un dato segmento Vi eleverete A magneti O creatori Intenzionali Durante ogni singolo segmento Della giornata E scoprirete Di essere Non solo più produttivi Ma anche più felici Quando si desidera Intenzionalmente Infatti E poi si permette E si riceve Si prova grande A pagamento Siete esseri Che cercano la crescita E quando progredite Raggiungete le vette Della felicità Mentre Quando sentite Stagnazione Siete infelici Un esempio Di giornata Dai segmenti finalizzati Qui vi diamo Un esempio Di giornata In cui non solo Si è consapevoli Dei nuovi segmenti In cui si entra Ma si formulano Desideri appropriati Per ciascuno di essi Immaginiamo Che cominciate Il processo Alla fine di una giornata Prima di andare a dormire Riconoscete Che addormentarvi Implica l'ingresso In un nuovo segmento Di vita Così Stando sdraiati Con la testa sul cuscino E preparandovi a dormire Formulate il desiderio Relativo a quel momento Desidero Che il mio corpo Si distenda completamente Desidero Svegliarmi Riposato E rinvigorito Ansioso Di cominciare Una nuova giornata Il mattino successivo Aprendo gli occhi Riconoscete Che state entrando In un nuovo segmento Di vita E che il tempo In cui rimanete Svegli nel letto Prima di Alzarvi È un segmento Formulate il desiderio Adatto a quell'istante Mentre sto sdraiato Nel letto Desidero avere Una chiara immagine Di questa giornata Desidero affrontare Questo nuovo giorno Con entusiasmo Ed esserne stimolato Allora Stando sdraiati Nel letto Vi sentirete rinfrescati E proverete Un entusiasmo Crescente Per il giorno Appena cominciato Uscendo dal letto Entrate in un nuovo segmento Quello in cui Vi preparate Per la giornata Allora Mentre vi pettinate O vi fate una doccia Lasciate che il vostro Desiderio sia Desidero riconoscere La bellezza del mio corpo E apprezzare Il modo splendido In cui funziona Voglio prendermene cura In modo efficiente E mostrarmi al meglio Mentre vi preparate La colazione Il vostro desiderio Per questo segmento sia Sceglierò E preparerò Quest'ottimo Cibo nutriente Mi rilasserò E lo mangerò Con gusto Permettendo al mio corpo Di digerirlo E di metabolizzarlo In modo perfetto Sceglierò Il cibo più adatto Alle esigenze Del mio corpo Questo cibo Mi sazierà E mi rinvigorirà Formulando questo proposito Noterete che Mangiando Vi sentite ringiovaniti Sazi e tonificati E gusterete Il cibo Ben più di quanto Non avreste fatto Senza formulare Questo proposito Salendo in In auto E viaggiando Verso la vostra Destinazione Che il vostro desiderio Per questo segmento Sia spostarvi Da un posto A un altro In tutta sicurezza Sentendovi corroborati E felici E consapevoli Di ciò che gli altri Automobilisti Vogliono E non vogliono In modo da potervi Muovere attraverso Il traffico In maniera fluida Con sicurezza Ed efficienza Scendendo dall'auto Entrate in un nuovo segmento Fermatevi un istante E immaginatevi Mentre camminate Verso il luogo In cui siete diretti Vedetevi passeggiare Di buon umore Desiderate muovervi Con efficienza E sicurezza Da un posto all'altro Desiderate respirare Profondamente Avvertendo la vitalità Del vostro organismo E la lucidità Del vostro pensiero Ora formulate La vostra visione O il vostro desiderio Per il segmento In cui state Per entrare Immaginatevi Mentre salutate I vostri dipendenti O il vostro datore Di lavoro Vedetevi come una persona Che eleva gli altri E che ha il sorriso pronto Riconoscete Che non tutte le persone Che incontrate Sono intenzionali Nei loro desideri Ma ricordatevi Che voi lo siete E che avete il controllo Della vostra vita Per cui non sarete In balia Della loro confusione Dei loro desideri O del loro influsso Muovendovi attraverso Una giornata Dai segmenti finalizzati Sentirete il potere E lo slancio creativo Scaturito Dai desideri Che avete formulato E vi sentirete invincibili Vedendovi in continuo Possesso del controllo Creativo Della vostra esistenza Sentirete Che non vuoi nulla Che non possiate essere Fare O avere Un piccolo taccuino Per finalizzare i segmenti Naturalmente I vostri segmenti Non saranno esattamente Quelli che vi abbiamo proposto E non saranno Gli stessi Da un giorno all'altro In pochi giorni Comunque Vi diventerà facile Individuare Ogni nuovo segmento E la cosa Che più desiderate Finché Molto presto Sarete in grado Di aspettarvi Con sicurezza Buoni risultati Da ogni segmento Della vostra giornata Molti di voi Trovano utile Ed efficace Portare con sé Un piccolo taccuino Fermarsi anche fisicamente Per sottolineare Il passaggio Da un segmento A un altro E annotare Sul taccuino Una Lista di desideri Adeguati Poiché scrivere Qualcosa su carta È spesso il vostro Modo per concentrarvi Un taccuino Può risultare Molto utile Quando iniziate Ad applicare Il metodo Di finalizzare I segmenti Hai qualche domanda Su questo argomento? Non c'è un obiettivo Da raggiungere? Jerry Abraham Secondo me Quello di finalizzare I segmenti È il mezzo ideale Per mettere Istantaneamente In pratica E realizzare La legge Dell'attrazione La scienza La scienza Della creazione Intenzionale E l'arte Del permettere Detto Altrimenti Unendo la nostra Nuova consapevolezza Di queste leggi Che i vostri insegnamenti Ci hanno spiegato Col metodo Del Finalizzare I segmenti Ognuno di noi Può scoprire Fin da subito Come i nostri pensieri Causano le manifestazioni Della nostra esistenza Ho paragonato Il finalizzare I segmenti Al proporsi Una serie Di piccoli Obiettivi O desideri Di cui possiamo Quasi istantaneamente E consapevolmente Esperire la manifestazione Questo mi porta Alla mia domanda Successiva Non esiste Un obiettivo O desiderio Fondamentale E onnicomprensivo Che da solo Ci permetta Di completarci In questa vita fisica Abraham Sì Il finalizzare I segmenti Concerne I desideri Più immediati Rispetto al momento Che state vivendo ora Invece Il desiderio Di cui parli Quello con cui siete Emersi In questa forma fisica Sta per così dire All'altra estremità In altri termini Ora voi siete qui Desiderando ciò Che più volete In questo momento Ma questo momento È influenzato Dai pensieri Che avevate perfino Prima di nascere In questo corpo fisico Uscendo da quella Prospettiva più ampia E profonda Ed emergendo In questo corpo fisico Avevate degli obiettivi Ma i desideri Formulati Dalla vostra attuale E consapevole Prospettiva fisica Sono ora dominanti Non siete marionette Che interpretano Un ruolo già scritto In ogni istante Dalla vostra prospettiva Che è in eterna evoluzione Potete scegliere Ciò che è più appropriato Perché voi siete Già più vasti E saggi Di quanto eravate Quando emergeste In questo corpo La vostra attuale Esperienza di vita Infatti Si è aggiunta Alla vostra Esperienza complessiva La felicità È un obiettivo Abbastanza importante? Jerry Quindi Non sapendo A livello consapevole Quali siano Questi obiettivi specifici Individuali E onnicomprensivi Il fine più importante Potrebbe essere Semplicemente La felicità Abraham Hai colto Come scoprire Che cosa desideravate Quando siete emersi Dalla vostra Prospettiva interiore Quando hai detto Non sapendo A livello consapevole Quali siano Questi obiettivi specifici Individuali E onnicomprensivi Il motivo Per cui non sapete A livello consapevole Quali siano Questi obiettivi specifici È che in realtà Non esistono Prima di nascere Fisicamente Avevate desideri Di ordine generale Come essere felici Elevare gli altri Crescere in modo continuo Ma sta a voi Decidere i modi E i mezzi specifici Con cui raggiungere Queste mete Qui e adesso In questo momento Siete voi i creatori Come riconoscere La crescita? Jerry Prendiamo l'obiettivo Che avete menzionato La crescita Come possiamo capire Che stiamo crescendo? Abraham Poiché siete esseri Che cercano la crescita Proverete emozioni positive Ogni volta Che sentirete Di stare crescendo E proverete Emozioni negative Ogni volta Che avvertirete Stagnazione Non è necessario Conoscere esplicitamente I pensieri E i desideri Della vostra Prospettiva interiore O più vasta Ma potete comunicare Con essa Tutti gli esseri fisici Comunicano con il loro Essere interiore Attraverso le emozioni Così Quando le vostre Emozioni sono positive Sapete che siete In armonia Con i vostri Desideri interiori Come si può Misurare il successo? Gerry Dunque Abram Dalla vostra Prospettiva non fisica Quale credete Che possa essere Una misura valida Del successo In quello che stiamo Facendo qui? Abram Ci sono molti modi Per misurare Il vostro successo Nella vostra società Un modo è il denaro I premi e i trofei Un altro Ma dalla nostra Prospettiva Il modo migliore Per misurare Il vostro successo Sono le vostre Emozioni positive Il metodo Il metodo Del finalizzare I segmenti Accelera le nostre Realizzazioni? Gerry Dunque Questo metodo Di finalizzare I segmenti Non solo Ci fa ottenere Più rapidamente Ciò che vogliamo Ma può anche Rendere più piacevoli Le esperienze Che stiamo vivendo E più intimo E quindi più efficace Il nostro controllo Intenzionale È di questo Che si tratta? Abram Quando formulate Consapevolmente I vostri desideri È senz'altro vero Che è più intimo Il vostro controllo Intenzionale L'alternativa È non decidere Che cosa volete E quindi Nella vostra confusione Attirare un poco Di tutto E Attirando un poco Di tutto Vi arriveranno Alcune cose Che vi piacciono E altre Che non vi piacciono Il punto cruciale Del metodo Del finalizzare I segmenti È che Seguendolo Si attira Sempre qualcosa Che si vuole Intenzionalmente Non si crea Più a caso Quindi Non si attira Più ciò Che non si vuole Hai ragione Quando dici Che questo metodo Può accelerare Il processo Di creazione Perché La vostra chiarezza Di intenti Lo rende più rapido Naturalmente Quando si spostano Mucchi di spazzatura Da un posto All'altro Si sta creando Fisicamente Per fare un esempio Ma non si è attinto Al potere Dell'universo Se i propri pensieri Non hanno suscitato Emozione Quando è presente L'emozione Che sia positiva O negativa Si sta attingendo Al potere Dell'universo Quando volete davvero qualcosa Viene a voi Velocemente Ma quando non volete Davvero qualcosa Viene a voi Altrettanto Velocemente L'idea del finalizzare I segmenti Sta nel formulare Pensieri Che riguardano Ciò che si vuole Concentrandosi In ogni momento Con chiarezza sufficiente A generare Un'emozione La velocità Delle vostre realizzazioni Dipende Dalla vostra Chiarezza D'intenti I metodi Meditazione Laboratorio E finalizzare I segmenti Jerry Permettete che chiariamo Insieme alcune questioni Terminologiche Abbiamo tre diversi metodi Uno lo state chiamando Finalizzare I segmenti Un altro Laboratorio Il terzo Di cui di tanto Intanto parlate Usando un termine Che usano anche altri È la meditazione Potreste chiarire Quali sono le differenze E gli obiettivi Dei tre metodi Abram Ognuno di questi metodi Mira un diverso obiettivo Quindi la tua questione È assolutamente pertinente Al nostro argomento principale Il finalizzare I segmenti Perché Quando ci si serve Di uno dei tre metodi È bene sapere Perché lo si sta facendo E che cosa ci si aspetta Di ottenere Proprio come quando Si entra in un segmento La meditazione Usando un vostro termine È un segmento In cui desideriamo Acquietare i nostri Meccanismi di pensiero E ascoltare Il nostro mondo interiore È un metodo Per distrarsi E distaccarsi dal fisico In modo da avvertire Ciò che c'è Al di là di esso Ci sono motivi diversi Per cercare questo distacco Ed è importante Che quando si entra In questo segmento Si individui il proprio Potreste desiderare Un segmento di meditazione Semplicemente Perché volete staccarvi Da un mondo che vi sta Confondendo O affliggendo O perché desiderate Un istante di riposo Noi incoraggiamo La meditazione Perché apre un passaggio Che vi permette Di collegare L'io interiore Che esiste Nella dimensione interiore Col vostro io Consapevole e fisico Che sta nel vostro corpo E questo per noi È positivo La meditazione Vi permette Di distogliere La vostra attenzione Dal mondo fisico E di allineare La vostra Concentrazione Con quella del Mondo interiore Ora Usando il metodo Del laboratorio Entrate invece In un segmento In cui volete pensare In modo dettagliato E preciso A ciò che volete E Attraverso la legge Dell'attrazione Generare quindi chiarezza In altre parole Volete considerare Ciò che desiderate In modo tanto specifico Da indurre il potere Dell'universo Ad accelerare La vostra creazione Durante il laboratorio Guidate i vostri pensieri Nella direzione Di ciò che desiderate Allineando i vostri pensieri Coi desideri Che in questo momento La vita vi ha aiutato A identificare Nel vostro mondo fisico Non si può avere Un'esperienza fisica Finché non la si è creata Nel pensiero Così Il laboratorio È il luogo In cui si pensa Intenzionalmente E si comincia Ad attrarre Deliberatamente Ciò che si vuole Il metodo Del finalizzare I segmenti Sta nel riconoscere Che Uscendo da un segmento Ed entrando in un altro Gli obiettivi cambiano E quindi ci si ferma Per individuare Che cosa si vuole ora Il finalizzare I segmenti È il metodo Con cui si eliminano Gli ostacoli più insidiosi Per la vostra creazione Intenzionale L'influenza Di altri Che possono avere Scopi differenti Dai vostri E l'influenza Delle vostre stesse Vecchie abitudini Come cominciare A sentirsi Intenzionalmente felici Jerry Prima di cominciare A desiderare qualcosa Avete suggerito di raggiungere Uno stato di felicità Potete indicarci Alcuni sistemi diversi Per generare Intenzionalmente Il sentimento di gioia O per generare Sensazioni positive Abram Prima di farlo Vogliamo sottolineare Ancora una volta L'importanza Di essere felici Voi siete Voi siete come magneti E il vostro stato d'animo È il vostro polo di attrazione Quindi se vi sentite infelici Se pensate a ciò che non volete Che è ciò che genera Il sentimento di infelicità Allora attirate Ancora di più Ciò che non si vuole È molto importante Essere felici Perché soltanto Dallo stato di felicità Si può attrarre Ciò che si desidera Inoltre È la vostra condizione Di esistenza Più connaturata a voi Se non vi permettete Di essere felici Vi state tenendo lontano Da chi siete realmente Cioè creature Destinate alla gioia Quando notate Di essere felici Prendetevi un istante Per individuare Ciò che può aver causato Questo stato d'animo Per molti di voi Può essere Ascoltare musica In armonia Con quel momento Per altri Accarezzare il gatto Fare una passeggiata Fare l'amore O giocare col proprio figlio Per altri Ancora Leggere un libro O telefonare a un amico Che sa essere di sollievo Ci sono molti modi Per essere felici È molto utile Trovare più sistemi Per generare il sentimento Di felicità In modo che Se un approccio Non dovesse Per qualche ragione Funzionare Potrete sempre Usarne un altro Prendete nota Di che cosa vi solleva E ricordatevelo Poi Quando vorrete Sentirvi gioiosi Usatelo Come pietra Di paragone Della vostra felicità Che cosa accade Quando chi ci circonda È infelice Jerry Avete detto Che si può essere felici In quasi tutte le circostanze Ma come ci si può riuscire Quando osserviamo qualcuno Che versa in una situazione Estremamente negativa Abram Si può essere felici Solo a condizione Di pensare A ciò che si vuole Così Si può essere felici In tutte le circostanze Se riguardo A ciò che si vuole Si è sicuri E forti Abbastanza Da prestare attenzione Solo a ciò Che si vuole Jerry Ma che cosa succede Se ci sono persone Con cui ci sentiamo In obbligo Di stare insieme Che fanno E dicono cose che Ci fanno sentire Estremamente a disagio Ma che vogliamo Cercare di compiacere Perché ci sentiamo In colpa Se non facciamo O siamo quello Che loro vogliono Come si potrebbe Essere felici In una situazione Del genere Abram Stai toccando Un punto importante È più difficile Rimanere felici O positivi Quando si è circondati Da persone infelici O quando si è Circondati O coinvolti Emotivamente Da persone Che da voi Vogliono qualcosa Di diverso Rispetto a ciò Che voi volete Dare loro Ma Interagendo Con gli esseri fisici Abbiamo notato Che Quando avete Un'esperienza Di 5 o 10 minuti Per quanto Possa essere Spiacevole E negativa La maggioranza Delle vostre Emozioni negative Non nascono Durante i minuti In cui vivete Quell'esperienza Spiacevole Ma in tutte le ore In cui ci ripensate E rimuginate Dopo averla avuta In genere Spendete molto più tempo A pensare alle cose negative Dopo che sono successe Piuttosto che nel momento In cui succedono La maggior parte Delle vostre emozioni negative Può essere eliminata Se Mentre siete da soli Vi concentrate Su ciò Cui volete pensare ora Allora Rafforzerete La vostra abilità A non dedicare Troppa attenzione A quei brevi incontri Quei brevi istanti Della vostra vita In cui venite Effettivamente Incupiti dagli altri E col tempo La legge Dell'attrazione Non vi porterà Più simili esperienze Perché i pensieri Corrispondenti Non saranno più Attivi dentro di voi Si possono finalizzare I segmenti Nonostante le interruzioni Impreviste? Jerry Allora Immaginiamo Una situazione In cui una persona Voglia davvero Sentire il proprio progresso Ma i suoi desideri Vengano spesso distratti Da quelle che io Chiamo interruzioni Impreviste In una situazione Del genere Come suggerite Di procedere Col finalizzare I segmenti? Abram Naturalmente A mano a mano Che il vostro Finalizzare i segmenti Si affina e migliora Le interruzioni Diventeranno Sempre meno Siete stati voi A incoraggiare Le interruzioni Quando in passato Non praticavate il Finalizzare i segmenti Quando cominciate Il vostro giorno Visualizzando Esperienze fluide E piane Avete già eliminato Alcune di quelle interruzioni E potrete affrontare Le interruzioni Che insorgono segmento Dopo segmento Dicendovi Sarà breve E io non perderò Il filo Dei miei pensieri Non perderò Lo slancio creativo Che ho avviato Affronterò la cosa In modo rapido Ed efficace E tornerò A quello Che stavo facendo Finalizzare i segmenti Può aumentare Il tempo A nostra disposizione? Jerry Negli anni Mi è capitato Di dire Mi piacerebbe Che ci fossero molti me Così avrei il tempo Di vivere tutte le magnifiche esperienze Che mi piacerebbe provare C'è un modo Per sfruttare Il finalizzare i segmenti Allo scopo Di vivere più esperienze E fare più cose desiderate Abraham Diventando più efficienti Nel finalizzare i segmenti Scoprirete Che nella vostra giornata Avrete molte più ore Per fare ciò che volete Molte delle cose Che volete Non sono ancora giunte a voi Perché non ci avete pensato Abbastanza lucidamente E Quindi Non le avete attirate Così Il finalizzare i segmenti stesso Vi darà la risposta Che cercate in questo campo Essendo chiari In ciò che volete E smettendo di fare pensieri Contraddittori E confusi Metterete le leggi Dell'universo In condizione di funzionare Per voi E non sentirete più La necessità di Intraprendere tante azioni Per sopplire Ai vostri pensieri Inappropriati Offrendo pensieri Intenzionali Imbriglierete il potere Dell'universo E in molto meno tempo Otterrete molto Molto di più Perché non tutti Creano intenzionalmente Jerry Dunque abbiamo tutti La possibilità di scegliere Tra creare di proposito E ricevere ciò Che vogliamo davvero E creare A caso E ricevere indiscriminatamente Cose che vogliamo E cose che non vogliamo Perché allora Sembra che la maggior parte Delle persone Scelga a caso Abraham La maggior parte di voi Crea le proprie esperienze A caso Perché non comprende Le leggi Non comprende proprio Il fatto di avere Questa possibilità di scelta Molti sono giunti A credere nel destino O nella fortuna E dicono Questa è la realtà È fatta così Non comprendono Che attraverso Il loro pensiero Hanno il pieno controllo Della propria esistenza È come se giocassero A un gioco Di cui non conoscono Le regole Perciò si stancano presto Perché non credono Di avere alcun controllo Per voi È molto importante Prestare intenzionalmente Attenzione A ciò che volete Altrimenti Sarete in valia Dell'influenza Di chi vi circonda Così A meno che non vi mettiate A pensare Ciò che per voi È importante Sarete stimolati Dai pensieri altrui Che possono essere O non essere importanti Per voi Se non sapete Che cosa volete Allora dovete dirvi Voglio sapere Che cosa voglio Formulando questo desiderio Comincerete ad attrarre Informazioni Occasioni Molte cose Tra cui scegliere E Grazie al flusso continuo Di idee Che vu investirà Vi farete un'idea Più precisa Di ciò che desiderate Per via della legge Dell'attrazione È più semplice Limitarsi a osservare Le cose così come sono Piuttosto che scegliere Un pensiero differente Ma Mentre osservate Le cose così come sono La legge dell'attrazione Vi porta sempre Le stesse cose E col tempo Cominciate a credere Di non avere alcun controllo A molti è stato insegnato Che non è permesso Loro scegliere O che non sono degni Di farlo O che non sono in grado Di sapere Se le loro scelte Siano giuste Col tempo E con la pratica Arriverete a comprendere Che siete in grado Di stabilire In base al vostro Stato d'animo Se le vostre scelte Sono adeguate o meno Perché Scegliendo una direzione Di pensiero Che concordi Con la vostra Prospettiva più ampia Sarà la vostra gioia A confermare L'adeguatezza Dei vostri pensieri Quanto è importante Volere Per la nostra esperienza Jerry Avreste qualcosa Da dire alle persone Che non dicono Voglio sapere Che cosa voglio Ma Per quanto ne so Non voglio niente O mi hanno insegnato Che è sbagliato Desiderare qualcosa E che vivono In una sorta Di stato di apatia E piattezza Abraham Il desiderio Di non avere desideri Al fine di raggiungere Uno stato Di maggiore dignità Non è forse Un desiderio A sua volta Volere è il principio Di tutta la creazione Intenzionale Quindi Se non vi permettete Di volere Allora state davvero Rifiutando il controllo Intenzionale Della vostra esperienza Di vita Voi siete esseri fisici Certo Ma in voi C'è una forza vitale Una forza energetica Una forza divina Una forza creatrice Che fluisce in voi Dalla vostra dimensione interiore I vostri dottori Pur avendola Costantemente Sotto gli occhi Non ne sanno molto Sanno che alcuni Ne sono provvisti E altri no Per esempio Quando dicono Quest'uomo è morto Non ha forza vitale La forza creatrice Scorre in voi E da voi Verso qualunque cosa Cui stiate prestando attenzione In altre parole È il sistema Attraverso il quale Il pensiero realizza Qualunque desiderio Stiate pensando Più si pensa A ciò che si desidera Maggiore è la forza Con cui la legge Dell'attrazione Mette in moto La creazione E si riesce A sentire lo slancio Creativo Dei propri pensieri Quando non si pensa A ciò che si desidera O si pensa A ciò che si vuole E subito dopo Alla sua mancanza Si intralcia Il naturale Slancio dei pensieri Questo stato di apatia E piattezza Che hai descritto Deriva dal fatto Che lo slancio creativo Del pensiero Viene Rallentato Da asserzioni Di senso contrario Perché La maggior parte Delle persone Si accontenta Di così poco Jerry Abraham Noi viviamo In un paese In cui quasi tutti Sono in condizione Di mangiare ogni giorno Hanno un posto In cui vivere E abiti da indossare Quasi tutti Se la cavano In un modo O nell'altro Mi capita Di incontrare Persone che mi dicono Sai Io ho abbastanza Per arrangiarmi Ma per qualche ragione Non riesco A far crescere I miei desideri Tanto da attirare Qualcosa di meglio O di speciale Nella mia vita Che cosa direste A una persona In una situazione simile Abraham Non è che questa persona Non desideri di meglio È che in qualche modo Si è convinta Di non poterlo avere Quindi preferisce Evitare la delusione Di volere qualcosa E poi non ottenerlo Se non si ottiene qualcosa Non è perché Non lo si desideri Ma perché si è concentrati Sulla sua assenza E Per la legge Dell'attrazione Si attira l'oggetto Del proprio pensiero In questo caso L'assenza di ciò Che si vuole Quando si vuole una cosa E si dice Ma io la volevo E non l'ho ottenuta L'attenzione Continua a essere Concentrata Sull'assenza Di ciò che si desidera Per cui Per legge Si continua Ad attirarne la mancanza Quando si pensa A qualcosa che si vuole Ci si sente entusiasti Eccitati E si provano Emozioni positive Ma se si pensa Alla mancanza Di ciò che si vuole Si provano Emozioni negative Delusione E sconforto Questo sconforto È il sistema Di guida emotivo Che vi dice Ciò a cui stai pensando Non è quello che vuoi Per questo Vi diciamo Di permettervi Di volere qualcosa di più Di indirizzare Il vostro pensiero Verso qualcosa Che volete Di provare L'emozione positiva Che nasce dal volere E lasciare Che il disappunto Se ne vada E pensando A ciò che volete Lo attirerete La priorità Dei nostri obiettivi Jerry Avete dato a Esther E me un sistema Con cui abbiamo Ottenuto grandi risultati E mi piacerebbe Che lo sviluppaste Ulteriormente È il sistema Che avete chiamato Ordinare gli obiettivi Abraham Anche se non li considerate Tutti in ogni momento Spesso avete Molti desideri O obiettivi Tutti relativi A uno stesso istante Per esempio Quando interagite Col vostro compagno O la vostra compagna Volete una comunicazione chiara Volete elevare voi stessi Elevare l'altro E potreste voler Influenzare il vostro partner A volere la stessa cosa In altri termini Volete armonia Per voi è importante Individuare quali sono Gli obiettivi Che volete maggiormente raggiungere Perché Dandovi delle priorità Rivolgete la vostra Intera attenzione Verso la cosa più importante E così facendo Attirate su questa potere Immaginiamo dunque Che abbiate cominciato La vostra giornata Senza aver individuato Chiaramente i vostri segmenti Vi siete barcamenati Alla cieca Per tutto il giorno Come fa la maggior parte Delle persone Muovendovi Da una situazione All'altra Facendovi strada Alla meno peggio Tra gli impulsi E i desideri degli altri O tra le vostre vecchie abitudini Il telefono squilla I figli vi chiedono Questo e quello Il partner Vi fa il terzo grado E voi Non vi sentite sicuri Di niente E vivete una giornata Come molti direbbero Normale Ora Vi trovate coinvolti In una discussione Per la quale Non avete avuto il tempo Di individuare Ciò che volete E Immaginiamo Che vi troviate In disaccordo Con qualcuno A cui tenete I vostri figli Il vostro partner O chiunque altro Non importa Sentite il campanello D'allarme Proveniente dal vostro Essere interiore In voi sta sorgendo Una sensazione negativa Per una quantità Di ragioni State diventando matti Per uscire Da questo groviglio Perché non avete desiderato In modo chiaro Ma Al di là di questo Siete anche turbati Perché siete in disaccordo Con ciò che l'altra persona In questo momento Vuole Dice Desidera Se in questo segmento Riuscite a riscuotervi E a chiedervi Che cosa desidero di più In questo preciso istante Potreste riconoscere Che il vostro desiderio dominante È proprio sentire armonia Andare d'accordo col partner Il figlio O chi altri sia Insomma Avere un rapporto armonioso È per voi Molto più importante Della questione insignificante Su cui state litigando E Quando comprendete Che ciò che più desiderate È armonia Improvvisamente Le vostre idee Diventano chiare Allora l'emozione negativa Se ne va E riuscite a dire Per esempio Aspetta Parliamone Non ho voglia di litigare Perché tu sei il mio migliore amico Voglio che tra di noi Ci sia armonia Voglio che siamo felici insieme A questo punto L'interlocutore Si troverà disarmato Voi allora Ricorderete All'altra persona Che questa è la cosa più importante Anche per lei O lui E ora Concentrati su questo nuovo obiettivo Uno prioritario Che è l'armonia Potrete guardare In modo diverso E più lucido La questione secondaria Che avete per le mani Adesso vi daremo Un'indicazione Che se formulata All'inizio di ogni segmento Della vostra esperienza Vi sarà di grande aiuto Entrando in questo segmento Della mia vita È mio obiettivo Vedere ciò che voglio vedere Così Tutto ciò che farete Interagendo con gli altri Vi aiuterà a capire Che voi volete armonia Che volete elevare gli altri Che volete trasmettere In modo efficace Le vostre idee E stimolare i loro desideri Affinché si armonizzino Con i vostri Questa indicazione Vi sarà di grande aiuto Quanto devono essere Particolareggiati I nostri obiettivi creativi Jerry Quando miriamo a progredire Quanto dobbiamo essere Particolareggiati Riguardo al modo O ai mezzi E quanto dobbiamo essere Dettagliati Nell'immaginare il risultato O la manifestazione Dei nostri desideri Abraham Nel pensare Ciò che volete Dovete essere Abbastanza dettagliati Da generare emozioni positive Ma non tanto Da generare emozioni negative Quando si desidera Qualcosa in modo vago Non si è abbastanza Specifici E quindi Non si raccoglie Abbastanza potere Da mettere in moto L'universo D'altra parte Si può diventare Troppo dettagliati Prima di aver raccolto Sufficienti informazioni A supporto Della propria aspettativa In altri termini Quando l'elaborazione Dei dettagli Mette in dubbio La fattibilità Del desiderio Si può provare Un'emozione negativa Per questo Nei vostri obiettivi Siate abbastanza Particolareggiati Da generare Emozioni positive Ma non tanto Da generare Emozioni negative Bisogna ripetere Regolarmente Il finalizzare I segmenti Jerry Abraham Parliamo ancora Del finalizzare I segmenti Poiché sarebbe Molto noioso Pensare in ogni istante A ogni minimo dettaglio Non potremmo Limitarci Per esempio A desiderare Come prima cosa Al mattino La sicurezza Questo non basterebbe A tenerci al sicuro Per tutta la giornata Abraham Non è necessario Finalizzare In continuazione I segmenti Anche se è importante Ripetersi Ogni momento Qual è la cosa Più importante Una volta che Abbiate formulato Il vostro desiderio Di sicurezza E cominciate A sentirvi sicuri Siete in condizione Di attirare Sempre sicurezza Ogni volta Che cominciate A sentirvi Poco al sicuro È giunto il momento Di rafforzare Di nuovo Il vostro desiderio Di sicurezza Il sistema Del finalizzare I segmenti Può ostacolare Le reazioni spontanee Jerry Il finalizzare I segmenti Può in qualche modo Ostacolare La nostra spontaneità O la nostra capacità Di reagire A una situazione Con prontezza Di spirito Abraham Finalizzare I segmenti Ostacola La vostra capacità Di reagire A caso Ma rafforza Quella di reagire Deliberatamente La spontaneità È una cosa Meravigliosa Nella misura In cui si attira Spontaneamente Ciò che si vuole Non è altrettanto Meravigliosa Quando si attira Spontaneamente Ciò che non si vuole Non bisogna mai Sostituire La creazione Intenzionale Con una spontanea Creazione casuale Il delicato Equilibrio Tra fede E desiderio Jerry Abraham Vorrei che per un istante Ci parlaste Di ciò che avete Chiamato Il delicato Equilibrio Creativo Tra volere E attendere Abraham I due elementi Dell'equilibrio Della creazione Sono il volere E il permettere Si potrebbe anche Dire volere E aspettarsi O pensare E attendersi La cosa migliore È desiderare qualcosa E credere O aspettarsi Di ottenerlo Questo è il vertice Della creazione Se si ha un leggero desiderio Di qualcosa E si crede Di poterlo ottenere L'equilibrio È perfetto Ed esso sarà vostro Se si ha un forte desiderio Ma si dubita Di essere in condizione Di riceverne l'essenza Questa non può giungere Quanto meno Non adesso Perché prima È necessario Allineare desiderio E aspettativa Forse siete stati indotti A pensare qualcosa Che non desiderate E avendo sentito Spesso Che è successo Ad altri Credete Che possa capitare Anche a voi In questa situazione Il pensare E anche poco A una cosa indesiderata Unito all'aspettarsi Che possa accadere Vi candida A ricevere Un'esperienza Di questo tipo Più pensate A qualcosa Che volete Più la legge Dell'attrazione Vi darà segnali Che ne anticiperanno L'arrivo Finché non ne Aspetterete La manifestazione E quando Comprenderete La legge Dell'attrazione Che è facile Da comprendere Vista la sua Eterna coerenza E inizierete A dirigere Intenzionalmente I vostri pensieri Crederete Nella vostra capacità Di essere Fare O avere qualunque cosa Vogliate Quando il finalizzare I segmenti Porta all'azione Jerry Noi siamo esseri fisici E ci è stato insegnato A credere che Per avere un ritorno Economico Il nostro lavoro È importante Ma voi Non parlate Spesso dell'azione Che posto hanno Il duro lavoro E l'azione fisica Nell'equazione creativa Di cui parlate Abram Più attenzione Si presta A un'idea Attraverso il pensiero Più la legge Dell'attrazione Risponde E più il pensiero Diventa potente Attraverso la preparazione Il finalizzare I segmenti E l'immaginazione Esercitata Nel laboratorio creativo Si comincia A sentirsi Ispirati All'azione L'azione Che deriva Dall'ispirazione È un'azione Che produrrà Buoni risultati Perché si sta Permettendo Alle leggi Dell'universo Di sostenerci Se si passa All'azione Senza preparazione Intenzionale Però Spesso l'agire Si limita A essere Duro lavoro Perché state Cercando di fare Accadere In questo momento Più di quanto Possiate ottenere Col puro agire Se penserete Alla realizzazione Del vostro pensiero E poi Farete seguire Un'azione Ispirata Scoprirete Che il vostro futuro È pronto E che sta solo Aspettando voi E potrete agire Per gustare I frutti Del vostro autentico Potere creativo Invece che cercare In vano Di creare Attraverso L'azione Quando il finalizzare I segmenti Porta all'azione Jerry Noi siamo esseri fisici E ci è stato insegnato A credere che Per avere un ritorno Economico Il nostro lavoro È importante Ma voi Non parlate Spesso dell'azione Che posto hanno Il duro lavoro E l'azione fisica Nell'equazione creativa Di cui parlate Abraham Più attenzione Si presta A un'idea Attraverso il pensiero Più la legge Dell'attrazione Risponde E più il pensiero Diventa potente Attraverso la preparazione Il finalizzare i segmenti E l'immaginazione esercitata Nel laboratorio creativo Si comincia a sentirsi Ispirati all'azione L'azione che deriva Dall'ispirazione È un'azione che produrrà Buoni risultati Perché si sta permettendo Alle leggi Dell'universo Di sostenerci Se si passa All'azione Senza preparazione Intenzionale Però Spesso l'agire Si limita A essere duro lavoro Perché state Cercando di fare accadere In questo momento Più di quanto Possiate ottenere Col puro agire Se penserete Alla realizzazione Del vostro pensiero E poi Farete seguire Un'azione ispirata Scoprirete Che il vostro futuro È pronto E che sta solo Aspettando voi E potrete agire Per gustare i frutti Del Vostro autentico Potere creativo Invece che cercare In vano Di creare Attraverso l'azione Qual è la migliore Scelta d'azione? Jerry Allora Quando ci sono Molte differenti azioni Che potremmo Intraprendere Per compiere qualcosa Come possiamo Decidere All'ultimo momento Quale di queste Diverse opzioni Sarà la più efficace Per noi? Abram Immaginandovi Mentre compite Un'azione E facendo caso A come vi sentite Mentre lo fate Se avete due possibilità Visualizzatevi Mentre fate una scelta E osservate come vi sentite Quindi visualizzatevi Mentre fate la seconda scelta E di nuovo Osservatevi Il vostro stato d'animo Riguardo all'azione Da intraprendere Non vi sarà chiaro Comunque A meno che non vi siate Prima presi il tempo Per individuare I vostri obiettivi E metterli in ordine Di priorità Una volta fatto ciò Allora decidere Quale sarà l'azione Più appropriata Sarà molto facile Basterà usare Il vostro sistema Di guida emotivo Quanto bisogna Attendere La manifestazione Jerry Immaginiamo Che qualcuno In questo preciso momento Stia aspettando La manifestazione Di un suo desiderio E si ritrovi Un po' scoraggiato Perché ciò che voleva Non è Ancora arrivato Quanto si deve aspettare Prima di scorgere Segnali concreti Di successo E che cosa potrebbe Farci capire Che il nostro desiderio Si sta per realizzare Abraham Quando formulate Il desiderio Di avere qualcosa E lo attendete Con fiducia Il vostro desiderio Sta venendo da voi E voi potete Scorgerne numerosi indizi Vedrete altri Che hanno ottenuto Cose simili Il che stimolerà Ulteriormente La vostra volontà Noterete numerosi dettagli E aspetti Che lo riguardano Vi ritroverete Spesso a pensarlo Provando entusiasmo E vi sentirete Molto bene Questi e altri segnali Vi annunceranno Che il vostro desiderio Sta per avverarsi Quando comprendete Che la maggioranza Dei vostri sforzi creativi È investita Nel definire Ciò che volete E poi Nell'allineare I vostri pensieri A questo desiderio Comprenderete Che gran parte Del processo creativo Viene compiuto A livello vibrazionale Ragion per cui La vostra creazione È quasi completa Diciamo al 99% Prima ancora Di poterla vedere Fisicamente Se terrete a mente Che le emozioni Positive avvertite Riguardo alla vostra creazione Prima ancora Che si manifesti Sono la prova Del suo avvicinamento Allora sarete in grado Di muovervi In modo veloce E costante Verso i risultati Che desiderate Si può utilizzare Il finalizzare I segmenti Per co-creare Jerry Abraham Come possiamo usare Questo metodo Del finalizzare I segmenti Per raggiungere Un obiettivo Condiviso Con un'altra persona Abraham Meglio avrete svolto Il vostro lavoro Nel finalizzare I segmenti Più potenti Saranno I vostri pensieri Riguardo a ciò Che desiderate E quindi Il vostro potere D'influenza Sarà più forte Così Interagendo con gli altri Sarà più facile Per loro Cogliere lo spirito Della vostra idea Vi sarà di enorme aiuto Anche il metodo Del finalizzare I segmenti Per trarre Il meglio Dagli altri Se vi aspettate Se vi aspettate Che questi Siano di nessun aiuto O poco concentrati Questo attirerete Da loro Se invece vi aspettate Che siano brillanti E propositivi Attirerete da loro Questo spirito Se prima di incontrare Queste persone Avrete trascorso Un po' di tempo A rafforzare I vostri pensieri Vivrete un'esperienza Di co-creazione Molto più soddisfacente Per voi E per loro Come convogliare Con maggiore precisione Il proprio desiderio Jerry Ricordo che Negli anni passati Mi capitava molto spesso Di avere appuntamenti Che ritenevo Molto importanti Ma poi Dopo aver parlato Di questo e quello Alla fine pensavo Con rammarico Accidenti Avrei potuto dire E avrei dovuto dire E volevo dire Ma non l'avevo detto Per cui Quando l'interazione Era finita Anziché sentirmi soddisfatto Spesso mi sentivo frustrato Come avrei potuto evitarlo Abraham Pensando al risultato Che desideravi Prima di cominciare La conversazione Avresti ricevuto Uno slancio creativo Che ti avrebbe aiutato A veicolare Con più chiarezza Quello che desideravi dire È importante ricordare Che Combinando pensieri Idee Ed esperienze Avete il potere Di creare qualcosa Di ancora più grande Di ciò che potete creare Per conto vostro Quindi Quando si ha Un'aspettativa positiva Riguardo al contributo altrui Ci si mette In condizione Di incontrarsi Con la chiarezza Il potere E il valore Degli altri In un simile allineamento positivo Vi sentirete bene La vostra mente sarà lucida Susciterete lucidità negli altri E insieme Esperirete una magnifica co-creazione Jerry Che cosa accade Quando l'oggetto di un'interazione Può essere una questione controversa E non si vuole turbare gli altri Offerirne i sentimenti O farli arrabbiare In altre parole In altre parole Poniamo di interagire Con qualcuno Che ha desideri In contrasto Con i nostri Ma al contempo Di scorgere Che se si potesse Evitare una disputa Si potrebbero raggiungere Obiettivi positivi Per entrambi Come si può risolvere Una situazione del genere Con beneficio Di tutte le persone coinvolte A Abraham Mirando Mentre si entra Nel segmento A badare A quanto avete in comune Concentrandovi Sugli elementi In armonia Prestando scarsa attenzione A ciò Su cui non siete d'accordo E molta su ciò Su cui siete d'accordo Questa è la soluzione Di tutti i rapporti Il guaio Nella maggior parte Dei rapporti È che spesso Si scorge L'unico dettaglio Che non piace E vi si presta Quasi tutta La propria attenzione Quindi Per la legge Dell'attrazione Si sollecita Soltanto ciò Che non si vuole Si può essere ricchi Senza lavorare? Jerry Ci avete ripetuto Più volte Che possiamo avere tutto Immaginiamo Una situazione In cui una persona Desideri la ricchezza Ma non abbia voglia Di andare a lavorare O di trovarsi un lavoro Come suggerireste Di superare il dilemma? Abraham Considerando questi due Desideri separatamente Se una persona Vuole la ricchezza Ma crede Che arrivi solo Attraverso il lavoro Non può diventare ricca Perché non vuole fare La sola cosa che Ritiene Possa portarla Se però Considera la ricchezza In sé Non collegandola Al lavoro Qui si oppone Sarà in grado Di attirarla Hai toccato un punto Molto importante Si tratta dei desideri O delle credenze Conflittuali La soluzione è semplice Basta smettere di considerare L'aspetto conflittuale E concentrarsi Sull'essenza Di ciò che si vuole Se si vuole ricchezza E si crede Che essa richieda Duro lavoro E se si ha voglia Di farlo Non esiste Contraddizione E si raggiunge Il benessere economico Se si vuole ricchezza E si crede Che essa richieda Duro lavoro Ma questo lo si detesta C'è una contraddizione E non solo Si faticherà Ad agire In quella direzione Ma il lavoro svolto Non si rivelerà produttivo Se si vuole ricchezza Si pensa Di meritarsela E ci si aspetta Che arrivi Per il semplice Fatto che la si vuole Non c'è contraddizione E la ricchezza Giungerà Quando pensate Fate attenzione Al vostro stato d'animo Così potrete selezionare I pensieri contraddittori E Eliminando le contraddizioni Riguardo a ciò che desiderate Il vostro desiderio Dovrà manifestarsi La legge dell'attrazione Lo dovrà realizzare Le offerte di lavoro Non arrivano mai da sole Jerry Poniamo che Pur cercandolo E desiderandolo Per mesi e mesi Una persona Non riesca a trovare un lavoro E che Non appena riceve L'offerta Che stava cercando Le arrivino insieme Quattro o cinque Altre buone offerte Diciamo Nella stessa settimana Quale potrebbe esserne La causa? Abraham Il motivo Per cui il lavoro Ci ha messo tanto Ad arrivare È che Piuttosto che Concentrarsi Su ciò che voleva Cioè un lavoro Quella persona Era concentrata Sulla sua assenza E quindi Lo allontanava Una volta sfondato E ricevuto il lavoro Non era più concentrata Sulla sua assenza Bensì su ciò Che aveva voluto E quindi ha cominciato A riceverne Più di quanti Ne avesse cercati Nel tuo esempio Il desiderio diventava Sempre più forte Anche se la fiducia Era poca Per cui Col tempo La legge La legge dell'attrazione Ha prodotto ciò Che questa persona Sentiva con più forza Comunque la persona In questione Si è tormentata Inutilmente Avrebbe soltanto Dovuto prendersi tempo E schiarirsi Idee e pensieri Alle adozioni Seguono spesso Gravidanze Jerry E per lo stesso motivo Che Se una coppia Per anni Non è stata in grado Di generare un figlio E ne adotta uno Spesso la donna Rimane improvvisamente Incinta? Abraham Certo È la stessa cosa In questo quadro Che posto ha la competizione? Jerry Un'altra domanda Che posto ha la competizione In questo quadro complessivo? Abraham Dal nostro punto di vista In questo immenso universo In cui tutti siamo creatori Non esiste vera competizione Perché c'è un'abbondanza tale Di ogni cosa Da soddisfare tutti Siete voi A mettervi in situazioni competitive Pensando che esista Un solo premio Ma questo può generare sconforto Perché voi volete vincere Non volete certo perdere Eppure spesso La vostra attenzione È rivolta più al perdere Che al vincere Quando ci si mette In una situazione competitiva A vincere È sempre la persona Che ha le idee più chiare Riguardo a ciò che vuole E che lo aspetta più intensamente È la legge Se nella competizione C'è un'utilità Sta nel fatto Che stimola i desideri È utile rafforzare La forza di volontà? Jerry C'è un modo Per rafforzare La volontà In maniera Da ottenere in maggior misura Ciò che si vuole E in minor misura Ciò Che non si vuole Abraham Certo Lo si può fare usando Il metodo Del finalizzare i segmenti Ma non si tratta tanto Di rafforzare la volontà Quanto di pensare Pensieri Che la legge Dell'attrazione Andrà poi a incrementare Forza di volontà Significa determinazione E determinazione Significa pensare Intenzionalmente Ma tutto ciò Potrebbe far pensare Che sia richiesto Un qualche tipo Di duro lavoro Invece basta pensare A ciò che si desidera In modo coerente E durante l'intera giornata E la legge Dell'attrazione Si occuperà Di tutto il resto Perché la maggioranza Degli esseri Smette di crescere? Jerry Ho l'impressione Che la maggior parte Delle persone Nella nostra società Una volta arrivata A un'età compresa Tra i 25 E i 35 anni Abbia già raggiunto Il picco massimo In fatto di sviluppo E crescita Queste persone Hanno la casa In cui vivranno Per il resto Della loro vita E lo stesso Vale anche Per quanto riguarda Lo stile di vita Il lavoro Le opinioni E le convinzioni Politiche E religiose E perfino La varietà Delle esperienze Personali Di molti di loro Avete idea Del perché succeda questo? Abraham Non è che abbiano Già avuto Tutte le esperienze Che avranno È che non stanno Più attirando Nuove esperienze Le nuove esperienze Comportano Entusiasmo E desiderio Ma molti di loro Non formulano più Intenzionalmente I propri desideri Sono chi più chi meno Rassegnati all'esistente Prestare attenzione All'esistente Attira Solo altro esistente Ad attirare i cambiamenti È l'attenzione A ciò che si vuole Le persone Vivono una specie Di compiacimento O rassegnazione Solo perché Non comprendono Le leggi La maggior parte Delle persone Smette deliberatamente Di cercare il progresso Perché non ha capito Le leggi dell'universo Per cui emette Non intenzionalmente Pensieri Contraddittori Che portano A non ottenere Ciò che si vuole Se le aspettative Riguardo a ciò Che si può conseguire Contraddicono i desideri Su ciò che si vorrebbe conseguire Neppure il duro lavoro Produce risultati E col tempo Non fa che stancare Invece Prendere coscienza Delle leggi Dell'universo E cominciare a guidare Piano piano I pensieri Verso ciò che si preferisce Produce Risultati Immediati Jerry Ora supponiamo Che una persona In un particolare Momento della sua vita Si ritrovi in quella Che chiamerai Una spirale negativa O discendente Come potrebbe usare Il finalizzare i segmenti Per iniziare A muoversi Verso l'alto Abram Il vostro ora È potente Infatti Tutto il vostro potere È proprio qui E ora Quindi Se ci si concentra Sulla situazione In cui si è adesso E ci si ferma Un istante Per pensare A che cosa si vuole Di più In questo specifico segmento Lo si individua Con chiarezza Non si può In un solo istante Fare la cernita Di ciò che si vuole O non vuole Riguardo a ogni aspetto Della propria esistenza Ma si può Proprio adesso Definire Che cosa si preferisce Da qui in avanti Facendo questo Segmento dopo segmento Si trova una nuova lucidità E la spirale Ritorna positiva Come si può evitare L'influsso Delle vecchie opinioni E abitudini Jerry Per molti di noi Sembra particolarmente Difficile abbandonare Le vecchie idee Credenze E abitudini Vorreste darci Un consiglio Che possa aiutarci A evitare l'influsso Delle nostre esperienze E opinioni passate Abraham Il mio adesso È potente Noi non vi incoraggiamo Ad abbandonare Le vostre vecchie idee Perché Cercando di sbarazzar bene In realtà Non potreste Che pensarci Ancora di più E comunque Alcune delle vostre vecchie idee Meritano di essere mantenute Dovete soltanto essere più consapevoli Del modo in cui indirizzate I vostri pensieri E decidere che volete Sentirvi bene Oggi Non importa dove stia andando O che cosa stia facendo Il mio desiderio dominante È capire ciò che voglio vedere Nulla è più importante Del fatto Che io mi senta bene Jerry Allora se si assiste Alle disgrazie Riportate dai media O perfino Se si ascoltano I problemi di un amico Come si può impedire Che queste negatività Ci sbilancino Abraham Manifestando In ogni segmento Della propria esistenza Il desiderio Di capire Ciò che si vuole vedere Allora Anche tra gli stimoli Più negativi Si vedrà qualcosa Che si vuole vedere È giusto stabilire Anche ciò che non si vuole Jerry È giusto stabilire Anche le cose Che non si vogliono Abraham Stabilire ciò che non si vuole A volte Può portare a definire Con più precisione Ciò che si vuole Ma è meglio Distogliere in fretta La propria attenzione Dall'oggetto indesiderato E concentrarsi Su quello che si vuole Indagare sui propri Pensieri negativi Ha un'utilità Jerry Abraham Vedete una qualche utilità Nel cercare di individuare Con esattezza Il pensiero Che può aver causato Un'emozione negativa Abraham Può essere utile Per questa ragione Quando si riconosce Che si sta pensando A qualcosa di negativo La cosa più importante È smettere di pensarlo In qualunque modo possibile Se dentro di voi C'è una credenza negativa Molto potente Potrebbe continuare A emergere Con regolarità Perciò sarete Continuamente costretti A distogliere il pensiero Da questa negatività E indirizzarlo Verso altro In un caso del genere È utile Individuare il pensiero Molesto E modificarlo Alla radice Applicandovi Una nuova prospettiva In altri termini Sarebbe opportuno Modellare l'opinione In contrasto Con ciò che volete Trasformandola In una che sia In armonia A quel punto Cesserà di emergere E infastidirvi Che fare Quando gli altri Insistono Affinché guardiate Alla realtà È perché sono radicati Dove sono Come alberi Finché si guarda Solo l'esistente Non si può crescere Al di là di esso Bisogna permettersi Di guardare Ciò che si vuole vedere Se lo si vuole attrarre Prestare attenzione All'esistente Crea soltanto Altro esistente Come è possibile Avere tutto In 60 giorni Jerry Avete detto Che in 60 giorni Possiamo fare in modo Che tutti gli aspetti Della nostra vita Siano come li vogliamo Per riuscirci Come suggerite Di procedere Abraham In primo luogo Dovete riconoscere Che tutto ciò Che state vivendo adesso È il risultato Dei pensieri Che avete fatto In passato Questi pensieri Hanno letteralmente Invitato O predisposto Le situazioni Che state vivendo adesso Così Oggi Cominciando a pensare Al vostro futuro E vedendovi Come volete essere Iniziate ad allineare Quegli eventi E situazioni futuri In un modo Che vi piaccia Pensando al vostro futuro Che si tratti Dei prossimi 10 O 5 anni O dei prossimi 60 giorni Gli state letteralmente Aprendo la strada E Quando entrerete In questo futuro Che avete preparato Ed esso diventerà Il vostro presente Lo perfezionerete Dicendo Questo è quello Che voglio ora Così Tutti i pensieri Che avrete prodotto Riguardo al vostro futuro A partire da questo momento In cui state formulando Ciò che intendete fare Combaceranno L'uno con l'altro Per portarvi esattamente Ciò che ora volete vivere Si tratta dunque Semplicemente Di riconoscere Giorno per giorno Che esistono Molti segmenti E Quando entrate In un nuovo segmento Dovete fermarvi E individuare Ciò che è più importante Per voi In modo che Attraverso la legge Dell'attrazione Possiate attrarlo a voi A vostro beneficio Più pensate a qualcosa Più i vostri intenti Diventano chiari Più chiari Diventano i vostri intenti Più positive Sono le emozioni Che provate E maggiore È il potere Che attirate Così Il finalizzare i segmenti È la chiave Per una rapida E intenzionale creazione Ci è piaciuto Molto parlare Con voi Di questo Importantissimo Argomento C'è molto amore Qui che vi aspetta Ora comprendete Ora che avete compreso Per così dire Le regole di questo Meraviglioso gioco Della vita eterna A cui partecipate Siete destinati A vivere Esperienze magnifiche Perché ormai Avete il controllo creativo Della vostra Esperienza fisica Ora che comprendete La potente Legge dell'attrazione Non fraintenderete Più il modo In cui le cose Capitano a voi O ad altre persone Che state osservando Esercitandovi E diventando capaci Di dirigere I vostri pensieri Verso ciò che desiderate La vostra comprensione Della scienza Della creazione Intenzionale Vi porterà Ovunque decidiate Di andare Segmento Per segmento Aprirete la strada Alla vostra vita Inviando nel futuro Potenti pensieri Per prepararlo Per il vostro Gioioso arrivo Prestando attenzione Al vostro stato d'animo Imparerete Ad allineare I vostri pensieri Col vostro essere interiore E con chi siete veramente Diventando il permettente Che siete nati per essere Destinati a una vita Di appagamento E gioia infinita Questo confronto È stato immensamente gratificante E per ora Abbiamo finito Abraham Sugli autori Abraham Un gruppo di evoluti Maestri incorporei Cominciarono a veicolare La loro visione del mondo Attraverso Esther X All'inizio degli anni Ottanta Parlando a un livello Estremamente comprensibile Cercarono di offrire Una serie di messaggi Amorevoli Acuti Ma nel complesso Semplici Per guidare le persone Verso una chiara Connessione al proprio Benevolo essere interiore E all'elevante Presa di coscienza Del proprio io totale Entusiasti Della chiarezza E praticabilità Delle parole Trasmesse da Abraham Esther E il marito Jerry Iniziarono a rivelare La loro meravigliosa Scoperta a una manciata Di conoscenti e soci D'affari A partire dal 1986 Consapevoli Dei risultati pratici Ottenuti Sia da loro stessi Sia da altre persone Che ponevano domande Cruciali su finanze Salute E relazioni E poi Applicando con successo Alla loro situazione Le risposte di Abraham Esther E Jerry Decisero di permettere Che questi insegnamenti Diventassero accessibili A una cerchia Sempre più ampia Di persone In cerca di risposte Su come vivere Una vita Migliore Usando come base Il loro centro conferenze A San Antonio In Texas Dal 1989 Esther E Jerry Visitano circa 50 città ogni anno Presentando i loro Laboratori interattivi Sull'arte del permettere Ai precursori Che si raccolgono Per partecipare A questa innovativa Corrente di pensiero E Benché ormai Questa filosofia Del benessere Abbia ricevuto Un'attenzione mondiale Da parte di pensatori E Insegnanti All'avanguardia Che a loro volta Hanno incorporato Molti dei concetti Di Abraham Nei loro best seller Pubblicazioni Seminari E via discorrendo La prima diffusione Di questo materiale È avvenuta Tramite passaparola Nascendo come scoperta E applicazione Individuale Di questa forma Di spiritualità Alla propria esistenza Gli X Hanno ormai Pubblicato Con Abraham Più di 600 Tra libri Cassette Ed Videocassette E DVD E possono essere Contattati Attraverso Il loro sito Internet interattivo www.abrahamx.com In inglese In inglese In inglese